musica 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 perca puttana abbiamo startato adesso ahahahah siamo su drago stockba 2 dio cristo si scusate troppo 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 ahahah musica 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 Grazie a tutti. 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 Chissà chi stava... Perché o eravamo noi... Però non credo. Potrebbe essere il vecchio Arisen. Magari il primo che ha sconfitto davvero del drago qualcosa. Però non lo so. Puoi scegliere un pigiunio che usare come modello base. Oppure scegliendo quello incappucciato potrei personalizzare il tuo volto partendo da zero. Bella sta roba dall'altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, pensa che siamo tutti pedine. Ah, pensa che siamo tutti pedine. E basta un attimo, Dio Madone. Fammi ragionare con questo. Ah, I thought I recognized you. Parca puttana. È un attimo. Oh, Dio Cristo. Voi sai i dati del personaggio esistente per Kyla Risen? Sì, la nostra cara Oga. Che dall'ultima volta è stata finalizzata ed è piena di cicatrici. Ovunque. Sul braccio della lama, sul braccio dello scudo. Gliel'ho messa anche sulla spalla, sulla gamba appunto. Partirà da guerriera. E alla fine è diventata questa roba qui. Nome Oga. Età. Questo è un dettaglio della Madonna. Puoi scegliere l'età. Perché? Perché la Risen è immortale. Almeno in ambito età. Bello. Perché pensa che siamo una pedina. Però vede nel nostro sguardo umanità. Che tra l'altro bellissimo. È una prigione dove sfruttano le pedine. Perché giustamente non hanno una volontà. Ma che figata. Però vedi è questa la cosa che mi intriga a livello di storia. Hanno preso tutti quei argomenti e l'hanno sviluppato per bene. Usi come massa da lavoro pedine senza volontà. Oh. La torre dell'alba lunare. Ma perché la torre dell'alba lunare? Dio Cristo. Ormai mi è entrata quella. La torre insomma di Dragon's Dogma 1. Così. Brutalmente. Questo non è un paese per uno di voi. Però mi sembrano strane. Per essere delle pedine... Cazzo. Sono molto più umane rispetto al primo per adesso. Ma te ne ho detto è vero è Rook. Oddio Cristo è Rook. Il baffettone porno. Madonna. Che bello. Non ci avevo fatto caso. Guarda l'ho remecato. Quindi anche lui qua ci accompagnerà all'inizio magari. D'altro hanno ritrovato qualcosa. Ma che è tipo un serpente gigante? Ho visto del cazzo di ragdoll furtissimo. No. La cosa è stata awocata. Tu hai dovuto fare questo fiend, anche per il costo di tua vita! Per me fuori, ora! Assalto come sul primo Allora posso salirgli sopra Peppona Ok però bisogna riabituarsi al sistema di combattimento Perché è differente È molto differente Sì Are you on hand? You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny arisen. I can't sign it. The uncursed creature escaped. Oi, you! Get back here! This way are risen! Come this way. Let us flee. Ok, gli ha fatto capire che siamo una risen. Io sono andato. Vabbè, tanto, c'ho il plot armor. Ah, l'ha liberato dal controllo del falso arisen. Don't just stand there, but shoot it down! It's getting away! Bring it down! Go now, lost soul. Learn more than you can of this world you must pretend. E' che lui ha liberato la pedina. Ecco perché le comanda, perché giustamente riesce a controllarle. Infatti mi chiedevo perché obbedissero. E il nostro taxi è appena morto. Madonna, che belle le espressioni del protagonista. Non parla, ma cazzo. Non parla, ma cazzo. Ancora. Oi! Sei ok? Cosa è accaduto qui? Sta cazzo in bellissima, perché ti spiega che non ti devi avvicinare all'acqua. Ti fa vedere la chicca del primo. Ti fa vedere che Rook te li parla della faia. Bella. Nessuno può fare il bagno al mare? No, perché sennò vengono smangiucchiati da demoni di merda. Bella. Minchia, per adesso stanno tirando delle freccette al cuore. Ciao! Ma non mi saluta nessuno! Ma va a fa' culo! Eh, ti prende a cazzo Tony, eh. Madonna. Grafica PlayStation 3. Fatevi da in culo. Buy the curative or have a bit of green watch. Si chiama Perry! Sono comunque un cazzo di guerriero, madonna. Di nuovo? Le... Che bello, madonna. Le... No, ok. Hai le animazioni, comunque. Becca. C'ho il batticuore. Però forse l'hanno reso un pelino meno arcade. C'ha tutta una questione di gestirsi l'animazione. Perché io mentre faccio questo, o faccio cose pesanti, lo scudo ci metto un tot a rialzarlo. Hanno fatto delle cosine. Stai zitto! Raccoglie e combina materiali. C'è il crafting anche qui, quindi? Davvero? Fatemi trovare un pezzo di legno e un pezzo di ferro, così facciamo vedere il cazzo di pay to win di sto gioco, di madonna. Poi ne riparliamo. Oh, va bene, devo seguirti. Culo. Va bene, seguiamo lui. Seguiamo lui. Ma poi che bello che vado in giro, guardo, con la mano sulla lava, madonna. Per sollevarlo. Ma tu che cazzo vuoi? Quindi, quando fanno questo, posso fargli una finisher, sì? Ma che cazzo vuoi fare? Eh sì, c'è tutta una serie di robe. Cioè, se tu effettivamente non hai fuori le armi, non va diretto. Deve cacciarle fuori. Ragazzo siete. Ma sei tu che te ne sei andato qui, fratte? Ma che cazzo vuoi? Dove sei andato? Do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray. Summon your pawn. Simply paint with your mind's eye, the loyal attendant whom you would have served you. E' stato bellissimo quanto la cazzine. Il tizio tappissimo così. Senti, ma che sta succedendo? Poverino. Nostro caro, piccolo, malbettigno. Malbett chad. Voglio procedere. Yes. We pawns are travelers of not only this world, but myriad others with which we can connect. Hanno cambiato la cicatrice sulla mano delle pedine? O l'hanno reworkata? As your loyal pawn, my duty is to accompany you and use what I learn in these other realms to aid you on your journey. I shall be with you every step of the way. And I hope to put my knowledge and experiences to good use on your behalf. Questo tipo è condannato a combattere draghi, ma davvero. Allora, entriamo subito dentro a prendere un po' di pedine. Il suo compito è da trovare una persona degna di fare le cose, abbia a Dio! Giustamente, quelle di livello sopra il mio vanno pagate con la valuta pay to win. Andate a dove ne affanculo. An endeavour to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Ah, ti dice, ma toh! Ti dice come si comporterà di staccata. Niente, specializzazione, valutazione, conoscenza, missione principale, sì. Missione pedina, viaggete insieme per 24 ore. Ricompensa scheggia di cuore di drago. Ah, un'altra valuta pay to win, che è sta merda? Sì, è come se creassimo noi la quest. Adoro! Serve per incentivare le persone a volerla prendere, perché se tu metti una bella quest con una bella ricompensa, la gente, per carità, e tu dovrai droppare quella roba, però prendono la tua pedina, la tua pedina magari viaggia, fa conoscenze, impara robe e tutto quanto, e quando torna inoltre ti dà pure i cristalli della faia. È intelligente per incentivare l'andare in giro a fare le cose, no? Gilda delle classi. Porca puttana! Ma sei un ladro! Ma è inutile che fai così, che ti nascondi, dipende a testate! Mille monete! Sì, ah, ok, hanno preso le inclinazioni del primo e ci hanno creato delle personalità. Contento di sentirlo? Chi cazzo t'ha parlato? Voglio esplorare! Ah, credo mi stesso richiudendo le porte in faccia, riprendeva a craniate. Quindi, quando vedo chiacchierare delle persone, molto probabilmente hanno una quest. La risa non deve fare botte col drago, era di pace. Bello come le pedine quando stai negli accampamenti cominciano a farsi i cazzi loro. Se ne vanno in giro. Buono, bravo, cominciate ad assimulare erbe da campo, che è l'unica cosa con cui ci possiamo curare all'inizio, visto che siamo dei poveri di merda. Madonna, quanto ti puoi arrampicare, guarda che bello! Minchia ha capito, ma ogni volta c'è bisogno che vai in free fall, zia! Ogni volta diceva, vabbè tanto se devo morire, Dio Cristo, e si lascia! Che cazzo! Giustamente assalto. Oh, Madonna, ti voglio mettare, scusate! Ma vedete quella cosa che io intendo, che la gente piotta, ma piottare così a cazzo in giro, soprattutto se devi viaggiare molto, è un dito in culo, perché ti ci vuole un attimo che cominci a stancarti, e poi se stai in combattimento, prendi i cazzi. Però, vedi, gli hanno dato una valenza, e questa è la cosa che a me intriga, che se tu mi fai una roba dove io sono vulnerabile, vuol dire che fare un repost... Oh! Madonna, cuccioli! Scusate! Se fare questa cosa mi rende scoperto, però io gli faccio un cazzo di crit. Cioè, impalarlo è impalarlo, Dio Cristo. Quindi è molto figo come roba, chissà se marciscono i corpi. Lo fanno? Quindi si possono usare anche magari per attirare grifoni e compagnia? È stata di ste cose? Però adesso comunque le animazioni sono oro. Sono veramente belle. Tocca farci l'abitudine, perché sicuramente tocca farci l'abitudine, ma sono veramente tanto, tanto, tanto belle. Ah, non è lontano. Facciamo un po' di parkour e via. Che bello avere una pedina che ti spotta la roba, però. Na 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 na. Vitalità emergente. A meno che non siano libri che possono impararsi. Perché potrebbe essere. Malbette l'hanno deflagrato nel culo, Dio Cristo. Ah, ma te sei lanciato dalla montagna. Cazzo, si è quasi spezzato le tibie. Si è deflagrato le tibie, povero Cristo. Ecco perché era... Povero. Immagino che sia tutto a posto. Sono caduto, non ho fatto niente. Distruggi i ponti. Correte! Queste sono strappole, perché se tu non stavi attento a questo stronzo ti facevano cadere di sotto un po' delle merde. Ed è diventato molto, molto meno spam marino. Molto. Oh, sì, guardalo. Le mosche che gli stanno addosso. Sta a cominciare a marcire. Devo resettare il cervello, perché io, molto ottimi video, in combattimento fare questa cosa. Ma questa cosa non è il... del guerriero di Dragon's Dogma 1. Questa è una roba che ti lascia tanto scoperto. ogni attacco pesante ed è una roba che tendo a mettere in mezzo ma non devo fare. Perché il fatto è che se sei circondato dai nemici o c'hai qualcuno che ti pare il culo o appunto una buona resistenza all'abbattimento, allo stordimento, vita, quelle robe lì, o ai livelli iniziali ti sboncano male. Cioè, prima infatti i Goblin mi hanno ghenkato fortissimo sul culo. Stavano veramente suonando la rumba. Tanto che reazione avete se vi grabbo. Ah, ma posso prepararla la grab? Scusa. La posso preparare la grab? Ok! Quindi io posso fare questa roba e poi questo per grabbarlo. Ok. Sto sistema di combattimento è lì e gli alti deve essere... Non è per niente un covo. Ok. Bello che magari la prima volta lo fanno le pedine. Oddio, madonna! No! Dei hunting pack! Madonna! Questi bisogna stare attenti. Porca puttana, i lupi ho il terrore. Se i Goblin con le rocce mi fanno quella roba, se io per sbaglio cado per terra e i lupi cominciano a smangiocchiarmi, immagino di essere morto. Non ci stanno neanche tante chance. Oh! Un Hobgoblin! Il potere del Perry è con me! Con questo io ho rischiato, eh? Ma ho visto che ha tipo shottato sta porra crista. Oh! Gli ho detto eh! Purtroppo te ne devi tornare a casa tua, zia! Madonna! Oh! che bello! Le prime skill! Ah! E non l'ho presa a cazzo questa cazzo di magia ovviamente perché sono Goblin sono deboli al fuoco. Un ruscello. I ruscelli sono pericolosi perché molte volte ci sono i Sauri. Super Quark versione Dragon's Dogma con gli TV ma quindi dentro a sta roba c'è chi cazzo è stato? Ma sei stato tu brutto stronzo? Dove cazzo? Vai da solo sei un mago! Torna indietro! Va da solo! Poi la cosa che mi intriga sono la quantità di tutti questi piccoli dettagli no? rimanere magari rallentato nell'acqua mentre esplori che se stai in salita vai più lento queste sono tutte cazzatine per carità del cielo sono tutte cazzatine ma sono bellissime è tipo simulatore si è fatta proprio per metterti quel mood che adoro stavano lì che facevano di qua che bellina che robetta ma poi è bello che lei si era messa proprio qua sopra a fare qua sopra che bella Dio Cristo al volo bella sta cosa Dio Cristo ma alberto è piano cotta è cotta è cotta è cotta abbiamo il pollo io qua muoio lì no no aspetta sta cosa che è appena successo è stata clamorosa io non so se avete capito che cazzo è appena successo l'arpia mi ha strillato io mi sono stagherato ho tirato una graniata al muro e sto stannato per terra ma che cazzo vuol dire cos'è stanno anche qua le pietre del cercatore in totale ci sono 240 pietre del cercatore disseminate per queste terre io poi posso fare questo però non li stanna questo si becca madonna notta che entri nel mood che cazzo di roba 1300 monete che tanto questa zona iniziale è fatta proprio così densa apposta è così densa perché è la zona iniziale dove tu giri ci stanno i nemici quelli un po' più bassi cominci a fare le monete ti compri i primi set di armatura standard e appunto Cassardis perché molti all'inizio di Dragon's Dogma 1 fanno l'errore di andare subito in giro quando Cassardis è piena dei soldi equippe gratis e ti serve a farti anche da tutorial per il movimento c'è un boss un ciclope devo provarci madonna ok si può pergare ancora il ciclope ha fatto la telecamera me l'ha fatto vedere perché per farmi vedere come l'ha buttato per terra gli ha fatto tipo regia adoro vivi oggi combatti domani damose che bella sta roba quanto c'ho dei filz alla prima Dragon's Dogma porca troia me lo ricorderò per sempre il primo fugotto che feci in Dragon's Dogma 1 porca puttana contro una cazzo di chimera la vidi nel buio gli occhiolini mi è saltata in testa però vedi da una parte magari dagli delle personalità molto precise che poi si vanno un po' a smacchiettare è una cosa che ti permette di crearle queste cose forza più 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 difesa più 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 resistenza più 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 panana panana nanana panana nanana 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 e come comincia si comunque questo è proprio hanno preso il footage basta ma perché modellarla andiamo a mangiare vaffanculo eccolo qua come si porta via sbrigatevi perché a breve mi si sbrana una mano una mano no malbette non mi devi curare devi attaccare malbette una tortura infinita mi rimargina le ferite mentre continuano a sbranarmi dio cristo vaffanculo lupi di merda quanto io odio all'inizio questo è un cimitero eh si ah beh perché giustamente se qua aveva assaltato il drago qua è dove c'è stata tutta la gente morta ti mo arrivo malbette ho capito che t'hanno portato a spasso tutti quanti l'ho capito fai calmo mo ci andiamo avanti ma era gregory la voce me lo ricordo perché giustamente se noi non sappiamo di essere narisen il drago ci sta a fare oh tu devi diventare chi appalcore che cazzo stai a fare bella come roba ci ha fatto venire il dolore al petto per via della cicatrice ma da morire si si ma vicino a gregory io chi cazzo è questo oh ma tu guarda il petto che gli diventa tutto di fuoco che bello dio cristo che bello Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mi ognita al cuesta From this moment forth Thou art arisen in charge and all Non c'erano i sottotitoli perché è lo stesso rituale del primo che è tipo semi latino e qualche altro inciucio Quindi questa paradossalmente è come se fosse Cassardis Thank goodness How are you feeling? Ulrica Però vabbè abbiamo vissuto il momento in cui siamo diventati arisen Però la domanda è ok Lei è quella che abbiamo parlato il culo e tutto Come ci sono finito in carcere? Ah no perché quello è molto più avanti Invece Ah ok quindi effettivamente nell'intro in prima persona siamo noi Cioè siamo noi che ci siamo palesati come arisen Ci hanno avvelenato Inchiulato e tutto quanto E ci si è messo un altro al posto nostro Ok Una cosa ti do anche tante critiche per quanto riguarda le animazioni facciali Però onestamente raga a me non me ne sbatto un cazzo Come la seconda volta Ninchia quanto comunque hanno fatto proprio ispirazione Cioè questa è sì è una sorta di Cassardis Che sta attaccata dal drago Tutta che sta distrutta Metà è sana Metà no Lei è la ragazzetta che te salva In realtà quella che tu protegge e tutto quanto Mi sa che sto diventato un arisen Arisen? Sono scoperta che non comprendo il tuo significato Non c'è qualcosa che si può fare con quello che ti sei portato al castello? Ok e poi ci portarono al castello I am of the border watch Someone with arisenlike abilities Came to this village Horn in town No you all do this Has he come for you? We are to part so soon then Mayhap you will visit me again someday Till then Take care Larisen Non l'ha contata giusta Non l'ha contata giusta Vabbè che giustamente Sa Vermund regna Larisen Ce ne sta un altro Ha detto Oh ma questo che cazzo è mo? Però effettivamente C'ha le pedine che lo seguono Quindi loro dicono Eh spero c'è un problema Ce ne può essere uno Com'è possibile che ce ne stanno due? Ah Ok noi tecnicamente per loro Siamo in convalescenza Mi chiama Ma che cazzo Non ci hanno fatto? Perché ce ne può essere Solo uno per ciclo fire Ergo O accetti Il patto del drago O lo scodenni O muori Finché non succedono Una delle queste tre cose C'è sta una risa Beh si Questa è una a uno Cassardis Questa è tutta da esplorare Rubare nelle case E quant'altro Però hanno fatto bene Sta zona iniziale Perché è molto dritta Per alcuni frangenti Hanno rotto dei punti Qua e là Si sono fatti molto furbi Per gestirti Diciamo il prologo Ho paura di quando Arriveremo in città Che ci stanno tipo 200 NPC Ma dettagli Ah ma tra l'altro Urliga Sei tu che mai abbattuto il grifone Brutta stronza Cazzo era proprio questa Davvero Scendiamo piano Che se no ci spezziamo Oh guarda sta roba Quanto mi ricorda Cassardis Il tetto sbregato Cossopra la cassa Madonna Tra l'altro ragazzuoli Sul Discord Ho creato proprio Una sezione apposta Per le pedine Chiamo pedine corgianti La potete mettere Le vostre immagini I codici E tutto quanto Dietro Ogni cazzo di angolo C'è sta anciclope Una mandria Dei goblin Assassini Lei ha viaggiato da sola Che te devo portare Ah un ricostituente Va bene Ho craftato tipo mille Vuoi figa O meno figa Guarda ti do quella figa Bellina Tieni Che tra l'altro Cioè voi ragazzi Piccolo consiglio Prendete mele Patate Frutta Cazzi Va pure la carne Il pesce Fatela stagionare Quindi fate passare un po' di tempo Ne unite due Vi fanno la carne essiccata La roba essiccata in generale Che non scade mai E basta che voi mi pare Ci mettete sopra un'erba Roba essiccata Più erba Un'erbetta da campo Diventano tipo Ste pasticche Che vi ripristinano Cristo Che non scadono E' devastante E tanto si impesano niente Perché so tipo Boh Le golia Una roba del genere So bolle Le caramelle ricola Ah ok Quindi lui è uno dei maestri Probabilmente del guerriero Perché vedo lo scudo dietro Se c'è qualcosa che vuoi sapere Di vocazioni May have I can advise you Zio stai parlando con una persona Che ha fatto tutti i tutorial Tutti La metà del tutorial Quindi non rompere i coglioni Ma oh ma stiamo andando sempre a salire Con ste cazzo De taverne di merda Quello 1000 Questo 1500 Il prossimo 3000 E via No Devo prepararmi Questo è fine prologo L'ho capito Va bene Fatte una padellata dei cazzi Tu e mo arrivo Ho parlato con una signora Cazzo E mi sta a parlare dell'elfi Ok ti danno l'int Stanno tra le montagne Però non è una quest Però vedi che figata Sta cosa di chiacchierà Con le persone Per capire Magari che ne so Qualcuno gli dice A cazzo nella città Eh c'è la leggenda Che tra le montagne Del deserto C'è sta la sfinge Tu vai a controllare Magari la trovi no Tanto strano Se fosse veramente Cassardiste Ci dovrebbero essere Un pozzo Con i sauri Oh c'è il pozzo Te prego Dammene a queste Con dei sauri Oddio sì Questa è proprio Cassard Basta Non ci voglio venire Quella capitale di merda La faccio esplodere Appena ci arrivo Madonna Cominci a coltellare tutti Well that appears To have sent Some of the beasts Reeling at least To finish the job I'd have you drop A jar of poison Into their nest E grazie al cazzo Gli abbiamo fatto Terra bruciata Dio Cristo Gli abbiamo prima Sfornato tutte le case E poi ci abbiamo Buttato il veleno Mi immagino Se sbaglio A tirarla nel fiume Game over Hai avvelenato Tutto il villaggio Tutti morti Diventa il virus Di Dio Cristo Sì però Io ti direi Prendi un po' di lacca E quel ciuffo Di qua Ma sai Rufus Che lo hanno cominciato A farlo davvero Cioè mentre giriamo Vedo che spara Per l'alto Perché vuole prendere Gli uccelli Malbette Lascia perdere La porchetta No No Cazzo Madonna di Cristo Ma davvero Ma è diventato Un matto Ma che cazzo è Una roba che gli è rimasta Da Dragon Age Traumi esistenziali Pensa che la prola oscura In realtà Io l'ho detto comunque La lore del personaggio È quella È entrato in un eluvian E per sbaglio Si è ritrovato Dast'altra parte È perfetto That was an odeo Oh Chi è qua Arizen Oh Malbette Comunque tu ti sei fatto Una striscia delirium Più che altro ragazzi A me mi preoccupa Che cosa gli avete fatto vedere Voi a Malbette Perché nella prima live È detto Si che belli Fiorellini Il mondo Da quando è stato Da voi È diventato Un dinamitardo Dio Cristo Stutizia Malbette vai a fanculo E stronzo io Che t'ho messo pure Gli incantesimi Ho paura Quando diventano stregone Mi caccia le meteore Superi il culo Malbette Porca putta Namo E ho capito Ma è possibile Che tu non puoi lasciare La vegetazione La fauna E la flora Libera Namo Dio Cristo E che cazzo ogni volta E spara roba a cazzo Quando vedete Che arrivano qui 3 di xp E Malbette Che ha fatto Saltare le gambe A un coniglio Allora Finiamo sto prologo Voglio andare Tanto mi porterai di là No Se è un passo De montagna Come nel primo Come minimo C'è sta un ciclo Perché se lo sta A mangiare Minchia vai Guarda tutte le tende Ma che bello Dio Cristo Che bello Cioè mi dà Proprio le vibes Di andarmi a infilare A parlare Con tutti Cioè parlare Con la signora Che stava Spazza fuori Dalla casa Ma ha detto Che nelle montagne C'è stata La città elfica No Cioè Ste cose Sono bellissime Ma sì ma perché Proprio ti fa prendere Il tuo tempo Chaos È quello il fatto Quando entri in fight Sai che stai in fight E quindi ti devi concentrare Ma esplorare Ti prendi Il ok Come faccio Ad arrivare Là in alto Come faccio A raggiungere Quel tesoro Cosa ha visto La pedina È sicuro Che sia il drago E non sia qualcosa Dentro la montagna Che batte forte Vero Perché in Dragon's Dog Ma ci vuole Un attimo Che esce Boh che cazzo Ne so Il barrog Comunque Malbet Ormai va in prefire Direttamente Da Dragon's Juno È il caos C'è una pedina Confusa Alla giù Dice ma io qua Ci passo sempre Che cazzo È successo A sto giro Vorrei avvicinarmi Di più però All'occhio Oh proprio qua Merda E tra l'altro Questa cosa È importante Perché ti fa capire Il livello Di potenza Della Risen Cioè loro Stavano A strillare Fortissimo Perché dicono Un ciclope Cioè sbentra Quindi immaginate Una persona Che incontra Una chimera Un minotauro E compagnia Che cazzo so Ok avrei dovuto Colpire là E magari veniva Stannato Deflagrato Le Questo direttamente Da Monster Hunter Comunque Che cazzo so Che cazzo so Che cazzo so Che cazzo so Non lo sta a far uscire perché ci riconosce e non vuole far spargere la voce Vuole rimanere da solo con me Vostra maestà Perché lui sa Che siamo la Risen Ma che figo Bellissimo Però allora la voglio Anche qua la cosa Tipo del primo Cioè Gregory che te dice Sti cazzi Dei culti Regni Duchi È me E te Tu devi venire a più Il cuore Io spero che ci sia anche qua quella roba Del Sti cazzi Che sei il sovrano Non è quello importante Some days past Tu confronti The dragon In the village Of Melve Whereupon You became Arraison The people Rejoised For our True liege That finally Appeared And in Vrmon's Long years Of council Rule Yet Not all Celebrated Your Coming Your Arrival Would have Robbed The Queen Regent Deessa Of Everything During The time Of The Previous Consul She Acted As A Queen In Her Own Right Ruling The Palace As She So Fit And just after the consul's passing, when t'was all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. So, Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games. Va bene, quindi lui è alleato nostro, essenzialmente. Hai raggiunto Vern? Ben? Puh! Ben? Ma che cazzo di città di merda ho raggiunto? Ok, io ho paura a uscire. Però è bello che ti danno fin da subito le cose. Questo immagino che sia tutta una zona dove puoi far parkour. Taverna di Walter nei bassi fondi, bellissimo. Se vuoi pagare di meno. Il barbiere dove potete cambiare l'aspetto senza dover cambiare tutto. La canzone era molto più disordinata, sì, perché era prure molto più incompleta. È quello il fatto. Oh, stiamo calando. Più stiamo entrando nella piazza, più sta morendo. Corpo mio non mi entra a dire. Triple H, you can, mi chiesto a 20. Questa roba qui, ragazzi, abbassare la risoluzione non fa un cazzo. Perché appunto questo è un problema di CPU. È un problema che la grafica viene briccata. In questo momento c'è la CPU che sta tenendo per il collo la scheda video. Gli dice tu devi stare ferma un attimo perché io devo capire che cazzo sta succedendo. E la lascia ogni tanto. È tipo una missione casuale di scorta. No, no, oh, oh, no. Porca puttana. Ma proprio che ha la signora in mezzo ai coglioni. Signora, si allontani per favore. Qui è problema la situazione. Ah, perché ha attaccato la cacciagione. Ha attaccato la cacciagione, mi sa. È come nel primo. Che è sicuro. Questo si stermina, Dio Cristo. Ci vorrà un po', ma si stermina. Tu non sai con chi ti stai mettendo contro, figlio di puttana. Madonna. Dategli fuoco alle ali. Ah, vedevo Mostrail, è vero. In questo momento Malbeth è tipo, ma allora i grifoni non sono morti? Sono venuti di qua? No. Giù. Giù. Non scappare. E quindi? C'è un problema. Garold. Garold. C'è un cazzo di problema. Ma mi sta a portare al nido, davvero. Senti, senti. Io non ci voglio andare al nido. Non ci voglio andare al nido. Scendiamo giù, per favore. Moriremo come delle... Scendi giù. Non ci voglio stare qua. Scendi. Dai. Ecco il viaggio rapido, ma davvero. È richiesta fallita. Mi ha portato in Congo, sto figlio di puttana. Non è colpa mia. È caduto. È caduto. Non è caduto ancora. Garold, dato, sta reggendo tantissimo. Beh, non ti schiantare adesso, però. Quello è uno gob... Eh, sì, 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 sì. Tante che cazzo ci ne frega a noi. Ma in me me ne frega un cazzo io meno il grifone. Non lo mollo qua. Tu vai a fare il culo. Non te ne andai perché me incazzo, eh. Ehi qua. No. Non mollo. Che sta a fa? Sa usare la magia, sta merda. Ma da quando il grifone sa usare la magia? In chi ha il framerate sta dicendo Dio Cristo esploto. Il framerate... Non so che cazzo ci sta qua attorno perché non ho capito dove siamo finiti. L'ha stannato! L'ha stannato Malbert e madonna te amo! Incontro più casuale di Dragon's Dogma. Menate gli è Dio Cristo. Dai, che deve finir qua. Deve finir qua sta merda. Sta chiedendo perdono il framerate. Siamo cascati in mezzo a una zona piena di NPC. Da là ci stanno pure degli NPC che si stanno facendo i cazzi loro. Si è dato? No, si è dato. Vaffanculo. Nella madonna di Cristo. Ah, cioè, praticamente ci hanno portato verso Badal. Ah, ma sta laggiù il grifone! Boni! Corri! Sta laggiù! Eccolo, è là, è là, è là, è là. Boni, boni che la caccia continua. È diventato Monster Hunter, Dio Cristo. Guarda che si sta fottendo la mucca. Si sta fottendo. È stannato. Sta cadere. Sta cadere. È caduto. Boni, boni, boni che alla fine ce lo scopiamo fortissimo. Stasera bollo. Madonna! Ah! Ehi, un livello. Sì, ma rimane il fatto che siamo dall'altra parte della mappa. Quindi sarà un viaggio di ritorno. Per un livello. Questo è Dragon Talk Martium. Anche perché poi arrivi a un certo punto in cui li shot i grifoni. Ah, perché ha caricato contro la roccia! Eh, 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 va bene, va fanculo. Non l'ho mai incontrato lui, no? Perri! Ah, ah, suca merda! Adesso carica. Madonna, ma che bello! Sì, ma col perdi fermi. Ah, ah, zia ha rotto anche un corno! Pecca! Per terra, merda! Facciamo un bel ripostino. Malbette, sì, più fulmini! Cazzo ci frega tanto ormai. Devo stare attento quando faccio questa cosa perché se spammo continua. Però vedi la cosa che dicevano dell'esplorazione che è pregna. Cioè, se tu costantemente che vai in giro, c'è stanno nemici, cose da luttare e posti particolari e segreti e Dio Cristo. Cioè, cazzarola. Anche un mare di dungeon. Sì, sì, cioè, praticamente esplorarla a 100%. Anzi, la mappa l'hanno fatta pure in modo furbo. Panzi mi ha detto di ricercare Leon, che ha fatto una fan art. Diventato un ladro. Tra l'altro perfetto. Ah, l'hai fatta diventare una signorina. Ma aspetta. Bono. Ecco perché hai detto che hai fatto una fan art. No, io mi metto a piano. Hai fatto Nox. Hai fatto la mia Risen del primo. Madonna. Perché vedo gli occhi tipo color zaffiro, i capelli rossi. Può essere perché fan art, se no non mi viene da pensare. Dai, questa ce la portiamo. Anzi, però tu non puoi tornare a lurcare. No, non puoi tornare a lurcare dopo che fai ste cose. Vabbè, più fregna perché grazie a cacchio siamo andati avanti di tot generazioni. Per molte persone nuove, ragazzi. Perché io quando portai la prima volta Dragon's Dogma in live. Stiamo a parlare, tipo due anni fa. In live eravamo tre persone. E la protagonista che si portava dietro Oga si chiamava Nox. Ed era sto Strider tappetto con i capelli rossi. Con gli occhi da zaffiro e sti capelli che gli cadevano davanti. Quindi credo sia leva. Poi guardala che bellina. Però vedi vaffanculo. Ma vedi che io lo sapevo che sono venuto qua. Ma giustamente è mattina e quel gatto di merda sta all'accampamento invece. E questa è una cosa bella, molto. Però il bello è che ogni volta che io vado all'accampamento, non lo trovo all'accampamento. Ogni volta che vado là, non lo trovo lì. Sbaglio sempre il luogo, Dio Cristo. Bellissimo. Ma assolutamente. Eh, tu sei un distruttore però. Fuori dal ring deve cadere. Te dà anche un consiglio perché i distruttori non è che... Giustamente sono belli resistenti. Oh, colpo di pomolo. Bellissimo. Vabbè, ho usato la skill più forte del guerriero. Ci mancava che non volava sto gatto dei miei coglioni. Nel senso. No, ma infatti penso che se sei uno stregone gli puoi dire tranquillamente no. Cioè puoi letteralmente dire, zio guardami. Sono vestito con la tunica da notte. Non mi sembra il caso. Ho dato con lui che è bello. Baron mi piace un bot esteticamente. È un po' leone standard. Però è molto figo. Ecco perché non erano lirati. Perché li fa lui. Li pianta lui, chiar di luna. Non li prendete? Che cazzo l'ha appena piantati, eh? È corazzato. Oh. Vediamo se è come sul primo. Gli la puoi togliere perché non è fatta di metallo. Sannati. Per terra. Eh sì, perché non avevo la stamina. In addio, madonna dei danni. Becca. Cazzo. È una spada di merda. Potremmo rincontrarlo lì, allora. Guarda, ho un amico che è emigrato là. Che sembra di essere in necessità di un'instruzione. E ho pensato che se sto chiedendo, comunque, potrebbe essere andato a un paese nuovo. Anche se significa servire sotto le bannere. Almeno, mi sarò ancora aiutare i soldati a venire a casa. E in un po' E credo che questo è lì che partiamo. Eh? Sei bene, amico. E che il sole si riuscirà brillante su quattro ruolo. Oh, mi ha dato il suo spadone, credo. Eh, quello sarà quello che utilizzeremo quando si cambia vocazione. Parla con la bambina da sola. Ah, non era già da sola. Comunque, te si muogeva. Antti alla porta. Basta che non fai esplodare la casa. Sia fatta luce, scudo folgorante, rito funebre al paese, tormenta ululante e terra imponente. Va bene, se li trovo te li porto, cucciolina. Sia, immagino che sia Levin, il terremoto del primo, lo scudo de Malbeth. Vuole pioggia di meteoriti? C'è anche Bolas? Bene. Questa casa, quindi, mi stai a dire che quando gli do i grimori non ce stanno più. Ciao! Ah, ah, guardala che mi manda i bacini. Bellina Cassandra, Dio Cristo. Colega e mi ha tenuto compagnia per due giorni all'inizio di Dragon's Dogma. Me la ricorderò per sempre, Dio Cristo. Ah, ah, ah. Dai, che sarà ammarcito quel cazzo di grifone, quindi possiamo entrare dentro. Sicuro. E si è liberata, sì. Oh, oh. E questa sì che si collega al passo di montagna. Oh, guarda che bello il sauro che gira nel fiume, bellino. Che senti... Oh, porca puttana. Ma scusa, ma così la chimera? Ma bellissimo. Questa la conosciamo, sappiamo come affrontarla. Prima la testa della vipera. Porca, ha cacciato una mini bolide. Vaffanculo. Ma davvero? Altro che magie del cazzo come nel primo. Si vuole staccare sta testa di merda? Micchia l'avete attaccata con... Oh, il cemento di sto gioco. Vabbè che fare un cazzo di danni. Porca puttana. Lo so. Bravo, Malbeth. Micchia, Malbeth comunque è incredibile con la magia, eh. È proprio bravo. Ma in realtà la magia ho visto che l'hanno un sacco fluidificata perché entrano molto easy. Micchia, comunque la testa è il serpente e... A meno che non è diventata la punta, è diventata molto più dura. Cazzo, non si sta a staccare. Dio Cristo, ce l'abbiamo fatta. No, quelle bolide. Che cazzo è... Ma guardalo che figo. Cadi giù. Questa l'ho fatta cadere io, eh. Boni. Ai. Che cazzo è rimasta? La capra, no? Comunque adoro i danni che prendono i mostri. Le bruciature, il fatto che si fanno gli sgari addosso. È una roba bellissima, Dio Cristo. È fighissima. Oh, Boni. Luci magiche. Io sento un licce che ci sta per saltare addosso. Allora, voi innanzitutto fermi. Mani in culo. Non toccate niente. Tanti tomi magici. Ah, magari qua troviamo un tomo per la ragazzina. Anzi, sicuro. Raga, non sono nato ieri. Lì, là dentro c'è sta palesemente uno spettro mannaro o un cazzo di leech o Cristo solo sa cosa. Quindi, pronti. Ah, no. Ah, sì. Lido fune per il paese. Sì, è uno di quelli... Eh, ma questo sarà lungo. Non abbiamo magia santa. Non abbiamo roba contundente. Cazzarola. Vabbè, la vecchia maniera è davvero. Oh, l'ha tirato giù. L'ha tirato giù Nox. Bellissimo. Con la corda. Una delle mosse più sottovalutate tra con Sdogma 1. È una delle più potenti. Abbiamo compagnia? Ha evocato Minion. Oh, l'ho capito. Ma han tornato dentro a sta cazzo di roba. Ma sei un figlio di puttana. Vi paro io. Mi metto qua davanti. Voi continuate a spammare, eh? No. Minchia, ho resistito. Minchia, posso parare a sta roba? È fighissimo. È come il primo su questo. Non ci sta un cazzo da fare. Ecco qua, se hai un arciere, lui te lo fai molto più easy. Ma molto più easy. Eh, questo è il classico nemico che le prime volte te fa dannà. Perché giustamente qua, se l'avessi saputo, mi ero portato roba sacra e lo devasti. Avete dato la valuta premium? Un 300 dei cristalli. Però che belli sti scontri, cazzo. Proprio belli. Tanto te stanni con le rocce, no? Dov'è andato? Si è attaccato al soffitto. Ma che bello. Un po' di attacchi. E poi si fa il counter. Il counter, il crit. Guardala come sta sulla schiena a massacrarlo. Madonna. Ma devo capire. La bava direttamente da Monster Hunter Rise. Niente, che sono arrapati. Fendrix. Tecnicamente esiste anche la... Anner Abisso, l'altra variant. È quella che invece si arrapa, tra virgolettoni, per i maschi invece. Però quindi le prese non puoi scappargli in questo gioco. Perché non mi ha fatto nessun tutorial. E mi sembra strano. Non posso spammare. No, non puoi. Quindi ti devono salvare. Ahia, questo per le persone che giocano da soli... Greve. Però consumarti la stamina perché? Perché quando ti si consuma la stamina, effettivamente fanno la loro mossa da grab. Cioè, tipo il ciclope, quando ti finisce la stamina... Rack, te scracchia. Lui te lecca. E compagnia. Cioè, diciamo che la resistenza è solo per resistere. Uh... Ah, ok. Eh, well done. Poi mi sono cagato addosso, vaffanculo. Però adoro il fatto che ci siano queste scorciatoie. Cioè, vedete la cosa sempre, magari dici, ok, non ci sarà il fast travel della madonna, ok. Però c'hai delle cose dove tu fai risorse, fai XP, te velocizzano, e tutto quanto. Infatti che esatto, il carretto... Cioè, io me l'aspettavo, chissà che cazzo fosse. In realtà è uno dei mezzi migliori. In assoluto. Cioè, perché va tra i vari punti chiave che ci hanno poi attorno le zone. Quindi non è che devi fare chissà quale inciucio. Lì c'è un accampamento, così cambio le skill. Che tanto pure questa è una cosa che ho visto che ne hanno parlato poco, ma poter cambiare skill dove cazzo ti pare negli accampamenti non è una roba da poco, eh. È una roba molto figa. Perché magari sai che stai andando ad affrontare qualcosa, hai visto se no, che ne so, stai esplorando una zona nuova, vedi che ci stanno determinate cose e ti cambi l'asset. Oh, Beren! Allenarsi è come affilare una lama, giorno dopo giorno, anche se con l'uso diventa opaca e sai che non sarà mai più come nuova. È una battaglia in salita che combattiamo per essere pronti ad affrontare la morte. Tu devi capirlo meglio di molti altri. Ad ogni modo le scorte non bastano mai, quindi ti ho lasciato qualcosa per aiutarti nei viaggi. Ma è bello che queste frasi qua me le ha scritte anche Cassandra, eh. Cioè, la NPC del cazzo. È l'anello del vigore, che dovrebbe essere quello dell'attacco, eh. No, invece. Anello con un potere misterioso che rinvigorisce lo spirito, minore il peso trasportato di chi lo indossa, maggiore l'aumento di forza. Questo è un anello da dare al ladro. Quanti cristalli mi hanno dato? Per chi dice che rompe i coglioni dello sciop... Ah! È la madonna. Mi tente? Boh. Ragazzi, allora, stiamo calmi. Basta con gli anelli. Ah, minchia, per un attimo pensavo fosse la trasmutazione. Porca puttana, ma avete fatto pieno infarto, raga. È questa! Questa si è presa i cazzotti in bocca! Dal fabbro laggiù! Questa qui, gli ho dato un oggetto. Ho dato l'oggetto al fabbro, il fabbro dopo due minuti è uscito e ha cominciato a prenderla a cazzotti sui denti. È qualcosa di devastante. Come vi ho detto dall'ultima volta, oggi ci facciamo un gameplay da arcerozzo. E non dico che mi ha lasciato un po' con il naso storto, però l'arciere è proprio un altro mindset di modo di giocare rispetto al guerriero. Se il guerriero è la prima linea, l'arciere è quello che ti stanna le persone, ti colpisci i punti deboli, ti fa magari delle aperture, con le frecce elementali fa delle porcatine. Laggiù, eccolo. C'è sempre il grifone qua fuori, Dio Cristo. Che tanto in realtà volevo farmi portare al nido oggi, se giriamo male. Fenecia esplosiva, pezzo di merda, superi il culetto, via. Ah ah, quanto l'adoro lancerne queste cazzate. Madonna quanta XP dà il grifone. Ecco, sappiate che di questi ne avrò ammazzati tipo 6 o 7 qua fuori, ma è ogni volta, eh. Voi fate un rest, e a me spawno qua fuori sta merda. Fate, per quanto riguarda la diversificazione delle classi, a me dispiace un po' il fatto che molti hanno detto che molte classi hanno bisogno dei buff, ma secondo me molte persone non hanno neanche capito il concetto di Dragon's Dogma del fatto che tu sei un party. Cioè ok, magari sei quella persona che vuole giocare da sola, ok, ma in Dragon's Dogma tu fai parte di un party. Cioè ci sono dei ruoli. È ovvio che non tutto può aprire, e o è tutto efficace contro tutto, per dire no. Per esempio, il distruttore è una macchina da guerra che stanna come un Cristo, però se lo metti contro cose che richiedono danni veloci o precisi, già un po' vacilla. Esattamente. 4 maghi, il golem ti apre il culo. Semplice. È sconosciuto. Il salvatore. Un grazie perché t'ho riportato in vita magari? Brutta stronza? Cosa vuoi? Stavo a parlare con il nonno morto dall'altra parte. Cosa vuoi mi fa? Cosa vuoi? Adesso ti riammazzo, vieni qua, dove stai? Allora, l'idea che avevo avuto per il tizio in piazza è quello di seguirlo quando stacca. Vorrei aspettare magari lui stacca la sera, una roba del genere. Sperando che non si sponino cosi. È già andato via? Cazzo è già andato via? Pezzo di merda. Ho visto un dialogo andare di qua quindi credevo fosse lui o non era lui. Perché magari la sera se ne va da qualche parte. Perché in taverna ci sono stato parecchie volte e non l'ho visto. Forse sta nella taverna giù. Perché magari sta nella zona quella povera. Magari si va a fare una beuta. Eccolo! Eccolo! Due meno male che non si fa una domanda, non è come Madeline. Eh! Ha girato forte. Boni. io non entro là dentro. Magari esce per cazzi suoi. Oppure abita là. Che è probabile! Meno che qua dietro non ci sia un'altra uscita particolare. No! Perché ci stanno tutte le mura. Nel senso forse devo aspettare la mattina? È lui! Si è cambiato! Davvero! Aspetta, aspetta, aspetta! Lo perdiamo! Lo perdiamo! Lo perdiamo! Lo perdiamo! È qua un pezzo di merda! Dov'è? 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 Se ne sta tornando il rione dei nobili, davvero? C'è un nobile che, boh, a mattina vuole una fa, boh, cosette così. O rimane nobile perché la gente gli dà i soldi. Tenuta Baldwin? Oppure non lo so. Ah, ma perché effettivamente c'ha la doppia vita. C'ha una moglie nella zona dei poveri e una moglie nella zona dei ricchi? Una roba del genere? Possiamo darli anche a lui per dire to' cioccato. Io vado da tua moglie. Sì, ma guarda dove cazzo abita! Ma com'è possibile? La moglie? Cioè, ma piuttosto che cazzo, ma diventa un bardo e va in taverna col violino piuttosto che fa una roba del genere. Ma che cazzo vuol dire? Sperando che non la coltella. Zio, in caso fai così! Io ho paura. Guarda qui la mia coltella! Good to see you. Those garments you gave me had a marked effect. Albert set off to work the moment he saw them and he's been working steadily ere since. I never thought I'd see the day. To be frank, I've not the slightest interest in the man, but he can surely benefit this city much more by performing an honest duty than by begging on the streets. In short, you've done us all a service. Pray. Allow me to show my appreciation. Ho capito che questo era un pedinamento davvero. This outcome was unknown to me. I had not thought it possible. Unbelievable! Da voi che succedeva? Moriva sempre? Una roba del genere. Cioè sarebbe bello se lo troviamo magari al mercato che vende la roba. Io ho dato i vestiti a lui e continuavo a fare il mendicante. E se li davo alla signorina? Non mi dite che veramente lo accoltellava perché ci rimanevo male. Lo uccidevo e poi si suicida. Dio Cristo, madonna. Ma neanche a fa così. Non menate gli alt, boni. Tifone di merda. Scappa però. Vai. Ci siamo. Il viaggio è lungo però si fa. Aspetti. Aspetti. Un momento. Piano. Ezza fa rumore. E addormiti di sere e ti risvegli col sole. Non fare curve strette che è la fine qua sopra. Oh. 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 Puttana bastarda. Perché cerca di buttarmi via. Comunque bisogna abituarsi alle animazioni perché le animazioni ti fregano tantissimo. Tu pensi che stai a cadere e ripremi il tasto e molli e vai in ragdoll. Piano, piano, piano. Perché tanto riscappa raga. Tanto riscappa. Perché ho capito quando il personaggio fa questa roba mentre sta sul mostro è perché sta a pezzi disarcionato e devi grabbare perché sennò viene disarcionato. È quella la roba. Quindi tu puoi rimanerci qua sopra fino a che lei non fa cose. Palude nebbiosa. Si vede? Sono attaccato? Sono attaccato? Dimmi che sono attaccato. Sono attaccato. Sono attaccato. Sono attaccato. Sono attaccato. Sono attaccato. Brutta stronza. Sono attaccato. Nedo de... Eccolo! Uh! Sì! Finalmente vi ho raggiunto Arizan. Immaginare... Oh. Ma dove cazzo vai senza di me? Pena di grifone. L'ho visto. Lo vi... Oh, sì! Sì! Però vedete una volta che tu capisci la meccanica dello staglio attaccato come worka è una figata perché ti rende anche molto più facile il combattergli in groppa. Tu finché non fai l'animazione di caduta non è che ti devi fermare perché sta chissà quale cazzo. No, ti devi grabare. Ecco. Ce l'ho a cazzo il pietra del teletrasporto. Ah, capito. Bisogna sciopparle. Il cazzo dovete sciopparle. Che tra l'altro per chi vuole magari avere accesso c'ha i soldi soprattutto e vuole avere accesso facilmente a una pietra del teletrasporto. Ogni giorno. Ogni giorno. Questo qui la vende. Mi pare che è tipo 10k però nel senso se dovete fare delle spedizioni è una manna perché magari la comprate prima di uscire fate soldi su materiali su materiali in realtà usate la pietra e tornate e via. Ma che cazzo sgracchi pezzo di merda Becca Mi ha resettato veramente le impostazioni di fabbrica mi ha resettato Sì, ma hai fatto via un colpo Stai calmo Dio Cristo Che faceva dei rumori infatti sembrava un cazzo dei golem Bellissimo Che tanto quando faccio questa cosa lo sapete che cosa mi ricorda? Il meme di Jason Momoa dietro a Henry Cavill Che gli arriva per per assalirlo Dio Cristo Cos'è che ringhia? Porco Madonna di Cristo No, questo mi ha fatto male Ma quindi ci sta manco una cazzo di caverna qua dietro Questa è fatta proprio a trappola e basta Cioè questa tu vieni qua vedi l'accampamento e dice ah che cazzo è quella roba ti accambi e ti esplode sotto al culo Mi raccomando pure quelli esplosivi Guardiamo il lato positivo Mi ha ascoltato Lo fa sempre Sì, sì ma è attirato dalla roba esplosiva ragazzi perdonatelo Non ce l'ha fatto a trattenersi Ma sapete qual è il fatto? E neanche tu dici lo prende e lo tira come nel primo No, no lui ci fa proprio col pugnale cioè lui vuole farsi partire le dita Ecco la cosa che vi dicevo è state attenti perché vi seguono qua dentro e semenano forte non mi ha seguito non mi ha seguito eccola ve lo faccio rivedere se adesso entra quella entra pure la bambina la comincia a piacere Foni ma potete non entravi a casa mia cazzo potete farvi una badellata di cazzi vostra non ho capito dall'ultima volta non ho dormito in una taverna perché voi porca puttana Fate uno screen e mandate questa cosa a chi rompe i coglioni sul pay to win che ti devi comprare i cristalli della fire andatevene a cagare Eh ragazzo di stalker quella tipa mi seguo ovunque ma se ne vuoi andare a fanculo è molto strano You're here Ma ancora che caghi cazzo tu Dio madonna ma denunciamola alle guardie Va sotto La roba da Ha funzionato Però il ladro è bellissimo perché c'ha una quantità di crit tre post prese e compagnia che lo rende veramente tanto versatile Il mago se ne va a fanculo Mio Madonna che bella sta roba Tu la vuoi smettere o dobbiamo continuare a rompere i coglioni A me piace un botto la gita ma in realtà il fatto che si può adattare talmente tante cose perché con la corda ribalti da dei nemici fa dei grit della madonna s'arrampica veloce e tutto quanto è veramente una figata Cioè questa è una roba che fa malissimo Eh sì su quelli grossi tra l'altro puoi spammare per farli sbilanciare puoi spammare per tirare la corda e se ce la fai li staggeri Aia Emi Cosa? Che cosa ha fatto il mago è stato bellissimo Ha preso il nemico pesante e l'ha lanciato su quello più piccolo Ma Albert con questo ci facciamo a palla Davvero Becca Ok si deve essere vivo per giocarci a palla Madonna ma che bello Magliale di merda Non fate vedere questo video a Maria Sofia per favore Villaggio senza nome Ah è un villaggio Insediamento misterioso me devo preoccupare No guarda stavo qui per cagarvi sulle aie che vuole Ma questo è tipo Resident Evil E' il forastero Secondo me è una cheat Davvero Il fatto è che se tu mi dici non entrare non venire qua perché è un posto strano e tu giochi a tuo sfavore Cioè tu mi stai invogliando Qua c'è tanta frutta e vi... Madonna Minchia E poi dici perché a Batal schifano la Risen Già se stanno a morire di fame Passiamo noi e deprediamo tutti i campi Volete fare anche le patate Malbette guarda un po' di contegno l'ha avuta ha detto io non lo faccio E' sempre un RPG Sì se non è inchiotata per terra la roba va fottuta Però ma il pollo posso prenderlo Malbette il pollo che c'è Vai pollo di merda vola No scusa non volevo e mi è scappato il pallone Attenzione Aia ma qua ma questa è la roba di Dragon's Dogma 1 E soprattutto da ladro più che lagrimuccia nemmu sono sospettoso sono molto sospettoso Lui è il maestro dei ladri Ma sono potuto entrare perché c'ho la vocazione del ladro un po' alzata o perché sono un ladro o per qualcos'altro Ok quindi è semplicemente una città dei ladri bellissima come cosa Comunque io posso dire una cosa ragazzi Io comincio a capire quelli che mi urlano in privato e molte volte anche per meme del non sei blind perché io qua ci sono venuto totalmente a cazzo La capacità eccezionale si serve dai ladri usano per imparare l'ame della pira Anche la pedina principale la imparerà E impariamola che cazzo devo dire io Va bene Ok questo è semplicemente perché è sconosciuto di tutto quanto perché è un villaggio dei ladri quindi giustamente c'è se mette la gente ricercata e compagnia Lame della pira Batti i pugnali per accenderli e avvolgere in un inferno ardente così potente che chi lo usa finisce ustionato Mi sa che quella è tipo un'esplosione della madonna ed è quel tipo di fiamme infernali tipo quando butti l'olio e poi bruci secondo me è quel tipo di bruciatura Tocca fare i test ti prendo io di preoccupare ma non di là Ginevra No Rize io voglio morire Si è lanciato dalla parte sbagliata Ma tanto noi abbiamo trovato dei pantaloni Cioè pantaloni delle calze e sono pure sbroccati Mutande sexy ma veramente abbiamo trovato delle parigine con un paio di mutande Mi sorprende che tu conosca le parigine E beh ragazzi non mettiamoci a fare questo discorso però capite bene anche io ho i miei interessi e cultura esatto Rufus mi hai trovato le parole mi hai trovato le cazzo di parole Ma c'è una vita del cercatore nella fontana non ci ho fatto mai caso Mi offri il tuo aiuto che cazzo devo fare Devo sapere delle info Dovrebbe essere un dettaglio che mi interessa questo La cosa che non sto capendo sapete qual è è che ok ho chiacchierato mi hanno dato delle cose molto enigmatiche cioè tu dici ti mettono la zona per sapere delle informazioni proprio perché queste informazioni dovrebbero recarmi qua io ero già andato qua al a est ci sta il campo con la statue e cazzi e mazzi vari cioè per me bastava quello onestamente lui pianta i fiori lì probabilmente ok segui i chiari di luna eccole sì altri cosi però che bello mi intriga come questo bellina no perché loro t'hanno per scontato Rufus che tu leggi i dialoghi e che capisci perché la signora ti dice eh ti mostra la via lui era sempre spesso che mi portava sempre i fiorellini li raccoglieva li pianta quindi tu dici ok per trovarlo segui i fiori che lui pianta questa è una cosa bellissima che appunto se non sei un tipo che magari schippa i dialoghi e va avanti dritto eh se uso la pietra di trasporto lui viene con me sicuri torna con me se lo tieni in braccio si ah no cazzo è vero eh siamo dentro scusa scusa aspetta siamo dentro eh eh sono sbagliato peccato che non ha fatto cadere la pietra per terra come uno stronzo che micchia dall'alto vedi sembra che l'ho fatta apposta dall'alto bellissimo hello grandfather sembra che sto parlando mal un pisello di roccia date quello che abbiamo visto la volta scorsa che stava sul letto diciamo che dopo che ho sentito quel rumore di non morti sotto sto convento non so perché non è che mi sa molto di posto sano o è la waifu mi serve la la waifu maggiore ragazzi non mi dite questa cosa che o è a tempo e tutto quanto ho paura non voglio far morire ma ve ne andate a fare il culo voi due comunque c'è un problema di popolarità in questa città incredibile ormai il segno canon nel canale di l'HTV per le waifu o per le cose persone belle è questo io ogni volta così farò non è la voglia c'è non un bordello mica devo andarmi fuori città l'unico fatto è che esatto non so come puoi utilizzare dell'essenza di fantasma per curare le persone ma non mi farò troppe domande ma da si vattene a fanculo niente 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 ma non se mi dai un altro tomo del guaritore madonna te lo infilo in culo tutto quanto dell'amante della logistica meno male non entrate che vi menate madonna sta diventando un parto con tutti i cazzo di mpc non entrate no 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 stava già tirando la pizza alla bambina ma vera guarda che pure questi vogliono entrare dentro casa ma che è un albergo casa mia è una stanza di merda con un letto e rombo di coglioni ho tre stanze di merda con lo che sta sotto indaga su la casa della misericordia ah perché de notte scende qua sotto eh ma se ve a coppa e ve mette qua sotto e ne andate a cagare no te ne devi andare a fanculo via cazzarola medicina 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 l'infonde con roba de mostro mia smite medicina senza etichetta da confezione non fa menzione degli ingredienti un medico erudito potrebbe forse indovinare la composizione i sintomi di diversi pazienti tra quelli segnati come dimessi si notano i nomi jena e bruno a fine woman by all accounts i was in her care once myself you see i was only a little under the weather when i entered her care but then i started getting sicker and sicker till i was certain death would come from in the end i survived but methinks i was one of the lucky few so many died down there and once i saw her the abbess meeting with a strange man she handed him a large parcel all wrapped up and he gave her something small in return you'd think t'were medicine but i'd not have bought medicine from a man like that he had the look of a scoundrel about him they were whispering but i did hear one of them say aught about keeping quiet tis well suspicious eh where did they meet it was in the square in the eastern part of the common quarter and always a night as i recall però aspettate visto che sennò fra un po' diventa l'alba andiamo prima a guarda dove sta a fa' l'incontro la signorina che ho paura che diventa giorno che qua veramente c'ho quale un attimo che questi ritornano a farsi i cavoli loro occhio a non farti beccare con tutta la gente che mi insegue qua la vedo un po' difficile c'ho praticamente il punto esclamativo sopra la capoccia ah this is plenty lord phasus is like to be in your debt nicely done suppose it can't have been easy to procure this much so quickly paesus sarà un nobile di quelli la nella zona sopra se è un lord sarà nella zona dei ricchi niente da pensare quindi andiamo su se premo x mi da altri dettagli bellissima sta roba lord phasus salvatore phasus arriverà tra qualche quest quindi non devo andare a casa sua perché il mio obiettivo non era tanto parlare con lui era intrufolarmi in casa sua patrick allard sia a parte che sarà palazzo se è un lord no questi sono nobili quello è un lord perché il fatto è che mi sembra banale ok se è fatta da della roba si è sospetto ma non sono delle vere e proprie prove mi piace sta cosa però di cercare di capire le robe bello let's go col cazzo che fallisco una quest a tempo o quel che cazzo sia vai 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 dimmi ooooh minchia quanto cazzo mi ricorda la muraglia di dragon's dogma 1 c'è mi sa molto di quella zona che doveva essere in originale no quella che separava la zona ovest dall'est quanto mi piace sta cosa delle introduzioni questo magari è un luogo dove gente di batal e gente normale vive no cosa se letteralmente ragazzi l'ho visto correre mentre mi facevano una presentazione della zona ho detto vabbè stava scappando l'ho visto correre mi ha cazzo sponchillato madonna quanti perché giustamente questa è la zona tra i due paesi quindi sarà pieno dei mercanti sto tizio deve proprio morire sto tizio deve proprio morire diamo una panchina c'è pegament ha creato il rituale dell'unione vabbè insomma si è come se se riammalassero tra virgolettoni ma è semplicemente che ci vanno sotto se ne vanno in cura ripagano e tutto quanto quelli che ci hanno per spendere i dindini li accogliamo più volentieri gli altri col cazzo anzi al massimo sulle altri ci fai gli esperimenti no la migliori la miscela corri ti prego non essere morto ti prego non essere morto ti prego ti prego ti prego ti prego ingredienti a plentiful hereabouts i fear i've much to attend to what are you doing unhand me this instant many thanks for your assistance in this matter elena is being questioned as we speak suffice to say your testimony combined with the evidence you've procured have cast a great deal of suspicion upon the abbess that she isn't like to shame drufus io lo sapete che volevo fare volevo andare a controllare se l'aveva portato sotto volevo prenderla portarla nell'altra stanza e entrare non volevo fare una sorta di citazione a goblin slayer oh well tutto bene quel che finisce bene io per un attimo pensavo mi avessero arrestato eh io pensavo che mi stessero arrestando a me no no è che c'avevo le prove ma caputana che infarto mi hai pigliato io stavo andando a controllare per quello ma che cazzo me ne fregavate la signorina ragazzi sono stannato perché c'è bello che puoi caricarla no perché la stai catturando e la porti però porca puttana tu c'hai qualcosa di oh heavens above what are we to do it was you wasn't it you took the abess from us how could you do this the acts she committed were unforgivable this I cannot deny but what do you expect were before the rest of us in her absence ven barata a curare le persone non rompiti i coglioni without the abess we cannot possibly attend to all our patience without her guidance I I forgive me it was an improper thing to say in light of the lives taken so unjustly I will do what I can but I fear I cannot attend to everyone here zia ma non so se hai capito che questi probabilmente entravano con il cagotto a fischio questa la avvelenava boco il veleno del pesce palla fino a che non diventavano dei morti viventi e poi continuava sto ciclo di cioè questi probabilmente adesso arrivano si malati ma che potete gestirli in chi a se però per alcuni frangenti continuo a dirlo quanto mi da degli sprazi di gransis ogni tanto e vengono i deja vu sì ma perché ci sono degli scorci e delle conformazioni che sembrano porca puttana uguali cioè quello il fatto io cioè lo sapete che a me io in mezzo a tutte queste rovine da qualche parte trovo qualche edificio di gransis mi bianco colone no ma si abbassa il livello dell'acqua a una certa per forza non ci puoi andare se no magari quando il drago fa quel che fa si abbassa l'acqua raga ma veramente ma mi sa che qua sotto ci stanno eh sì rufus ma davvero eh non dico gransis perché se non trovo qualcosa che me lo fa capire no e non voglio neanche saperlo è palese che sotto in questo oceano c'è qualcosa cioè non vorrei che magari nel finale si toglie l'acqua perché sarebbe bello se c'è il concetto del ogni ciclo poi quello che c'era prima brrrr viene totalmente buttato giù inondato dall'acqua e tu vai sempre a salire no c'è la cosa che dico all'inizio che il drago ti smuove le montagne e compagnie perché magari terraforma mayhap tis beyond your ken but this world of ours is not the real one this world is a cycle the dragon emerges the dragon is slain and just when we think we have found peace at last the dragon appears once more it is endless endless and tiresome wouldn't you say yet such is the lot of those who reside in a false world like our the real world is not nearly so stagnant all manner of things occur there it is a far more fearsome existence than ours to be sure is there a way to travel to the real world you ask must I do all the thinking here pondering that yourself what I will say is that I believe the cycle will continue unbroken for as long as the dragon continues to be slain you doubt your ears but I speak truly I have beheld the real world with my own eyes ma tu da uno stronzo così a cazzo ti butta ste bombe perché questo per chi non sa un cazzo di dragon's dog ma lore questo praticamente ha detto tutti gli ingiugi del primo ma più che una risen potrebbe essere la pedina della risen perché pensateci comunque diventa umana vive ha visto le cose che ha visto quindi chi meglio di una pedina perché non ha la cicatrice sul petto non te lo mettono a caso senza cicatrice anche se non mi ricordo se una volta che ti dipende il cuore sparisce non me la ricordo sta cosa neanche Malbeth ne parla perché lui vuole andare oltre l'oceano per scappare dal mondo finto e stagnante questo le ha vissute davvero cioè o è un sopravvissuto magari de Cassardis lui ha visto il vero mondo se questo magari proviene post il nostro true ending del primo pezzato il ciclo capetina che si è andato a fare se i cazzi magari lui ha visto per quel breve periodo il vero mondo che appunto è libero è arrivato il trovavio come cazzo si chiama quello stronzo invece si è ripreso la roba non è un saneshell ma è magari una sorta di piccolo sostituito e che sta roba quanto mi ha fatto pensare vedete io non madonna non vedo l'ora che cominciano a darmi la cazzo di ciccia la cazzo di ciccia no eh raga per un attimo pensavo fosse il fondo del pozzo eterno perché ho visto sti cazzo di archetti mi stava prendendo un infarto dio cristo è quello che è illuminato è un cristallo della faia eh sì è un bel cristallozzone della faia però è totalmente chiuso tipo un passaggio a roba antica raga quella è una risena che mina il drago oh 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 anzi no è il talos vedete ragazzi è il talos è il talos che ha coltella con una lancia il drago lì lo attacca con i pugnali è quella statuona gigante che esce dal mare che hanno fatto vedere nel coso nei trailer qua hanno fatto proprio la fronzostuerata eh sì guardala eh guardala guardala sbiadito non so se voi la vedete sì mi sa che l'hanno canonizzato sì 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 è quella è quella è una ferita rimarginata chissà allora tu chi sei perché il fatto è che se lui ha visto il mondo libero vuol dire che ha fatto quello che ha fatto per non fare spoiler però vuol dire che lui ha fatto il true ending perché se se l'è ripreso il cuore ha visto il mondo libero perché appunto questo è stagnante perché è un parco giochi di merda che tra l'altro continuo a dirlo secondo me ci sta un botto il fatto che il cercavio non mi ricordo come si chiama non dico che non che è il seneschel ma secondo me qualcuno al posto suo che si mette a giocare mi sa di in realtà personaggio non buono cioè che vuole far continuare il ciclo che vuole vuole fare le cosettine sono sempre più convinto che non siamo in un altro universo siamo dopo dragon's dogma 1 sicuro e se il finale del primo è canonico che tu spezzi il ciclo spezzi 1 perché è proprio là la figata no tappatevi le orecchie perché se sta a vedere se sta a giocare il primo adesso se questo è veramente un sequel di dragon's dogma 1 e il finale di dragon's dogma 1 è canonico che tu uccidi il seneschel tu stesso diventi il seneschel chi è il seneschel colui che comanda tutto il mondo lui è letteralmente dio che gestisce ogni singola ia passatemi il termine del mondo che può creare la vita che la può distrugge che lui è quello che comanda è il game master ed è il finale canonico è tu che te pianti il paletto in cuore muori e quindi non ci sta più seneschel non c'è più il ciclo non ci sta più il c'è qualcuno che comanda c'è il vero libero arbitrio lui parla del io ho visto un mondo non stagnante non fermo non monotono perché monotono perché in quell'originale comanda il seneschel si ricollegherebbe bene anche al fatto che il cercavie non è il seneschel quindi chi è è uno stronzo che è venuto dopo il bordello che noi abbiamo fatto nel primo e che sta a cercare di rimetterci un tizio quella è la cosa che sto a dire cioè non si chiama seneschel se si chiama cercavie perché sarà tipo uno che è tornato magari da un piano ancora superiore e sta a dire ok noi dobbiamo rinfilare questo mondo magari nel ciclo nelle cose raga ve l'ho detto quando si comincia da chiacchierare si chiacchiera bene ma aspetta ma io ce l'ho 200.000 monete sono appena diventato povero ah i vips va là eh per avere il balcone ma scus perdona ma io posso avere il balcone di casa davanti alle mura ma qui mi entrano gli zingari in casa vista muro si ma che merda questa è la moglie dove ne ha parlato tuo marito è morto passato troppo tempo l'hanno spaccato male margit mi sa che tuo marito se l'è pregandato in culo si perché ti sta cercando di entrare in mezzo alle gambe mentre ha mandato tuo marito a morire proprio il tuo gregor invece no che bellina però amo amo tanto so anche un modo veloce per arrivarci vai 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 mi serve il taxi migliore del mondo alias il grifone eccolo l'ho sentito eccolo lì tieni cucciolone ormai sta cosa una volta che capisci la meccanica è easy proprio madonna non si vede un cazzo qua dentro e non c'è neanche la mappa giustamente ma adoro c'è gente che sta cadendo in mare io spero non il signorino vaffanculo perché è caduto in acqua però magari lo possiamo trovare in obitorio sì spero eccolo minchia sembra una citazione al signore degli anelli cazzo datemi due tre try vola di là ok c'è volato l'ho tirato l'ho tirato dove cazzo l'ho tirato però eccolo Gregor Gregor ti salvo Dio Cristo ti salvo aspetta vai oh 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 si metti 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 ce n'ho pure uno è tuo madonna di Cristo stai diciamo che sei morto e sei rigampato però sì torniamo a casa vabbè ok si è stata molto rapida questa 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 vabbè giustamente lì ha paura che continuare a rompì i coglioni hai avvelenato vero ma che ticarma Rufus è stata Margit me fa pure è ovvio che è stata lei da plenarlo brava quascuna oh questa è stata un'interazione di Cristo da me Sir Gregor è morto però sono contento che qui sia vivo è devastante sta roba è veramente tanto figa non serve soltanto a darti l'interazione perché ti fa anche capire che appunto ci stanno molteplici finali cambia classe madonna guarda che bella grande awe Malbet giustamente dice guarda io sto qua non dico niente ti fai i cazzi suoi e poi c'è l'irruzione che questa credo che sarà una roba che va utilizzata in mezzo alle combo per fare sorta a nullo e per staggerare perché immagino che è una roba che questa staggera Malbet scusa un attimo bellissimo si alza io sono tornato qui perché partiamo dalla roba molto più semplice io mi sono rivisto i dialoghi e lui ho detto viene da un altro ciclo e compagnia si ma probabilmente il vecchio che sta qua è riuscito quasi a spezzare il ciclo lui era arrivato a tanto così dallo spezzare il ciclo ma ha fallito e per punizione l'hanno messo qua ecco perché c'è quella cosa ecco perché lui parla del ho visto veramente un mondo non immobile e tutto quanto perché lui era arrivato in quel momento dove ti rifiuti di sederti sul trono e liberi dal ciclo il mondo perché quella è una cosa che molte persone non ci pensano ma stare nel ciclo in Dragon's Dogma significa che ogni tua azione non ha libero arbitrio cioè vuol dire che se tu vai fuori dal tuo percorso scena scelti fa no 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 per questo esistono cose come gli Abyssus perché gli Abyssus non vogliono che tu te ne vai lontano o che controlli che cosa c'è sotto l'acqua quindi questa è una Risen che ha fatto il percorso ha fatto quel che ha fatto al drago che spero si possa fare anche qui ha visto il vero mondo ma ha fallito a tanto così questo è il minimo perché io durante questo fine settimana mi sono messo non sapete quanto tempo a cercare di zoomare quella cazzo di torretta lì quella poi mi sono ricordato che c'è la modalità foto e ho pensato delle robe perché quella la riconoscerei tra mille quella lì è la torre dei Gran Soren dove sta quella put***a della principessa perché il ragionamento che ho fatto dopo che abbiamo scoperto cosa abbiamo visto cose la volta scorsa è quella roba lì io sono andato a ricontrollarlo per curiosità quella è esattamente uguale alla cima della Blue Moon Tower di Dragon's Dogma 1 è identica se voi andate a cercare la foto ve l'andate a rivedere sopra la cima c'è quella però perché sono convinto che quella sia Gran Soren e quella sia la Blue Moon Tower perché se voi ci pensate in Dragon's Dogma 1 ai Gran Soren tu fai una piccola mezzaluna circunnavigando tutta la costa e arrivi alla Blue Moon Tower cioè mettendo caso lì giù ci stanno i ponti che quella roba si trova tipo in sta zona qua se tu ti fai come nel primo questa roba qua così ti fai ti circunnavighi ti fai sta mezzaluna arrivi qua e sta cosa è bellissima perché se è vera spiegherebbe ancora di più la lore degli Abyssus perché gli Abyssus non fanno andare a largo perché non ti fanno andare sotto l'acqua non puoi nuotare perché se tu nuoti in acqua vedi quello che è stato spazzato via dai vecchi cicli credo che sia questa la cosa dei cicli loro a ogni fine ciclo inondano ricostruiscono sopra quindi qua sotto c'è Gransis ne so abbastanza sicuro perché ripeto quella cazzo di torre laggiù la riconoscerei tra mille esatto perché se fai overlapping le due mappe coincide quasi alla perfezione ma perché proprio la zona è perfetta qua adesso la cosa che torna è noi in quale roba siamo hanno retconato Dragon's Dogma 1 cioè il vecchietto qua dentro paradossalmente è il noi del vecchio gioco che però ha fallito o nonostante spezzi il ciclo tanto prima o poi ci ritorni dentro al garbuglio tocca vedere e questa cosa tra l'altro spiega la dismisura dell'altra torre perché tu arrivi la prima volta e l'hanno fatta apposta si stronzi la vedi vedi che è uguale alla Blue Moon Tower fai cazzo qua c'è sta un problema perché è così grossa non è che è più grossa o l'hanno cambiata è che quella non è la Blue Moon Tower è quella e ne esce gioco le palle dite l'It non blind ma vi ho fatto una ricostruzione veramente geografica architettonica di Cristo poi magari qua sotto ci entriamo mai io spero che l'acqua si ritragga momento iniziale che tra l'altro credo che questa roba non dico che non ci entrerà un cazzo con la trama però se esiste è per darti i feels è per farti capire come funziona il ciclo e compagnia perché quella magari non è Gran Soren sarà qualcos'altro che cazzo ne so è una rovina ma quella sicuro è la Blue Moon Tower perché sono andato a ricontrollare ho riscaricato Dragon's Dog ma uno sono tornato lì a piedi il percorso è perfetto la zona è perfetta quella è la punta della Blue Moon Tower quindi tutti i cerchi dell'abisso rappresentano i fondamenti dei cicli cancellati sarebbe figa come roba perché sarebbe bello che loro ogni volta che viene il ciclo spianano tutto e ricominciano sopra sarebbe molto bello e si ricollegherebbe anche a tutto il bordello che c'è in Dragon's Dog ma uno dei templi elementali bellissimo come magari l'unico che rimane in piedi è il tempio dell'acqua no? cioè la cosa che dall'acqua anche tra l'altro viene fuori l'Atlas come cazzo si chiama l'abbiamo scoperto la volta scorsa la statuona che se il drago non fa quello per cui è stato forgiato lo mazzuola dall'acqua sempre caccia fuori comunque oggi siamo col distruttore ho giocato un po' piccola macchina da guerra può caricare gli attacchi la nostra cara sperzata selvaggia che qua è molto soddisfacente c'ha proprio un rumore che tu fai bellissimo tra l'altro il distruttore c'ha uno stile di gioco che è un po' particolare perché è molto tra virgolettoni preciso se tu ti metti in mezzo e spammi a cazzo ci vuole un attimo che ti ritrovi un attimo con le pezze al culo bisogna essere molto calcolati nelle sue cose e voi che tra l'altro il distruttore ha una skill bellissima passiva che se voi fate una qualsiasi mosso attacco mentre venite attaccati oltre ad aumentare il potere di abbattimento e stordimento diventate anche più resistenti voi eh quella non l'ho mai vista ecco l'unico fatto vedete è che essendo molto lento meni come un toro però se vieni circondato ecco perché ti ci specificano il non può combattere all'infinito senza nessuno eh sto attacco in salto madonna devo imparare a utilizzarlo perry becca merda che bello il perry inoltre che t'abitui giù piano piano si fa tutto no dai che volevo finirlo con una botta tra le palle va bene però vedete cioè praticamente il distruttore fa due mosse è quella la sua cosa fa due mosse di merda e deflagra tutto che dolore madonna il cilife si è preso malbetta al volo lei chissà se questo aumenta il rapporto con la pedina madonna lei up ok ogni volta faccio queste cose immagino le persone che mi odiano ah tra l'altro mentre testavo lo spadone con una mossa ho rotto la balista sopra una torre ho tirato una pizza così forte che la sapete le baliste quelle enormi è esplosa io non spero che ricampi quella roba ti porta al dungeon pure questo non mi è mai capitato perché giustamente non sono mai andato in zone nuove becca e il distruttore è questo ragazzi è un colpo che tra l'altro mi sa che è Beren il maestro dello spadone vero albet ho capito che hai la stamina porca perché quello è lui che spamma dio cristo salve lei come sta non so se l'avete visto ma c'è del goblin dietro al capo che gli ha tirato un sasso questo ho paura bellissimo che ti pulsa col cuore non me ne ero mai accorto cuore il punto debole non cadere in acqua che vieni sciottata no non lì non lì cassa la magia e vai giù brutta merda oh come nel primo però non li uccide tutti all'istante qua meno male con i cosi per curarmi ha usato bolas pezzo di merda tanto non c'è lo stesso baghettino del primo bravi hanno fatto delle cose per renderla un po' più protetta allontanati per dio allontanati sta usando bolas la merda figlia comunque se fai le azioni giuste puoi tankarti della roba greve a bolas tra l'altro ti butta per terra e basta alberto un attimo arrivo dammi un attimo dammi un attimo immagino oca oca cadi bono 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 e che cazzo vai madonna di cristo sono vivo bono becca questa è stata bellissima dai un pixel dove dove sono non lo so ma che cazzo di scontro è stato box macchina contro il primo cristo di dio di drago bellissimo rispetto ai primi sono veramente è bellissimo è veramente bello peccato che malbetti mi ha rubato la kill perché volevo infilargli lo spadone in testa ah ok quindi il cristallo di dracolino fa il loro scaglia di drago ahhh vabbè la dragoforgiatura è così vabbè ce sta c'ha senso come cosa è un po' come dal cazzo perché è un peccato che non devi andare più a caccia dei draghi cioè devi farlo ancora perché magari costa 30 la descrizione non ho letta no avevo letto che era qualcosa di tipo cose draconiche cristallizzato di negatura draconica potenzialmente ah ok c'è proprio te lo dico no il fatto è che durante il fight non ha fatto niente per farmi dire le ha infettate no lo strillo che nel primo le shottava ma qua l'hanno bilanciato facendo che ti toglie la stamina quindi ti stanni ok c'hanno dei segni che te lo fanno capire perché una volta solo ho ucciso Malbet apposta perché ho visto che ha cominciato tipo a fa ah così fortissimo io ho detto nel dubbio me l'ho rievocata ah si sono aperte tutte le tombe ma è porco madonna questo è il mio lavoro smeshare le mamme no aspetta dai peschietti di merda madonna ci siamo scopati ginevra cioè non proprio ho visto che non hanno più la carne ma dettagli perdonate è troppo volgare boni boni ginevra si è toccata la faccia era perché sei stanca o perché ginevra non voglio farlo io te lo dico allora non mentire no non fuggire dalle due cose che è successo madonna c'ho il panico adesso perché non ve ne voglio mandare a casa malate magari stava sbadigliando dai diamogli il beneficio del dubbio Kyle tu sei il suo padrone non la posso accettare questa cosa non puoi giustificarla tu Kyle mi dispiace dirtelo c'è qualcuno che mi sta spiando è in mezzo a sto frameretta a vederlo cazzo l'ho visto corre via vaffanculo eh seguilo e assavede annato lo stronzo c'è se appena m'ha visto eh eh sentato il fatto raga è che se poppano e depoppano gli NPC io come cazzo faccio a capire se quello prima c'era e se dopo non c'era cazzarola perché mi stai seguendo questo viene dal villaggio dei ladri me l'ha detto la signorina che qualcuno mi stava da nocchiata chiedi un risarcimento rifiuta i soldi ah c'è proprio non te fermi zio io non te vorrei ammazzare te fermi no è un attimo una cosa mia signora guardia aspetti ci fermiamo dai su che c'hai un peto di vita andiamo di qua si 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 andiamocene giù un attimo al mare così che non ci vedono le persone dai dai io ce lo spreco un altro cuore di drago perché tanto li rifaccio me ne frega niente non ho lo spadone fuori magari l'ho menato troppo forte dovevano arrivare le guardie portalo in centro città vediamo vediamo perché io intuivo che c'era questa roba qui cioè che io lo menavi lui faceva no no scuso padrone padrone ma tu dove cazzo eri vabbè ma questo sicuramente verrà in realtà dal coso dei ladri però vedi qua è un peccato perché qua l'avevano ragionata molto bellina la quest no che tu dovevi vedere in mezzo a tutte le persone della città un tizio che Piao correva che si nascondeva però col fatto che costantemente desponano e desponano cristiani e tu vedi boh io ho visto sto stronzo così a cazzo mi sono girato che correva via è un cazzo di peccato boni che ti ritorna la mappa l'abbiamo già superata sì perché raga io la volta scorsa ho visto è inutile che mi punti la pistola Rufus tu non sai con chi hai a che fare sì ma io non voglio andare al castello io voglio salire sta montagna di merda anche se credo che se ferma lì c'è un accampamento questo è un gatto è nella faccia di un gatto quelle statue cioè queste statue due cononne no no che cazzo però dai che c'è la popolona io vi di questa roba la scorsa volta non mi ricordo da dove forse proprio tipo da laggiù ma sei zi ok però immagino che non siano semplici domande di merda ciao madonna guardala che bella mi segue con gli occhi sì dice che cazzo sta a fa devo scrocchiarlo male sbaglio anche solo indovinella fallici tutta la quest ah adesso non ho per niente ansia grabba le puppe no non ho paura che mi mi strocchia male poi vai proviamo a fare il primo è cambiata la musica l'enigma degli occhi della follia della saggezza della fermezza della nostalgia vabbè allora lo scelgo io allora vado di nostalgia ma una chiave al collo ma una chiave al collo l'ultima cesta è per quella hai preso l'unica ma come l'unica tempo allora so che tu pensi di avere davanti una persona che non si è vista ore e ore di live io l'ho anche montata la prima pietra del cercatore era nella zona dove le arpie mi hanno sbattuto al muro quindi è inutile che tu mi fai questo sorrisetto me la ricordo dov'è però va bene ma te la ricordi star perché ti fanno il cazzo di prompt delle pietre del cercatore io me la ricordo che ci rimasi di sasso no oh cazzo ma poi devo tornare qua però poi magari adesso non è qua è alla fine pietra dello scopritore mascona ciao come stai tutto bene allora posso dire se vede che c'è lo sguardo da matta in culo ma la adoro questa è la classica persona che ti fa venire le erezioni però de panico che ti guarda così tu fai che c'è tutto bene è inutile che mi guardi storto ti sto guardando storto io mi guarda con la cosa dell'occhio ti ha spatate sulle tette lo dico comunque tu stai continuando a fare questo sorrisetto smug ma so che cosa stai facendo prenditi il cristallo perché me lo sdoppi dai e poi tu do un bacetto perché qua semplicemente l'enigma è dargli un qualsiasi oggetto che per te ha valore quindi puoi dargli la carne marcia come dargli un telecristallo esatto è il valore che dà il play quindi questa in realtà è una cosa molto bella perché di roleplay magari tu che ne so valore dell'oggetto vai a comprare uno spadone de cristo e vai di roleplay gli dai una cosetta così che ne so un pezzo di scaglia dei cuori del drago e compagnia grazie mamma posso essere onesto non faccio fatica a vedere le mod che aggiungono cose là sotto ma andiamo avanti perché stiamo a correre? io tanto devo tornare su ma non l'ho trovata qua raga che vai in città? che vuol dire a Melv? non è per la pietra ma io pensavo fosse per i banditi oh uno di quelli con la lancia doppia che bella lost giù oh merda lui ci dà la vocazione dell'ammazzatraio come si chiama a me è scappato qua non si fa scappare però bellissimo perché è un drago corrotto e c'ha la fessura nel cuore da cui esce tutto pus non c'è il cuore è tutto pieno di bolle ma è bellissimo perché appunto è corrotto magari è stato troppo tempo un drago o qualcosa che tra l'altro qua te lo mettono apposta lui perché ho capito perché sono fatti per ammazzare i draghi perché mettono sti scudi attorno e quello scuro mi ha padato sacco di volte il culo cioè io sono stato molte volte dentro alle fiamme e non mi ha fatto niente qua roba che tra l'altro questo è pure più grosso quella skill è OP ma non faccio fatica a crederci dio scure quindi qua si sblocca la missione per prendersi sta vocazione ma quindi mi sa che qua può partire la romance con la signorina chiedi del suo stile di lotta ma vada a fanculo questo è vero scudi per proteggersi dal fuoco per andare sulla schiena magari mentre vola e tipo la seconda o terza lancia più forte del gioco buono così raga meno male che mi avete fatto tornare indietro perché io pensavo che fosse per i banditi penso sia sempre che me l'ha data perché l'ho ucciso perché se non l'ammazzi magari non te la dà o devi far qualcos'altro vabbè poi ci torneremo da Ulrica perché è palese che allora qua parte la sua quest ok grazie ragazzi mi avete fatto tornare indietro no aspettate ma mi sono ammazzato un boss che doveva ammazzare più tardi perché mi ricordo nei vari trailer nella simil moon tower che c'era il drago con l'epusto doveva ammazzarlo lì ma porca puttana ma no dai qua scappa qua dovrebbe scappare a quanto pare l'ho mazzuolato di legna ma cazzo e quindi là che ci trovo adesso un cazzo di niente borgo sacro foresta di mora degli elfi eh sì guardala che bella madonna un po' tanta nebbia milano però va bene ah beh ma è molto piccolina come zona pensavo fosse una vera e propria città alve armeria di griscia per me è un po' troppo piccolo come città villaggio elfico ma dipende come sono messi nella lore perché se se stanno estingue pure qua poco c'è da fare ah dato questo fa il potenziamento elfico ok mifir bello che c'hanno i nomi in elfico tainal vabbè non ci provo neanche a dire il suo nome ma guarda ma tanto sono scetti che c'hanno permanentemente gli elementi oh oh questo per esempio c'ha l'elemento sacro si oca sembra veramente una bestemmia però è un arco d'archer mago no ho qualcosa da regalate ho un mazzo di fiori grazie molte cominci a parlare per sette anni e immagino per imbarare l'elfico ecco perché non se lo imbaro la risa perché dice guarda non c'ho sbatti te lo dico non c'è prova nemmeno ci facciamo orare un ficchiata così vediamo anche che cosa ha fatto Malbet adesso Malbet ha la peste dragonica stermina tutti sarebbe stato bellissimo si trasforma in un drag in mezzo a Boa piazza al tuo padrone pietra del teletrasporto tanto ormai me le danno come se fossero boi panini quindi adesso tecnicamente non posso più capire vedi però la magari adesso c'erano scritte tre parole di merda perfettivamente per come sta parlando lei la frase è quella ma che bella sta roba cuore arboreo ooooh ma adoro ma che bella come roba perché giustamente ricorda un cuore perché con i vostri che ci dovete far stappare le bottiglie metti il gomito così vai a fa culo vai ma io devo capire ma è tipo una quest introduttiva per l'archer mago o boh cioè perché prendono il bersaglio se il tuo cuore ci crede no ma infatti qui secondo me su se l'archer mago dice madonna ma sei di cristo bro ma te te l'ho lanciato alla cascata raga è roba da elfi lasciammo lì ma anche perché se create gli archi affinché vadano col cuore e non con la mira non faccio fatica a credere a credere che vi state a estingue se durante le battaglie portate avanti col cuore mirate a cazzo così vai il cuore la guiderà la freccia ma che cazzo vuol dire cioè praticamente hanno preso gli elfi e il signore degli anelli e l'hanno rincoglioniti ma vogliamo smettere di parlare che un arco fa quello per cui cazzo è stato progettato ma voi che le forchette perché cazzo le utilizzate non ho capito oh mio dio questa forchetta è progettata per prendere quello che sta nel piatto no loro prima le utilizzavano per fare che cazzo ne so col cuore sempre a cazzo andavano ma che vuol dire ma a meno che non sia che per fargli fare sta prova gli danno apposta archi fatti male può essere gli danno apposta archi fatti di merda più chi lo indossa si avvicina al bersaglio maggiore l'omento da forza degli attacchi con arco è un anello fatto per la mira libera enigma degli occhi della follia della saggezza degli occhi andiamo in ordine visto che la volta scorsa sono andato a fare in culo ma mi mandi a cercare in un dungeon adoro pensavo fosse una cosa che si sbloccava dopo la quest della sfinge quella perché malbetto sorride così tanto oh che è sta cosa perché sta fra si cuccolina ma sei drogato ma poi che cosa hai fatto esplodere che non c'è un cazzo non c'è un cazzo cosa gli brudeva il grimorio ma davvero fiala sigillante allora lufus non mi dire che ho appena trovato l'oggetto che devo portare alla sfinge perché mi incazzo ok è l'oggetto che devo portare alla sfinge va bene ma che cazzo mi devo dire ma non ho capito è colpa mia cioè perché la cosa della sfinge è che qua tu ti fai tutto il dungeon trovando merda perché siamo a trovare merda lei ti dice portami la cosa più bella dentro al dungeon il dungeon è pieno di merda tu quando turni vedi quella cassa e ti fotti la roba io pensavo ci trovassi almeno qualche merda utile qua dentro cosa cosa ho ottenuto fiala con un interno sorprendente ha la strana capacità di succhiare le persone ma ci trovando il trasporto ah c'è una boccetta dove ci posso mettere dentro un NPC ma che cazzo dici ma d'oro ma che figata c'è la mela io te sta fiaschetta di merda l'enigma della follia o della saggezza della follia io ti porto Malbert non accetterà Malbert cacca che cazzo serve la fiaschetta ma posso metterci quanta gente voglio qua sopra io sto andando a DeLore le pedine coloro che mi fanno sopravvivere perché sono una merda toh ciappa perché questo mamma attacca madonna mi accoppa madonna mi accoppa madonna di Cristo mi accoppa io lo so che mi accoppa ah proprio che il personaggio la guarda proprio nelle palle degli occhi oh io voglio l'arem che cazzo vuoi tu ah ma c'aveva la variant si portavi soltanto una persona magari a me ha detto solo uno che tristezza ti fa no oh ma grazie scusa perdonami bello bello questo mi è piaciuto questo mi è piaciuto e la saggezza che c'è una piccola traduzione io mi ricordo io mi ricordo una roba che l'hanno messa apposta questa cosa del parents io mi ricordo dove cazzo era dio Cristo in una faglia di merda lo dissi forse era proprio in live o mentre stavo off abbiamo incontrato una faglia mi pare con dentro pedine con i nomi a cazzo che si chiamavano tutti parent sphinx father sphinx una roba del genere ma non mi ricordo dove cazzo è che era a melv non era a melv perché a melv no c'è quella normale forse era il villaggio di merda era la larve micchia che cazzo mi sono andato a ricordare eh mi ricordavo sta cazzata l'abbiamo visto in live ok eh se la madonna una bo più bassa mi serve ecco cazzo che ci spendo cinque ecco vai questa sphinx mother gli basterà aspetta ma ne vuole una cazzo di queste o vuole parent perché io vedo tutte mother mother father portiamo letto non si sa mai cavolo per il gisa vabbè che già devi andare a ricordare una roba del genere io mi sono beccato un grassone invece di spesso una fregna ma sperando che sia quella giusta perché mo magari di un player mi pia pizza spinge che sempre l'asse torna ciao palla beh vabbè se è bella è bella vedo della somiglianza più che altro adoro il fatto che loro hanno messo quell'attimo di attesa extra che è bellissimo perché te fa pensare cazzo ho sbagliato forse invece vuole fare tutto a posto sì però aspetta gli indovinelli erano quelli qua cazzo là dietro come cazzo non mi dite che devo accoparla per forza no se se da non ci salgo sopra vale perché sicuramente se ne va a fanculo a badallo a qualche parte ad ovest perché a est ci sta un cazzo dove si può pollagliare sta signorina quindi non ci voglio andare perché ci porta in chissà dove cazzo di posto e si è portato la cassa ma adoro però prima di andare via qua sotto c'era un buco è uno shortcut aaa era questa la via saliamo sopra ah meno male che c'ha sisma ma c'è morta madonna ma sisma l'ha deflagrato che brutta sta roba però perché tutte le persone che hanno provato ad ammazzarla minchia ma questo è proprio dove Grigori si schianta qua è proprio dove Grigori si schianta e spacca la torre ma lei se ne vada a cagare su chi è qua madonna qua c'è della lore importante lei deve rompere i coglioni deve rompere però no è cambiata no non è quella no 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 a meno che non abbiano reworkato nella sua grandezza il forte che sta la foresta infernale sa tantissimo di quel muro ad ovest però potrebbe essere tranquillamente una roba che ci hanno costruito sopra perché se sta parte giustamente stando molto più a nord ovest si è salvata dall'alluvione tutte quelle robe non vedo difficile costruirci sopra ampliare una fortezza no tanto qua è pieno di goblin come tra l'altro proprio là ci starebbe pure come zona forse è parecchio lontana però qua sempre grand soren bella nord ovest tocca vedere quanto hanno fatto la figata onestamente perché io magari tutte ste cose che sto a dire può essere che sono tutte cazzate e da una parte pure non vedo l'ora che mi dicono che sono cazzate però se sono vera pure è un bel world building è una bella idea ricostruire sopra e fartici arrivare piano piano raga ma si che è qua fortezza questa è la scalinata dove c'è stanno tutti i maghi scheletrici solo che è stata reworkata sì non è la stessa zona però la struttura generica la ricorda molto la gente di questa village sono più preciosa di me che la vita di loro per perdere sarebbe l'ultimo per me io volevo dire se se non ora è il tempo che abbiamo dormito c'è molto per la village e non 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 dormite dormite dove c'è Ulrika la regenta ha declarato che Ulrika sia apprezzata come un traiter per il Reino tutti che cercano di abitare saranno trattati in turn portate la prima di me a volte si stava in la morte di niente chiede molti potrebbero confiare non non posso dire perché ma mi credo che si ha fatto le parole a heart overseer però l'absence di un leader sarà niente ma chaos si vabbè che rottura dei due coglioni che sei però e prima rompete le palle perché no non l'avete avvistato perfetto il drago poi no perché non l'avete ammazzato ah no ma è colpa tu e mo sei traditrice e mo c'è sta più traditrice e vaffanculo trova Ulrika ha lasciato qualche nota scritta in giro vediamo andando fuori città magari c'è qualche impronta ha lasciato qualche roba in sandbox perché tanto l'uscita è per de qua perché per de qua non è che poi è uscita da qualche altra parte allora effettivamente come cazzo c'è arrivata pure se fosse a darv perché è lungo come viaggio se è andata all'avamposto però perché Anna se ne all'avamposto sappiamo che almeno non è a melv sì cioè dall'erfi no alla capitale no perché se non vai a casa di quella che va dai ladri magari o è andata dai ladri o è andata a darv però minchia il viaggio verso arv è lungo il fatto è che da arv non ci arrivi con un carretto o se ne è andata a casa mia eh lo so che infatti è quella la cosa che mi puzza io penserei più a darv se dovessi pensare a un luogo però perché farmi venire a dormire qua per poi d'asse senza darmi un modo per ritrovarla magari se ne è uscita dalla finestra oh raga qua non sto a trovare cose io me ne vado ad arv ci cerchiamo le città ci cerchiamo che cazzo devo fare a verne non c'ha senso l'altra è la cosa di ladri cioè penso qua perché magari questo è il villaggetto quello abbandonato dove ha riattaccato il drago però perché dovrebbe essere venuta qua cioè veramente perché ha attaccato il drago io ho pensato qua perché c'è sta ancora tutto quell'inciucio con i feriti con il sindaco che c'ha il cazzo girato è qui perché la trama dice così ma ho capito ma c'è qualche indizio per la città che me la fa trovare perché ho capito che lei è stata quattro a quattro e se dà ok ma mi devi dare un modo per ritrovarla no cioè proprio sparita ci arrivi come de intuito tu dici a Verne non può essere andata dai ladri non ci puoi arrivare perché devi sapere il luogo è nascosto all'accampamento non va tu vai per esclusione comunque vedete quelle due tre cazzate condotte erano vere e sai su un grifone ma guarda sarebbe la cosa più intelligente ha visto me che ho faccio dieci volte ha detto c'è proprio pure io ma al che vada mi schianto per terra oh è casa mia ma che stanno a far tradimento a tuo marito ma che cazzo vuoi è la moglie di Gregor perché c'ha le guance rosse no perché perché mi sa che è un'altra di quegli NPC che ti follow ma per finire vogliamo andarcene a far un giletto al castello madonna ma che bello noi dobbiamo entrare a casa di Dina la contadina porca puttana ma non me lo ricordavo si chiama Dina come si chiama ah Disa mi sono sbagliato eh un piccolo lapsus oh guardali che belli questi sono Arizen ok questa è la stanza di Dina e va bene ma perché Dina Disa Disa S come serpeverde porca puttana allora se io sono salito fino a qua sopra e non mi dai un cazzo mi arrabbio però eh vista del drago se tu utilizzi l'oggetto chiamato vista del drago questo dimostrerà sulla mappa la locazione delle schegge di quali tra ricorda però che col tempo esse varieranno in numero e collocazioni raccoglie tre schegge di quali tra che verranno fose va bene ok però perché sta qua c'è anche il quadrino mio amatissimo Sven posso la tua gloria essere eterna la reggente Disa secondo me se sono sbagliati a scrivere andrebbe denunciato l'artista esatto è Dina pezzenti allora andiamo a prendere la chiave e facciamo passare un po' di ore è bello che tutti continuano a chiamarmi a risen ma non hanno capito che se per sbaglio sta cosa arriva alle orecchie delle guardie a me me prendono e me schiantano in prigione la smettete di chiamarmi in pubblico a risen perché c'è un problema ah ok ma me sta a portare nel corpo dei guardie guarda quanto è piccolina vabbè che sono io che sono enorme ah ok mi ha aperto la porta su del lato ma adoro sta roba cioè qua ti danno un piccolo aiuto se ti sei fatto la quest sua perché magari dice io non so dell'armatura non posso girare ti danno la veste qua dentro adoro sta cosa è molto figa oh c'è sta una guardia ah perché c'è il cambio della guardia ma che cazzo stai di ma davvero oh fotti cose fotti fotti o è stato un caso specchio dell'anima è una moneta mantello da ammazzadraghi testa di gorgone decomposta scudo lucidato a specchio riflette i volti e i poteri funesti di rin... ah è uno scudo che puoi utilizzare contro la medusa così che possono conoscere il proprio orrore ma adoro il mantello da ammazzadraghi è giustamente tutto bruciacchiato realizzato in epoche lontane con materiale di qualità che il tempo ha solo lievemente sbiadito apparteneva a un famoso arisen ma devo intenderlo come apparteneva al nostro caro signorino del primo testa dei cavitati di una gorgone ridotta a un guscio decomposto rimane traccia dei suoi poteri più terrifici no aspetta tu puoi staccare la testa alla medusa e utilizzarla fino a che non si decompone ma adoro sei sicuro di essere tuo figlio perché stai sbagliando il suo nome è sicuro non era il mio intento di sbagliare io ho semplicemente scusato che se ho parlato la verità nessuno vorrebbe sbagliare con me ma questo non è più una preoccupazione è chiaro che siamo in giro vuoi dire che sei il vero arisen che il sovrano che attraverso nel palazzo è un pretender usare l'opportunità per rendere good your escape me la lancio dalla finestra è l'unica davvero sì ma che c'è sta scritto sulla lettera vorrei sapere lettera fatta a pezzi si intravede appena allo stemma di batalla il nome di isa saremmo io mostrato eh beh perché la lettera con cui ci hanno mandato no guarda che c'è una roba c'è un pezzo grosso chiamiamolo così io solitamente quando cambio l'armatura a malbet non è che l'ho denudo no cambio l'equipe e basta per questa volta io per un attimo l'ho denudato e mi è preso un cocolone perché malbet è pieno zeppo di cicatrici questa qua raga non è roba che gli ho messo addosso io e ho scoperto grazie a rufus e a qualcun altro di voi che sono cicatrici che vengono addosso alle pedine quando muoiono poi non so se muoiono pure nelle altre zone onestamente perché da me è morta due volte è morto malbet ma mi ha fatto prendere un cocolone povera stella mi ha fatto veramente prendere un cazzo di cocolone perché l'ho visto è pieno ma guarda che questi veramente sono accessi magari per il dlc sapete anche perché quelle sono le scritte della faglia sono le parole della faglia eccole uguali ma voi laggiù che cazzo state a fare adesso vedi ginevra che prende garold e lo lancia di sotto lunga vita al re e lo affionda fortissimo come cat content o è dlc se è cat content ripeto mi incazzo come una faina però una capretta da montagna madonna spoiler c'è un cazzo qua sopra vero dai che mi aspettavo qualche segreto qualche roba invece niente aspetta eh ti prego non mi fa morire come uno stronzo dovete stare fermi però vediamo se sta cazzata funziona acchiappa me madonna il mio attacco base è la cosa più forte qua al momento ti finirò con la mia tecnica segreta spamme di saettine di merda aspetti no aspetti 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 venite qua sotto che c'è un distruttore c'è tutto oddio aiuto commissiono un'imitazione adoro pietra delle trasbordo quindi è quella fake oh oh no aspetta ma che cazzo però ma non lo fate spawna sempre quanto porca puttana però sta andando a parlare il segmento a batal quella merda sta andando a batal quel cazzo di car perché se sta a salire qua su ma sta andando a batal nick quasi senza testa perché quasi senza testa come avvenire i traumi a dei bambini in folclore di ulanna è un folletto immagino si stacca la testa sto piccolo halfling da madonna no cazzato come una faina non ce la faccio suca goto che tattica mi sta intrigando sto cazzo di stregone però si torna sempre a quel discorso io quando faccio il parlo di sta roba non sto intendendo che è brutto però si sente che c'ha il collare è quella la cosa che mi fa fare oh peccato perché se l'avessero un attimo fatto un po' più era ancora più bello cazzo cioè se gli avessero messo un modo per avere più incantesimi che sia appunto come al posto di galvanizza lo potevi mettere in un accantesimo galvanizza perché lui c'ha quello per recuperare la salute gli metti anche quello per recuperare la stamina gli mettevi il sfoglia il grimorio visto che i grimori sono una roba molto presente se prendo io carold niente danni da caduta ma io tra l'altro ho zero livelli in ambito magia è quella la cosa che a me mi stanna io non so un mago e faccio sti danni ah tanto ma hai detto che qua c'era un boss oh oh ma sei bellissimo aspetta tu mi sciotti però buono 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 non è un'armatura rianimata è tipo uno scheletro me coglioni è quello ragazzi vabbè diciamo che tra la luce sacra io sotto e gli altri due che spaccano tutto è stato bellissimo che stava con lo spadone e con lo scudo vediamo se fanno quella cosa che vi ho detto che si mettono a dormire che è una roba che ho adorato dopo che tu mangi se aspetti un tot si mettono proprio a ronficchiare i cucciolini eccoli quando stanno così è perché sono stanchissimi sperando che non ci vogliono sette anni in vita vera guardali tra l'altro ginefremma bella da vicini madonna che bellini guardali guardali madonna che cucciolini tutti e due Garold avvicinati pure tu che fate una mucchiata di notte ah Garold si è messo a dormire guardalo oh cucciolino eccolo lì sembra che si è schiantato per terra è una citazione a yanko guardalo ci manca la buca sotto zio cristo aaaah va bene bellina questa cosa la adoro ma perché dovrei voler spingere questa roba giù venite a darmi una mano oh madonna ginevra spingi più forte oh venite a dare una mano eh Malbet è andato a rubare il drop Garold tu che sei il guerriero aiutale signore qui porca puttana non ti faccio vedere come si è sposta daffanculo non si è spostato è un altro modo guarda che questa è una cosa che non è neanche da scherzarci star è vero eh probabilmente e questa io vorrei anche entrare un attimo sotto le cose che effettivamente le pedine piano piano cominciano ad entrare in sincronie col fatto che voi lo evocate Malbet è anche per quello che magari vanno molto a braccetto uh 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 ah ah andiamo ha fatto gli ha fatto male gli ha fatto male gli ha fatto molto male gli ha fatto tremendamente male se tu fai la combo tra il bagliore prima metti la bufera gli metti dentro il bagliore stop lo sapevo lo sapevo ma si ne va più sui compiti boom sul muro la schiantata la torra caputana gnomi bastardi guarda che stava pure là in mezzo ma come cazzo hai fatto a cadere la dumurtacci tua ah se te l'hai trasportato su boni ti giri un attimo e muoio ma davvero no no fermi dio cristo fermi madonna di cristo appena li avvicino una cazza di scogliere la fine ma che cazzo è violenza domestica qua ma ci sta proprio la roba greve che stanno con le guardie che abusano tutti ma ho capito i've not forgotten what you did helping me save my brother would that i could return the favor but we've a bit of a situation here if you hadn't noticed our weapons are being kept in yon's storeroom with those cowards stationed in and around it day and night say mayhap we could distract them then someone could slip in and are you mad we're simple villagers no match for trained soldiers but I suppose someone's got to act tanto questa è una sorta di seconda parte della quest loro che comunque nonostante so' piccolini c'hanno il coraggio no che sto cominciando a pesare come una porchetta I'd wager we stand a fighting chance now the time has come to leave this village behind allora sta per parti un bordello cristo madonna guardali che bello che lottano tutti have courage ah si arrendono ok guarda quanta gente c'era si stanno 18 miglia c'è stanno tutti le mpc di melve stanno qua però vedi anche con la cosa che mo non vanno più a melve veramente questa è Cassardis quanto ricorda si il ponticciolo del primo ma perché è questa qua Cassardis di sto gioco è una cosa strana è una cosa strana che non conosco come vaste il cielo è stato fino a che mi ha lasciato meld behind time e di nuovo hai venuto a mio aiutare che potrei ripartare te in qualche modo almeno c'è poco che mi ha bisogno di offrire yet if your heart air aches for a place to call home then may this village no not the village if air you're in need of a hearth to return to then let it be mine tanto c'è anche un cambio di look non è che c'è un cambio di look è che stava ancora con il look della cutscene ma porca madonna questo è il regalo del vecchio signore il mio dono per te è il duno della verità credo sia il vecchio verrà il tempo in cui dovrai raggiungere la fine del mondo come lo so l'ho visto questi miei occhi possono scrutare il futuro così come il passato quindi ricorda le mie parole e sarei felice che ti abbia avvertito ce ne andiamo su te proprio di questo ha maggior ragione belle cose facciamo ora un ficchiadino tattica così vediamo se malbet è andato da qualche parte e si va a quest'area si va a quest'area basta darmi raga vi si ama perché se l'ho messa nei preferiti è qualcuno di voi basta darmi cristalli del teletrasporto ah è un tale cristallo è uno di quelli fake che ti ha dato la forza di farmare libri ho aumentato l'amicizia con quello che ti fa la roba fake lui ti dà come regalo il tale cristallo per questo lo conosco che bello infatti c'è pure una descrizione unica il centro è cavo e pieno di una specie di liquido adoro posso entrare? ah boh ho capito Brent praticamente è in cheat mi ha fatto entrare ovunque sì ma dove sta il magistrato dio madonna ma vaffanculo ma era veramente era la prima cella di merda dio cristo oh da vicino ma posso aprire basta qua non si incazzano come delle faine questi perché magari questi sono tutti a comandi di Brent per quanto ne sappiamo ti chiedo fuori la cioola mostri la cicatrice they say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw by that mark to'itse'm tis true this reminds me of a happening 148 years ago during the reign of Regent Alphonse a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen he went before the people insisting that he and not Regent Alphonse was the true arisen the one fit to lead them as their ruler and what befell him you ask ha Crusoe was discovered to be a liar whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot I I dare say your arrival portends another beheading but whose will it be comunque si gli abbiamo letteralmente flashato le popponse ma tu perché stai qua sotto esortalo a smettere di parlare esortalo a scappare e dirà no perché io sono un magistrato escape but why here I spend my days perusing the code and deciphering old texts I can devote all my time to my own interests and I need not turn my ear to Deezer's absurd demands to the paradise to me this cell that said if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into I might rethink the matter tell me does that ring any bell quindi questa è una catena di quest praticamente cioè tu per avere i libri da dare agli altri stronzi devi fare la sua quest però per fare la sua quest prima devi trovare un luogo che è quello sotto la casa della misericordia però per farlo andare lì devi mandare a fanculo una signorina ma che cazzo di bordello sotto la casa della misericordia siediti tu non seguile me eh si parla un attimo in cinese stai calmo cazzo te alzi e lo so che devo portarlo fuori ma se esco dalla cella con una persona in spalla le guardie mi attaccano credo perché immagino che la via sia laggiù perché c'era palesemente un buco no cioè classica prigione di gran sovrne che c'hanno i buchi per far scappare le persone no comunque Brant potresti anche un attimo dirmelo se le guardie sono state comprate o meno ah siamo sbucati nei bassi fondi era quella cosa che vedi tipo una quarta life una roba del genere eh si è quella roba lì fine timing fine timing fine timing indeed vedo che la rottura dei marroni del no ma io sto benissimo in cella se è subito sbiadita ma tu me stai veramente a fatto una palazzo a casa de satana per l'occhiali letteralmente cioè capisco è la persona che li porta capisco però cazzo va bene però la vera domanda è lui mi ha schifato non gli posso entrare in casa strano ripeto se devo scegliere i libri magici sono più tentato di darli alla bambina che darli a lui perché lui da quel coca vita è uno stregone stregone a bambina deve imparare davvero poi che magari casta pioggia dei meteoriti sopra la casa della nonna è un altro paio di mani c'è non te posso entrare dal balcone non la prende bene e beh giustamente ah lì ci stanno tanti libri magici preamboli torre del chiaro di luna celata nasconde l'esistenza della torre del chiaro di luna la gente è stata un'insulsa decisione da stolti giacché sui piedi giacciono le prove di una civiltà che sorgeva qui prima della nostra i segreti delle nostre origini rimangono celati dentro quelle rovine ci basterebbe immergerci nelle loro sacre profondità per risumare una storia mai scritta e ho giurato di farlo e non farò ritorno dall'abisso finché non ho scoperto la verità ma la vera domanda è questa torre del chiaro di luna celata è quella grossa con la puzzetta davanti o quell'altra? uno dei libri della quest ah quella dell'intro che magari quella sarà pure più recente rispetto alla torre dell'alba lunare nostra anzi sicuro tanto lui c'ha la tunica da stregone di dragon's dakuma 1 allora io ripeto a lui gli do quelli fake lì proprio che insegna un incantesimo straordinario riservato agli stregoni mi userò per imparare vortice anche la pedina principale lo imparerà allora aspetta però lui mi ha dato una roba particolare veste di ares morfo in tessuto lucente e tinta con le scaglie di ali di farfalla che si dice in magazzino energie magiche fammi vedere sta roba ecco vabbè questo è per stare con le che tra l'altro è pure sbruccato sto coso è pure sbruccato cioè non posso far andare mal bet con il capezzolame di fuori perdona è della stessa zona del cappello ah c'è ok c'è praticamente questo è il set da strega sexy è un set unisexy sì sì ma ci sta come cosa anzi è anche affascinante immagino che se lo metti alla signorina è ancora più bello avevo messo un coso da bambina sperando che la nonna sia morta che l'ho restata tre volte la nonna se ne va sopra il picco con il ciclope ogni volta questa qua voi non avete idea di quante volte la trovo morta non avete idea allora andiamo dalla bambina anche so il terrore spero di non dovergli infilare la lama tra capo e collo ma lo scopriremo a breve zia io te do quelli veri fatti chiari amicizia lunga non voglio orde de zombie palle de foco esplosioni atomiche non voglio vedere tua nonna a pezzi per la casa quindi me sto affidando ce l'ho purtroppo va bene parziale sta bambina non dirà cerca anche gli altri spero de no effettua la consegna sì o questa diventa tipo alister che tu ci fai mesi e mesi e poi gli dici una cosa e diventa un ubriacone gli posso dare soltanto tre libri o vuole tutta la collezione di solomon domanda qual è anche l'anello del re dragone del primo già che ci siamo no te ne porterò altri solomon purtroppo e solomon sia tanto lo so che qua ci sarà la radura spianata non c'è più niente qua dentro quando torniamo però aspetta 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 giaffar tarocco non li sgama ma aspetta non è che li sgama è che li legge e magari non sente la risonanza non magnetica però avete capito cioè spero che fosse tipo guarda io ho provato a imparare magia ma magari non so dotata cioè ci rimane male perché immagino lei perché mai da di fake pezzo di merda ciao pala Chissà chi è il padre Anello che brilla di una luce delicata Dimostra l'amicizia di chi lo indossa con Trisha La figlia di uno stregone famoso Ma ne è il signorino Quello o stregone Perché è bello che se magari tu ce l'hai addosso Lo riconosce no Quindi c'hai il dialogo unico Sarebbe bellissimo se fosse un anello che annulla la magia Cioè sarebbe bello se in realtà lei magari è portatissima Ma gli ha dato sto anello Per non fargli fa esplodere cose Però perché non vuole che la figlia impara la magia Perché magari invece è veramente portata Mi devo preoccupare A breve qua dietro ci trovo tipo Veramente Death Stranding in cratere Cazzata come una faina guardala E sta cazzando pioggia di meteoriti Ma devo ammazzarla per forza No dai che magari si è stanca No non un'altra volta Minchia ma questa è me coglioni eh Guarda che si tippa in giro Eccola Io però mi incazzo Perché perché una bambina di merda Potentissima Ci avrà gli spell in culo Figlia dell'eroe Perché una bambina di merda però Può usare questo cazzo di teleport Perché può utilizzare Una cazzo di schivata magica Perché non l'avete messa agli stregoni E ai maghi perché mi devo incazzare Perché ce l'avete fatta sta cosa Magari che non ti puoi teletrasportare A comando così bene Con il cosetto Ma che magari fai Puff 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 in giro Perché no Mid incantesimo Se io premo il tasto del salto Porca troia mi teletrasporto di un po' A fanculo Non è plot armor qui E che mi devo incazzare Due giorni andiamo a rispettare È morto il nonno nel mentre C'è il corpo del nonno Qua attorno Perché ho visto qualcuno Che prima si è preso una pioggia Mettere di sul culo Però bello Bello che parlino del fatto Del suo potenziale Del vero potere Una roba del genere Ci sta anche in Dragon's Dogmo Online Cioè questo infatti È molto Dragon's Dogmo Online Perché in Dragon's Dogmo Online Faceva puff 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 Cioè ovviamente Non una cosa che puoi spammare Perché semplicemente Per bilanciarlo Fai che ti consuma tanta stamina Perché io già sto incantando Magari lo sto velocizzando E tutto quanto Altra stamina Che se ne va appunto Creavi ancora di più Quel gioco di stamina Che hanno le vocazioni magiche Che potenziale Gran disse T'was perché Magica within me È numeri volte Che più grande Che è in altri People She's going to teach me How to control My magica So it won't happen Again I can hardly wait Oh That reminds me Keep this a secret From Gran But when my magic Was all out of control I learnt A sort of Technique I'll need to study Hard if I'm to try it Without exploding Again Bello come lei sia diventata uno stregone Invece i due nonni erano maghi Si immagino che quella da mago me la dà la nonna Rufus ma se vedeva perché Ho detto se loro due mi danno quelle da stregoni Chi cazzo me la dà quella da mago La nonna Scusa per imparare pioggia di meteore Anche la video principale lo imparerà Malbeth è appena diventato sbroccato C'è stata dietro la sorella che Sta facendo una limonata Non consensuale con un orco Aspetta 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 questo è il piano Ma zio ma che cazzo stai a dire Allora Oh cazzo mi è caduta la signora Mo tornamo eh Un attimo Becca Non sta ad andare via la signora No Mia Mia signorina No mi è ricaduta Aspetta aspetta No la roccia La signora Va bene meglio che ha fiato a me Meglio che ha fiato a me Come durante la destra Mendoga Respira Piano Mazzatelo voi Porco È viva È viva È viva Meno Credo Vedo che c'aveva lo stun Madonna Narto telecristà Ma basta We have always lived in harmony with nature And the arbor heart is our connection to the land Yet day by day her strength is failing Adoro il suo doppiaggio Lei è veramente tanto tanto brava nel doppiaggio Perché c'ha quel Non sa la lingua Quindi c'ha quei momenti che fa Em Che cerca di trovare la parola Che c'ha Anche un po' che parla Molto in modo legnoso Adoro È molto molto figa come cosa Vabbè Nammar ballo Deduco che non c'è posso Annacco spadone Però Corpellicciotto Magari sì Quando stramerda lo fanno Sto cazzo di ballo di merda Porca puttana Ma mettete un orologio Sto cazzo di coso Madonna Madonna Io metto una bomba magica Vi faccio scoprire a tutti Ma come Loro ce l'hanno l'abidi o no Sono arrivato pure tardi Bene Va bene Tu sei uno di quelli Che mi ha buttato Della batalla E tu sarai il primo Che sgozzo Qualcuno dei particolari Non è che lo sto Proprio vedendo Ma perché devo Semplicemente andare nel retro Brutalmente Non sta qua in mezzo Eh Stavendo stare Sovrano del cazzo Venuto al ballo Per giocare Nascondino Ma davvero Che il fatto è che Me l'hanno fatto Pure vedere E' quella la roba Bello I will summon you if aught is amiss And what business have you here in the noble's playground? You've the face of someone in search of a juicy morsel Would you be looking for? This, perchance Come on then, keep pouring Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment Of course, your majesty Tell us, your majesty, would you prefer more drink Or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye, let's change things up I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check Lest you forget, these celebrations of your valour Are but a pretense for more serious matters? I know, I do, it's just I get the poison in me and things happen is all You need only serve as our false king until Sven becomes consul Till then, however You would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity I trust you understand your position, your majesty Nay, I mean I As you say, I'll go and sober up Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall And we now find ourselves quite alone What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another? Lord Faizus That will do If you're discovered, yours won't be the only head that rolls What is your purpose here? I wonder If you came to learn of the Sovereign Then tis as you have seen The man is not water Ale, swilling, pretender, propped up by the Queen Regent Of course That begs the question If he's a mere mama Then where might our true Arisen be? You best go I'll do what I can to help you make your escape Però quella cazzo in bella Perché comunque il falso Arisen Ha una cicatrice sul petto Però non so se è tipo la nostra che è ritornata Quindi lui era un vecchio Arisen che ha fallito O se gli hanno fatto qualcosa di particolare Cioè gli hanno fatto qualche inciucio Gli hanno impiantato qualcosa Però bella, bella, bella come Cazin Può essere pure finta Dici magari per fallo sembra appunto Arisen Perché si sa che la Risen c'ha la cicatrice sul petto Va bene ma qua posso fottere Esatto posso fottere Cioè sembra brutto tutto in una casa del genere Le pedine lo dicono agli altri Risen E ci vado Vabbè ma è per Madonna Urika sei Ah Estremendamente a rischio Io te lo dico È un percorso dove fare parkour Ma adoro Parkour col distruttore Vado dei martellozzo Dio madonna Vado ne ho due mani Uh Ah ok ho capito Ho capito Ho capito Aspetta aspetta Fammi salire Piano 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 Nel canon è successo questo eh C'è stata oca che pazziva Dio Cristo Benvenuti nel coso degli assassini Ma là dietro quella smette di fare una citazione Evangelion O ti devono cadere le mani E' il falso sovrano Dara was in line to become the next thief maester But he failed Took a massive injury to the chest during the trial So the title fell to me That's when he went off saying he used the scar on his chest to pose as the arisen And what a scheme that turned out to be eh Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom Malbeth Quale te cristallo mi hai portato oggi Porca puttana io scherzavo Se è qualcuno di voi ragazzola io vi ringrazio da cuore eh Poi abbiamo qualche dono Doppio dono Trisha Oh la maghetta La maghetta in realtà La stregona Deve essere così bella avere una casa tutta tua Per me sarebbe un sogno E la tua sembra anche accogliente Speravo di dare un'occhiata all'interno Ma sembra che tu non ci sia Magari quando dormi mi inviterai a prendere il tè Oh ti prego dimmi che lo farai Ti ho lasciato un regalo Aprilo prima di decidere Oh Lei ti dà un altro di stime in cosi Ma vedi che in realtà puoi farle entrambe le quest Dandogli libri quelli buoni In qualche modo Riesci a farteli tutti i libri Sicuro Perché questo è quello Che stava dentro la casetta del signorino Adoro Fatemi prendere l'armatura Tocca infilarsi nel palazzo di notte Poco c'è da fare Un'altra volta Oggi tra l'altro Ho visto la patch note che hanno fatto Ed è stato bellissimo Perché sotto era pieno di persone Che dicevano Ma quando il DLC Quando il DLC Poi ci so io Cento ore Che stiamo ancora qui È qualcosa di veramente incredibile Tanto che cazzo di nome Come c'è la signorina che abbiamo incontrato La volta scorsa Bellissima Ma si chiama Wilhelmina Abbreviato La chiamerò Vilma Che stanza di merda Con un passaggio segreto Ma che stanza di merda Questo giro l'ho cioccato subito Fool me once Ma fool me twice Manco per il cazzo Detta la costa è ma batale Vabbè praticamente io un po' Sushi mai normalmente Sempre dalla finestra Come gli zingari We meet again Is this stealthy business Becoming a habit of yours? Oi! Who goes there? Who's there? Tut tut Now this just won't do How's a lady supposed to work With all these interruptions Oh it is you lady Wilhelmina Do excuse us We thought to enjoy A little fresh air Though we had hoped For slightly more privacy If you catch my meaning Apologies milady But might I ask the name Of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known To cost a man his head Ah Understood Milady If anyone asks I shall say I saw not A narrow escape You should count yourself Lucky that he was So easily Flustered Peccato però che non ci siano Più cutscene Così Vedo che ci siano così tanti Pagli no? Cioè Black screen Succede la roba Perché Il re engine Ce l'ha il potenziale Per fare ste robe così fighe Cioè basta vedere Resident Evil 4 remake No ma pure ste cazzini Che abbiamo visto Come quella iniziale I vari momenti In cui abbiamo incontrato Gli NPC Peccato Grazie Grazie Vilma Madonna Bellina Bellina Andiamo da Brand It reads True to our word We offer you the power of the godsway Pray make haste in securing Melv That all might be made ready There are plans are set in motion A mega clue To be certain Though Tis clear that the queen region Conspires with Batal This does not bode well at all Though the political situation Is stable at present Much blood has been spilt Between Bermond And his neighbor in the past I fear such a partnership Would only portend The drawing of more At any rate To a seamow search Has led us to only more questions Chief among them What is meant by securing Melv And this Godsway I will investigate these matters As best I can In the interim Your majesty Should you have time to spear Might you make for Melv Only once we have Bleed a fragment Of the queen region Can we begin to thwart it And here it slips my mind Pray Take this The chance it will help Speed you on your way to Melv Però perché l'hanno chiamato appunto Astral Vox Quando in inglese dice appunto Gods qualcosa Peccato però che non abbiano fatto Una variant tra uomo e donna È un peccato sì Perché è sempre stato bello Vedere Oga molto alla casca Con l'abito Invece quando è tutta muscolosa If your majesty Has any unfinished business To attend to It is best you do so Before we depart Mi piace come Vedi questo Quelle fraccine Delle cazzi Bro Siamo andai Un altro pezzo di storia Mi raccomando È finito tutto Guarda che le queste Se ne vanno a fanculo Eh Certo lo dicono Proprio Master Prey Leave this place My body It refuses to obey me There is a voice within my mind It commands me Sways my very will Sways your will Could it be that the gods way We must quit this place Your majesty I fear our plans may fall to law Let us return to the tavern We've been had The false sovereign Commanded the pawns At the coronation Proving his own powers arisen According to region king Spen The pretender was wearing Some sort of lavish necklace At the time I imagine This artifact Is the gods way Mentioned in that letter The chance Tis a tool that grants power King to that of the true arisen To do much To explain the events That we have beheld afore now Alas Unless we find some way To unmake this gods way Power Proving your majesty Legitimacy Shall be difficult indeed Allow me to speak to the agent We captured some days past Pajan Si no Sout of use Bella come cosa però Molto figa Perché Malbette stava entrando Piano piano in range Ha detto Oh bro Togliamoci dal cazzo Perché qua Se no Non me comandi Più tu me comanda lui Bella come roba Certo Durante l'incoronazione Vedere lo stronzo sul trono Con Boh Il nucleo De Iron Man E non fasse delle domande Ma dettagli Quella sorta di cristallo Che a sto punto Mi viene da pensare Che possa essere Veramente sangue Di arisen Cristallizzato Perché l'ho letto Durante un caricamento Se tu mi dici Che il sangue Di arisen Si può cristallizzare E puoi magari Usare le sorta Ai poteri Della arisen Per comandare le pedine Tanta roba Ed è anche un problema Ecco Io qua sopra Non ci sono mai venuto Perché avevo il terrore Che partisse una cutscene In chi ha questo Quanto ricorda Il castellone Per andare Nella zona ovest Di Dragon's Dogma 1 A merchant A merchant eh Have you an entry permit Hold a moment That cart has priority Lord Faisus is come Open the gates Direzione battle Davvero Beren Bellino Stai qua Gattone Da quanto Giustamente siamo Nel deserto Fa caldo Malbeth Crea un po' Di ghiaccio secco Che belli dialoghi Tra Malbeth E Ginevra Malbeth Che sta lì A vedere la borsa Ma che dove era L'oggetto Dov'è il tesoro Idiota Concentrati È stato un bellissimo Cazzo Attenzione Questo è un raro caso Di fantasma Che si inc*****a Persona ragazzi Là sopra C'è la spinge Ragazzi Cazzo è uguale Il luogo Vado a mettere Il telecristallo È un win win Per tutti Voi vedete Un po' di pocce Pure io Rincontriamo la waifu Cascate Shootram Allora io avevo visto Una via qua Per salire Esattamente E dubpia Ci l'ha castata Addosso Malbeth Ha detto Questo deve esplodere Dio Cristo Che tanto ho scoperto Se muori con quella roba Già addosso Potete utilizzarlo Come bomba Prendetelo in braccio E lanciatelo Madonna Addirittura Pioggerellone Così pesante A Badal Vabbè che qua Siamo attorno Praticamente a Verne Però giustamente È per nasconderti Oh Ciao È per nasconderti Il passaggio Ma qua sono diventati Più duri C'è allora Un minimo di spike Di difficoltà Ho capito In sto cazzo Di pertugio Che ci troviamo adesso Anche un drago Di merda Salve Così potente Che ormai evoco Pure la magia Ma che c'è la mammi Porca putenne Non si buttano Però guarda La sta tutta rilassata Perché importunarla Ciao eh C'aveva una cicatrice E i capelli lisci Era Fantozzi I capelli rossi E lisci Una cicatrice Vabbè Te lo porterò Occhio destro Cicato Capelli rossi E ondulati Che sembra Fantozzi Come Dante No aspetta Però i capelli Non erano così L'occhio ciecato È quello Però i capelli Non mi ricorda Perché sicuro Hanno fatto Dante E Virgil Sono due cazzo Di shit Sti tipi I gemellini Di merda Però non so Se sei tu Perché sicuro Ti vogliono fottere Eccolo Spero Truly You are satisfied With your answer Then I shall weigh Its merit To pluck a human From the faceless swarm Is no less a challenge Than to seek a single grain Of sand On the altar Batal coast Yet pluck you have And for that I congratulate you Another prize Is yours For the taking Ma tu sei stronza Però perché Ci ho fatto caso Dopo Che hanno L'espressione Anche differente Tanto questo È palesemente Foot fetish Per i furri Though ours Is a battle of wits Tests of metal Are more to your strength Is that not so? Come Try your arm Though he shall be your opponent Not I However I am not one To be amused By a simple duel Bear this ring Into battle That I might gauge Your true strength Anello della derisione Anello che emana Un'aura funesta Indebolisce al massimo Tutti gli attacchi Dove lo indossa Non faccio danni Easy Good show It seems your mind Is as strong as your arm You have more than earned Your reward Another chest is yours To claim Nenta aspettare Questa si era molto easy Anello dell'ambizione Con un potere misterioso Che rinvigorisce lo spirito Menta leggermente L'esperienza guadagnata Sconviggenti nemici Questo è l'anello Che non metterò MAI Sì ma la vera domanda è Perché io ogni volta Me devo glitcha fortissimo E perché tu hai alzato le ali Oh madonna che patatina Ti dà una mano Sì perché sono otto E lei ha acceso otto occhi Guardate che patatina Se non te lo ricordi Te lo dice lei Ma che bello cazzo Eh patatina che ci dà una mano Perché ci stiamo diventando amici Aspetta io devo mettere otto statue Lassopra Non ci riesco a mettere un NPC La sfida reale è qui E metterle tutte qua sopra Capito Già abbiamo praticamente risolto Oh Una volta scoccato il gioco Verrà salvato automaticamente Quindi usala con attenzione Il dito del creatore No ma io non la voglio ammazzare Perché è così che la devi ammazzare Magari Ti ricordi i graffiti della spinge? Sì che l'avevano provato a menarla Fortissimo E compagnia D'altro notai pure una roba Che mo Non so manco se è una cazzata mia O qualche roba Dico in privato Cioè ovvero che tutte le robe Che la colpivano E la parte spezzata Erano soltanto la parte della spinge Quindi probabilmente L'unico punto in cui tu puoi colpirla È la parte umana Mi ricordo questa cosa Perché talta è spezzata Con le cose Cioè quindi quelli sono quei dettagli Che sono cazzo cazzo belli Quindi se io gli tiro una freccia del creatore In pieno petto Non gli faccio un cazzo Devo colpirgli la chiappetta? Comunque facciamo l'indovinello Perché magari adesso mi dice Vai dall'altra parte del mondo E non posso farlo Un altro bello anche sull'anfore di Isa Vabbè ma questa è una cazzata Qua è letteralmente Non è la montagna che va da Maometto È Maometto che va alla montagna No? Cioè Tocca prendere il signorino E portarlo qua No esatto Perché tu pensi che te la devi scarruzzare A mano fino a là Ma no Cioè Penso che sia intesa dopo che lo porti qua Gliela metti davanti E se li fa la via al contrario For generations now My family has been charged With a duty to seek out This amphora To think that it was hidden here Of all places Well, well The amphora has been delivered intact I'd not thought you had it in you Though I'd hope to savor your dismay You shall have your prize all the same And with that Our game comes to an end As amusing as it has been I shall now take my leave of you To await the next courageous soul Who would test their wits against mine Truly your greed is boundless But soon you will learn Those who live by their greed Tend to die by it Though it is a pity I had taken rather a liking to you It will bring me no pleasure to spill your blood But nor can I ignore so bold a challenge Madono ma non la voglio Ma bellissimo che poi Mentre ti parla è triste C'ha tutta la faccia Cruciata Oddio Cristo Ma poi senti che c'è anche Lost unica Dio madonna Adesso sbaglio Perché tanto sbaglierò Ormai si mena dai Si fa legit Ma esatto non è morta Effettivamente Era questo l'ultimo enigma È semplicemente scappata Bello ok sono contento Inchia comunque quanto bella la fight Quanto bella Con lei che costantemente ti percula Hai provato a mordere A masticare qualcosa che era più duro No Questo è l'anello che dà in dono Per farti la romance Quindi ok non lo tieni soltanto Con le pietre del cercatore Te lo danno Chiave che apre un forziere In particolare Chiave della saggezza Cuore di drago eterno Pietra infusa di una magia incredibile Quando viene usata Riporta in vita Qualsiasi persona degatuta Nelle vicinanze Di chi la tiene in mano Ah è il counter Della peste dragonica Stermina la città Ma la puoi riportare in mano Si è stata una one shotata Per riportare in vita una città praticamente Che tra l'altro Io girando un po' qua attorno Ho anche notato Che un po' Lo schifo che loro c'hanno per le pedine È anche giustificato Perché giustamente Loro hanno paura della calamità Cioè loro hanno paura Che una pedina Si viene infettata da un drago Ed esplode Ecco perché cazzo hanno paura Perché giustamente Stermina tutta bug battle Una roba del genere E come vi ho detto Durante l'altra live A forza di fare questa cosa Con le bombe Le pedine hanno imparato a farlo Le pedine Quando un nemico Che addosso questa bomba Muore Vanno a prenderlo Per lanciarlo In mezzo ai nemici È una cosa Che quando ho notato Ho fatto porca puttana E quanto Mi fa dire L'hanno mantenuta La roba di Dragon's Dogma 1 Dove imparano Ginevra Tu te devi fare un grifone E ci facciamo un grifone No Ormai hanno così paura Che si suicidano Anche perché ha letteralmente fatto No aspetta che devo atterrare E si è suicidato Quindi Non ho capito Però va bene Vedete quella roba lì C'è il coso Con la pantegana Mi sembrava Una signora Col culo storto De spalle Cioè la pantegana Mi sembrava Nei capelli di qualcuno In fatto ho detto Ma che cazzo è una sirena Sento dei rumori brutti Non lo fare Treverte Allora sapete una cosa Che a me mi sorprende Ragazzuoli Il fatto è che Non lo stanno facendo Le pedine Hanno fatto l'inverso Non si ammazzano più Le pedine Si ammazzano le persone Cioè è incredibile No Non lo voglio Il cavaliere senza testa No 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 C'è un cavaliere senza testa Dilla col cazzo Cambiamo via È post mezzanotte E quando Sbuga la nebbia Ci sta il cavaliere senza testa Vabbè dai Proviamoci Cucciolo Eccolo là giù Madonna prova Che l'hai stannato Pecca Aspetta che faccio la curva E' un attimo che arrivo Pezzo di merda Becca Eh T'ha fatto male Io mi ricordo La prima volta È unica in cui l'ho affrontato Ho capito appunto Che spona dopo la mezzanotte La nebbia Tutte ste cose La prima volta Mi ha fatto malissimo Ci sono stato tipo Un botto di tempo Anche perché lui scappa all'alba Almeno l'abbiamo affrontato In diretta Sì Ah no Tu Buongiorno Ha funzionato Sesta annata Boni Spetti 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 Becca Stronza Tagliamo codina Dai 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 Ma Che godereccia Sta cazzo di roba Allora facciamolo cadere Vai La testa La testa La testa Togliamola dalle palle Bravi Spignete tutti insieme Che belli Che si sono uniti tutti Oh Ma allora Lìa comincia a girarvi Meno male Siamo solo a livello 60 Dai 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 Aspetta che salgo Madonna pure arrampicarsi Quanto è diventato figo Una volta che t'abitui Però bello Ok Ci hanno anche un po' di pazzolino Che gli gira attorno Figa come roba Quindi quando vanno in rage È come se Compattano E le nascondono Bella come roba Però questa La cosa che mi mette un po' ansia È che hanno la faccia Non ce stai Forgiato Aspetta perché sto mood È quello Ah ma sei diverso Non sei uguale Ok Ma allora perché nel trailer L'hanno fatto vedere uguale O non l'avevano fatto vedere in faccia No Io me la ricordo la faccia Esatto La faccia è un'altra Era di spalle Ok Perché non me la ricordo Sto che si mi ha parlato mesi fa Ok All'ho figata Che l'hanno cambiato Ti fa capire la cosa del ciclo Che sono andati avanti Un forgiato ci deve sempre essere Però è cambiato Ma aspettavo tutto Fuorché che il forgiato Me scambiasse oggetti E me potenziasse Equipaggiamenti Oh Cdc Cazzo di cane Ah no Ma devi usare Il sangue Di drago Ma adoro Ah beh ok La drago forgiatura è così Porca puttana Te li fa pesare un cazzo Stile di forgiatura A base di cristalli di dragolinfa Che migliora ulteriormente I pezzi già migliorati Tre o più volte Li rende più efficaci E 50% più leggeri Ok Effettivamente dipende Da come è stato fatto evolvere Ti fa una sorta di multiplier Delle cose che hai già fatto Oh Qua vedo la ciccia Boni Parlami del drago The dragon is the embodiment Of destructive force Though this does not mean That it is evil Understand this The concepts of good and evil Are mortal inventions And thus cannot be applied To the dragon It is a being of a higher order As are ye Now that the dragon Has marked ye Setting ye apart From your fellows Tratto potresti pure Arsarti e guardarmi in faccia A pezzo di merda Però Parlami della Risen The Risen is a transcendent being Always chosen by the dragon It marks for itself The individual who must fell it Thus When the dragon is made manifest So too is an arisen And should that arisen fall Another shall rise in their place The cycle is doomed To continue till the dragon is felled For that is what the will of this world has ordained E tu invece? I am the husk of he who was once arisen My final battle against the dragon Culminated in the loss of the will That should have seen me bring the creature low Thus As the arisen is defined by the strength of their will From that moment on I was arisen no longer Such is the world's will I dare say it compels me here now To impart upon you all the knowledge I possess Bella come roba Hanno un po' Reworkato Esatto Si è letteralmente stufato Cioè lui ci ha provato Talmente tante volte Che a un certo punto Ha detto Non gli avaccio più E quindi il seneshell Volontà superiore Chi da per sé Gli ha detto Ok basta E infatti lui ha detto Adesso io sono obbligato A doverti raccontare queste cose Perché? Perché non essendo più arisen Non è più un puntino Al di fuori dello schema No? Ci è stato rimesso dentro E quindi fa quello che gli dicono di fare Cioè dire al prossimo arisen Ste cose Bellissimo Tra l'altro che la sua cicatrice sul petto Sia nera Perché? Perché lui non se l'è mai ripigliato il cuore Quindi diciamo Non dico che se è muffata Se è marcita Però adoro Dove si trova il drago? You need not seek the dragon It will find ye I make no mistake The dragon will appear before ye When the time is come Still I suppose I can tell you About a rumor I heard the other day Apparently A dragon was sighted in half village Though I am not sure I believe it After all Now that ye have been marked as arisen The dragon ought next appear before ye At the appointed time So it stands to reason That e'en if a creature of draconic aspect And destructive powers Did appear in that village It was no dragon A mockery of one perhaps But not the dragon true Sì e diciamo che hanno fatto un paio di Nicky Nicky Per renderlo un po' Più contestualizzato Sai dei cristalli di dragolimfa? The substance of which ye speak Is formed of crystalized droplets of dragon blood Worms life crystals can be obtained not only from the true red dragon But from lower drakes as well They retain a measure of draconic power And when used correctly Will bestow upon ye powers That eclipse the will of this world Questa e' un'informazione interessante però eh Figata come cosa E' il fatto che noi siamo arisen Siamo delle persone Degli esseri che hanno una volontà così forte Da poter andare fuori dal percorso no? Lui ti dice Conferiscono poteri che eclissano la volontà di questo mondo Ecco perchè tu paradossalmente puoi arrivare a fare il true ending Perchè tu sei talmente potente Che dici sti cazzi spezzo il ciclo Bella come roba Mi fa fare anche molte domande su quello che poi verrà Però bella quella la prossima Domanda ma io non ti posso dare i regali no? Perchè non hai un cuore Oh io te devo fare rega Zio zio io voglio sapere che cazzo me manda indietro Facciamo la roldman scolfoggiato No si scherza No ma perché tu devi andare a over Appena gli dai una piletta di trasporto Madonna zii Bellissimo Possiamo dire che qua Darwin sta ridendo Oh al solo pensiero che la medusa esista Vorrei proprio darle uno sguardo Sei stronzo Vuoi morire? Dillo Queste sono code di coso Perché giustamente loro craftano quel vino particolare Bellissimo tra l'altro Queste sono anfore giganti Piene di vino Con a mollo la coda di Sauro Adoro Però perché di nascosto un vino del genere? Perché me coglioni Ho una mela cotogna Cia pala Vabbè tocca aspettare qualche giorno Sperando che non faccia diventare Statue di roccia alla figlia e alla moglie Anche perché quando la gente tocca a Grimorio Di cui non sa che cazzo fanno Perché magari lui non è che è diventato cieco a caso Sarà diventato cieco perché magari stava a leggere qualche Grimorio Che dava cecità Se è sbagliato Ste cose così Perché non c'è stata tua moglie e tua figlia? What happened to my eye? Oh, uh, uh Near mind the bandage It is nothing serious Now As I was saying I'd like for you to find the Grimorio Second volume for me It would seem Tis part of a set And will only reveal its true power When both tomes are in hand The copy eye possesses but the first One half of a whole Io spero che già non siano morti a moglie e a figlia Si è fatto parte in occhio Io non gli do quello vero Si è fatto partire un occhio Questo veramente trasforma in pietra a moglie e a figlia Se già non sono morte Ma sapete qual è la cosa che un po' mi fa storci? Ma scusa Il tuo negozio Da cosa giova Con un libro sulla trasmigrazione delle anime Tu cosa fai? Sì perché adesso se ne andrà a casa a fare il rituale Meno male che gli ho dato il fake Dio Cristo Gli hai dato il vero? Immagino che si è esplosa la casa Poi magari è un mago eccezionale Ma vedendo che sei quasi ciecato Non lo so I believe I need only Ha! Did I? Did I do it? All appears unchanged A failure then Ah well I suppose our fortunes Were ne'er likely to turn so easily I've learned my lesson No more of this grimoire nonsense for me I'll settle for being a humble apothecary after all My dears Can you forgive me for my foolishness? Oh Isaac You two had the right of it all along I ne'er should have chased after a silly dream like this Quindi per un attimo pensavo che avesse fatto comunque Cioè il fatto che tu gli dai quello fake Mischia quello vero con quello fake E fa bordello Che succede con quello vero? Esplodono male tutte e due signore O qualcosa del genere Food metal alchemist è scampato Ma davvero Scambio equivalente Niente non ce n'è E lui si suiciderà Ma comunque Dragon's Dog Ma non c'ha chill Con ste cazzo di robe E quell'altro Se gli porti i panni Sgozza il marito E poi si sgozza E quello si lancia dal dirubo E quello si va a morire E che cazzo Eppure un po' più calmi Possiamo stare Dio madonna Andiamo ce n'è a Melv E finiamo la live Andando in quella caverna Vedendo se c'è effettivamente Questo boss E mi avete detto Oh Una gorkimera Adoro Perché il mondo Se sta a corrompio qualcosa Ok se succedono anche queste cose Bellissimo Una gorkimera Cavolo C'ha già una cota morta però Perché E no È tutta morta È come se danno per scontato Che tu di canon L'hai ammazzata Ed è tornata tipo non morta Con la magia della capra Che ha fatto necromanzia Adoro Ma poi guarda Che c'ha proprio l'estetica Differente Adoro C'è anche delle mosse uniche Si è congela Ma dopo Guardala che bella cazzo Guardala come si è congelata Madonna Una citazione allo Hobbit Dio Cristo Ma voglio finire io Vediamo se ci arriva a sua distanza Presa No Cazzo l'avevo periata Non l'ho presa col secondo colpo Ah no è perché giustamente Sul no l'avevo presa È la capra Peccato Mi chiamo fatto una killcam bellissima L'avevo perriata col primo Questa è la nostra cara nuova Oga Molto barbaresca Una proposta velenosa Dobbiamo tornare dal tipo Mentre siamo Che poi tecnicamente Devo per forza farmi avvelenare Da una vipera O è la cazzata che basta essere avvelenati Proviamo a farla sta cazzata Effettivamente Perché magari si può fregare il gioco Ti mangi della carne Marcia Da veleni Easy Ginevra perché mi hai curato Brutta stronza No Ma va a cagare Così furtiva mi ha fatto l'iniezione di panacea Dio Cristo Questa è la cosa da guaritore Io continuo a dirlo Non dategli le cure Non dategli banalmente le cose della vita Perché quello ci pensate voi per cazzi vostra Dategli gli item per curare le afflizioni C'è lì che fanno veramente i miracoli Perché appena voi vi stannate Vi prendete un fulmine E qualsiasi roba Allora arrivano E ve la impiantano in corpo No mi devi sputare Sputa Io che corri No Ok C'è la Gineva che stava giocando la chioparella Con la bozza in mano Harrison La da chiupirina Vai calma Buona And that's to say nothing of what's going on In your internal organs So much to study Splendid I dare say I've learned all I can I am in your debt My friend In truth I did not expect you would oblige me I have put this task to many Yet you are the first to follow through When at last my research bears fruit I will have you to thank Now on to your next task I would have you subject yourself to the venom of the venom harpy Allora qua la cosa che ho adorato Sono due Primo Ginevra che è tornata mi immagino per tutta la cazzin Tipo sorta infermiera Con la siringhetta a fianco alla risa Mentre gli parlava Allora facciamo La dagipirina L'antidolorifico Che continuava a curarmi La cosa buona che ho fatto apposta per questo Infatti no bravissima Questo ci sta un cazzo da dirgli Perché stava continuando a curarmi Non a darmi rimedi A curarmi curarmi E l'altra cosa è Mentre parlavo con il tizio Non so se avete mai visto il meme Del tizio del combini giapponese Del ragazzetto piccolo Che gli è via a comprare il negozio Samus Dei due metri Era letteralmente quella scena Ci stava lui dall'altra parte E così Oga che stava in posa Con gli addominali mezza nuda Altissima Era bellissima cazzo Grazie Ginevra Madonna di potessi fare i pattini Un'espressione di puro terrore Attanagli al volto di questa statua I dettagli sono così minuziose Che se mi possano prendere vita Un momento all'altro Oh Cristo e Dio C'è la medusa Ma che ha reso pietra pure l'albero Non adesso che ho perso l'healer Per favore Oh guardala E si continua però Usa un arco d'archer mago Guarda che ci sta a provare a pietrificare E' acqua per staccargli la testa In modo molto facile Devi venirci con qualche tattica giusta Perché se no la massacri di botte Sulla codina la faremo questa C'è interessante se c'è qualche modo Perché volevo congelarla Per focussare la testa Se uno potesse bloccarla per terra In qualche modo Sedugo che non gliela posso staccare da morta Ma l'aspettavo molto più ardua Diciamo che l'ardua è staccargli la capoccia Arco magico gorgonico Madonna ma è sbroccato Pesa un botto Porca troia Però se lo drago forgi Meno 50% Delle origini ignote Ma di fattura non mortale Consuma molta resistenza Ma eliminare i nemici con quest'arma Fa guadagnare grande esperienza Ah aumenta l'XP che ti prendi 400% in più Porca puttana Tra quelle anello praticamente che c'hai Un 500% Guarda quanti conigli Madonna Non sarebbe stato bellissimo Se Malbeth seguiva il coniglio Sapete quei cazzo di meme Dove tirano la pallina E c'è il cane che si schianta sui muri Che diventa in realtà un pupazzetto Ecco Malbeth uguale Ah ah Cadroia Lo seguiva fortissimo Hai raggiunto la torre del soffio di drago Qui dovevi trovare il lancello magico Che inseguiva il drago minore Ah ok Era qua Non era la torre Quella grossa Un piatto che fa cagare anche agli elfi Piace ai nani Ovviamente Bonnie che se richiede roba marcia È fatta Il mio inventario è pieno Dessa merda C'è stato un piatto Che non mi ricordo d'ora Che è letteralmente Pesce fermentato Fino a che non marcisce Una roba di quel tipo Chiuso dentro a ste scatolettone Che se voi lo aprite Fa un odore di mora È ovvio che accetto Che ti dico di no Fa cagare abbastanza Sì Dove cazzo è l'elfa Bonnie Mi so perso l'elfa al mercato Sa la vendono Che cazzo ti sei buggata Di incoglionita Praticamente due waifu Che se parlano Ste due Perché sono bellissime Tutte e due Poi ci sta il gigante buono lì Cazzo dobbiamo fottere Domanda Ce ne discaglia Ah ok Perché non è che ci avrebbe dato una mano È che va a mangiare Gli fotti la roba che serve Ma porca puttana Corri Becca Ginevra Cazzo ha funzionato Malbet tu con quel cazzo di arco Stai salendo di troppi livelli Mi fa incazzare come un addannato Oh Oh ma Ginevra gli fa piacere È per quello che Malbet mi ha tirato Dove vedi la freccia Perché ho usato Ginevra Sì tu ce la fai Ginevra Sono io che non ce la faccio Non ce la faccio Brava Tu dall'altra parte ci sei arrivata Noi tre Il mago che usa passo velato E noi C'era bisogno Madonna in fronte L'ha presa È stata bellissima Raga ditemi che non vi fareste le gare a letto Ma raga Se non fosse nera Cazzo quanto ci starebbe bene Che tanto è sempre sta cosa degli occhi Pessuto Sottile è intreso di preghiere E decorato con molti occhi per inquietare e confondere Eppure fottutamente sbroccata sta roba Un dissennatore Che mi farei però Sarò onesto Cos'è quella roba laggiù? Ah è un leach questo Oh mio Dio Ah Bebebebebebe Madonna guardalo Guarda che bella sta cazzo d'animazione Ginevra sarebbe il momento di sparare un Cristo celestiale fortissimo Per favore Ci siamo io e Malbeth sopra la collina Circondati da non morti Veste enigmatica Resistenza ai colpi 4 Indumento che si ritiene appartenesse a una scelta delle montagne Se oppure che il torso esposto aiuti ad approfondire la meditazione Questa è proprio solo per noi Vai vedere Oh Madonna Questa è tutta la potenza del creatore fuori Le gigabubis Con tutto lo sbrego E appunto la dragoforgiatura fa questa sorta di effetto Con questi cerchietti Ste robette Ma lo fa su ogni parte dell'equip Quindi io avevo fatto mi pare la mia armatura Dragoforgiata Un po' una merda D'altro ho notato anche un piccolo dettaglio Che a differenza di molti giochi Per quanto in maniera più piccola Dragon's Dogma è il dettaglio del come si attacca l'arma all'equipaggiamento Se voi togliete la vostra arma Dipende molto Tipo lo spadone ha questo cinturone Gli toglie il cinturone Cioè quel cinturone lì è il cinturone dello spadone Per attaccarlo paradossalmente Praticamente è il fabbro di Guts Quella coppia nano e elfa Che abbiamo sentito in qualche chiacchiera E lei secondo me è la signorina che ti è da lasciare un mago T'accompagno io Vieni qua Lo porta così ok si fa portare Bravo Guarnigioni dei cavalieri di battaglia Guarda che bello che stanno a cercare di riportare Tosuc Ok piccolino Andiamo alle terme dai così facciamo l'episodio Malbet nudo Oga nuda Tutti nudi Pepecciotto matte Voi immaginatevi questa conversazione Tu stai con un neno in mano Arrivi Uno ti fa To lo vuoi un nuovo marcio Tu te risposta gli fai E tu lo vuoi del liquore di salamandra Ma che cazzo avesse te fumati Ma che cazzo avesse te fai 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 Quattro live senza trovare un cazzo Così proprio bam 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 Ma quindi ci seguiva? Io se mi guardavo attorno Se magari il marito prendeva troppe pizze Lei interveniva per darci una mano? E' una figata Devo pagare per entrare Always a pleasure Nooo Dov'è Malbet? Malbet entra pure tu Questo direttamente da Monster Hunter Ma quindi posso sedermici anche io Ahahahah Che bella come cosa Ma quindi non posso prenderli in braccia E entrare brutalmente Questo è tipo il momento In Mulan Quando non mi ricordo Come si chiama uno dei tre soldati Va su la roccia Col pisello dei fori C'è sta Oga Ahah Posso entrare? Nooo Non lo posso grabbare Cazzo me lo voglio portare Dilla Malbet tutto bene Ah I could stay in here all day Culo de Oga Questa è cazzo di poesia Ma quindi devo rimanere a mollo per un po' Ma lui non rompete i coglioni Se ci sono in mezzo a voi Che cazzo ci fai tu qua? Perché c'è il forgiato dal drago? No c'è un problema qui C'è qualcun altro che conosco Qualcuno che conosco? Voi immaginatevi tutto questo Sempre con le Oga Con le potenze di fuori Che sta andando in giro no? Perché ci sta Bjorn? L'armaiolo C'è qualcun altro che conosco Tu sei? Oh tu sei quello della Gilda Perché mi sa che ti ci mettono Tutte persone che con cui hai un po' Di rapporto almeno Ma tu ti sei curato Di stai cazzo di cicatrici? Ma basta puntarmi il cazzo Ah Questa è Cassandra Questa è quella del primo accampamento Che ci feci la romance Ci feci Quindi adesso Malbet Non ha più le cicatrici Oh Oh Cocciolino Questa è lì Mi sono i figli degli animali E' più bello che abbiamo mai E guardate Se io mi metto dall'altra parte Di un fight E tiro verso Cammy Assorbito la vita dal signorino E quando arriva Non so se cura anche Tutti quelli che c'è attorno La descrizione dice di sì Però è molto comoda Là dentro C'era un bandito E sono entrato Cinque Malbet va a rubare i soldi Dice vabbè guarda L'ultima roba C'è allora scusami signorino L'arpia Mandi La risen Il sauro Mandi La risen La chimera Vado io Che cazzo vuol dire? Andiamo Gollum Vai che stai proprio là Vai codina del cazzo Vai Sputa Previene completamente L'accumulo di veleno Io Deve essere una Di quelle cazzo di villette Tipo quelle degli indiani Che tra l'altro Di recente Mi sono anche crollati Perché ho visto i backstage Di quella roba Ed effettivamente Ci hanno proprio tipo Tutto un team Non so due indiani C'hanno un team Che fa quelle cose Quindi Perché da del cielo È bella come cosa Però nel senso È letteralmente Un buco di merda Che se tra l'altro C'è per sbaglio Qua vi è l'inverno È a fine È bella È figa Probabilmente Quella che più mi piace Perché è bella Larga Non c'hai la telecamera Che ti entra in culo No? Quelle robe così Se per sbaglio Qualcuno beve È a fine Si lancia di sotto Oh Eccoci invece Oppure con la torre Sì per carità Nel deserto Nimo Ma comunque Avere uno spiraglio Del genere in casa Non fa bene Tutta la sabbia di merda Che ti entro dalla finestra Dio Cristo Oh guardate che quella pedina C'ha la peste dragonica O è il carro Ma mi sa che è il carro Che gli fa male Tra l'altro C'ha il bastone Sulla schiena Sì Del mercante A qualcuno Che ha a che fare Con il palazzo Per ottenere Dell'informazione Cioè chi possa essere Responsabile Dell'apriamento Delle pedine Sven O Brent Qualcuno del palazzo Che sta con me De importà Ah no Il magistrato Magari Dici Brent E allora Do capire il magistrato A che cazzo serve Semmai un giorno Vado con Trudisa Dice sì È veramente la risa Stop Inutile Ma ha fatto solo Mettere i guai E mi ha dato un libro We ought to assume Tutto questo Tanto per andare A sterminare Gli schiavisti Tanto va a finire Così eh Rincontriamo Il signorino Dell'inizio Lo massacriamo Di botte Gli rubiamo Le informazioni È bella eh Non sono mie quelle Non so di chi sono Ah compari pedine Come state Io vado sul carro Lo conosco io Vabbè ma lui È proprio totalmente Che sancazzo Non sa manco Perché gli obbediscono C'è chi ha dato Sto bastone E mi metto Vabbè guarda Topia questo Sancazzo De niente Questa sarebbe Opotion alla D&D Dove fai il tiro salvezza E lo guardi Con la morte Negli occhi Quando ti tira il pugno Eh hanno il mal di testa Sì Non ci posso neanche parlare Perché stanno Stanno impazzire Però vedi Sta cosa Continuo a dirla Mi dispiace che Mettono queste cutscene Fatte belle renderizzate Con la regia Però per questi Brevi momenti Diciamo Molto fine A se stessa Ti fa capire Di più di quel Bastoncino Però nel senso Se uno già appena Appena esplora un attimo Credo che lo capisce Tranquillamente Nel senso Questa mi sa Di quella quest Che ti mettono Le persone che magari Fanno solo la main E dicono Guarda La vedi questa È la colpevole Continuo a dirlo Dragon's Dogma 2 In quell'ambito È veramente Tanto pieno Di Piccole chicche Ma come quando ho detto Che voi state con l'arma fuori E state fermi Ci hanno tipo Delle animazioni Sorta di Dei taunt O delle piccole robe uniche È pieno Deste robe Come credo anche Che questa corda Che ho attorno All'armatura Probabilmente Quella dell'arco magico La corda che ho sul pet È la corda dell'arco magico Dove hai indossare la maschina Che vicino al negozio di liquori C'è un piccolo recinto Di fianco ci sono dei sacchi Dove prenderne uno E metterlo nel recinto Ah ma è per salire là sopra? Cioè devo letteralmente Prendere i sacchi? Ho capito Ma c'è un modo per saperlo Senti qualche dialogo Che ti dice Questa è la passcode Per andare È dove compri altro liquore Ma ad oro Ecco te ne prendi Tre in modo easy Perché giustamente Io mo non ce penso Io facendo tutte le quest Spippolando Ho trovato vino Che l'ho craftato a cazzo Un altro l'avevo trovato Quella lì Trovi qui Oppure entri qua dentro BOM BOM Compri Quanti modi c'hai per farlo? Perché giustamente Le code diventano marce Però se tu te sbrighi Vai là Fai BOM Buti Fai il crafting rapido Senza che c'hai bisogno Del vino invece E ti arriva anche Una guardia a investigare Però vedi questa invece È una figata E anzi Magari a questo qua Se gli porti le code Magari te le coda più soldi Sicuro Cioè quindi Una di queste cose In realtà è qualche Inciucio strano È bello che Infatti di notte Quattorno C'è il signore Dell'istituto Bello Voi se comunque Girate per Bug Battle È pieno di questi dettagli Di gente che lavora Che però Quando diventa notte Va in taverna Se ne torna a casa C'è stata tutta la gente qua Che si mette letteralmente A colorare gli abiti In queste cose Continuo a dirlo Dragon's Dogma 2 È veramente Bello 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 Mi dà quelle vibes Alla Monster Hunter Dove se tu ti metti a guardare Ogni gattino Che gira per l'hub Vedi che c'ha la sua roba No Che se vai nelle terme In realtà sotto C'è stato degli scarabèi Che portano dei sassi bollenti Per farti l'acqua Sono curioso di giocare Con questa cosa Perché ripeto Non sono tanto incuriosito Dalle skill di per sé Quanto dalle varie abilità Che puoi fare Anche perché questo Fa tanto potere di abbattimento È quello che mi intriga Arca puttana Se fa tanto potere di abbattimento Dio Cristo Gli ho tirato Veramente delle schicchere Sulle gengive Non erano frecce Poi anche la cosa Di potersi portare Più armi elementali Dietro Non è per niente male Madonna Però una volta Che ti abitui a girare È veramente una figata Eh pezzo di merda Si chiama spada di ghiaccio Questa era Fottuta Scenica Dio Cristo Ma adoro Mi dispiace Che ti sia preso Una pizza in bocca Piccola stella Ma è stata bellissima Però è vero Ho tutte le evocazioni A sto giro Non ho paura Posso fare tutto Sì comunque Ho anche la velocità Di scalata aumentata Quando sto con i pugnali Adoro E quanto mi sta divertendo Il cazzo di eroe leggendario E che raga È sborra Anche se ha solo tre abilità E non sto usando le schise Ci state facendo caso Se non due Attacchi Vieni Ah no viene un altro Salve Questo per i gretti Coltelli su di Cristo Malbet ha detto Vabbè Deflagriamo Il culo Vabbè Io non so neanche Che cazzo Sto mirando In realtà Ma cadi giù Merda Porca troia Però Divertente Cazzo Ti fa sentire Veramente Invincibile Perché tu dici Sta volando Frecce nel cuore Magari voglio arrampicarmi velocemente Doppi pugnali E comincio a scala fortissimo No È qualcosa di devastante Cioè sarebbe stato L'apice Il avere tre skill Per ogni arma Che equipaggiavi Ok Ma anche soltanto Di puro combattimento Tanta roba Cazzo Malbet è quel player Di Final Fantasy Dove tu incontri Un cazzo De coniglio mannaro E dice Ultimate Così Famme fa la cazzo Di limit break No Salve Madonna Ci sono riuscito In una maniera Bruttissima È stata orribile Madonna Cosa Eh sono io Che adesso Mi ammazzo E invece Minchia L'unica volta Nella vita Che ho usato Sta cazzo De skill È stato incredibile No Pensavo che portasse Solo qua sopra Allora Ragazzi Mi dispiace Ci dobbiamo Fermare qua Porca puttana Ok Eccoci 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 Venite Pu Ah beh Se è stato bellissimo Mi giravo Passava un grifone Basta Quando dicevi per questa via Elda Intendevi proprio Ah eccolo Porca Madonna Cazzo Ma dai Ma perché Perché Dio Cristo La Madonna E scendiamo di nuovo Tanto io ormai L'esplorazione Veramente Ti andò Death Stranding De bot Martello Tuono ciclopico Eh la Madonna Si muovono in branchi È stato Jurassic Park Madonna Non rimbalzo più Dio Cristo Però vedi Pure in questo Le ho leggendati È figo Cioè Delle mi porta Un'arma contundente Un'arma con l'elemento Un'arma con qualcos'altro È una figata Con quella coscia Oga Bellissima Perdonate Io noto i dettagli Più strani Ginevra Mi puoi buffare Col ghiaccio Per favore Grazie Madonna mia Quanto l'amo Ginevra Bespedina Mai incontrata Non ci ho fatto caso Mai Ma quanto è bello Il casting simultaneo Si unì Guardate Si uniscono I due flussi di magia Ma adoro Si vede Del mana Che va tra loro due Sto Veramente Riscoprendo Le soltanto Tre skill Capisco La Pappa reale Che puoi sentire Dall'avere Tutte quelle skill Però Fa veramente Risplendere il combattimento De Dragon's Dog Ma sta Cazzo Di vocazione Io per un attimo Stavo imbanicando Perché pensavo Vabbè Sono andato a parlare D'Arv Totalmente A cazzo Mi sbuca il Talos Cioè io avevo paura Quello è Gran Soren Stronzissimo Sono stato Perché ho detto Abbiamo finito Di esplorare Un cazzo Che mi frega Ma pure vedendola così Raga La torre Della puttana Vai di qua Il castello Il piazzale Di merda La discesina E qua sotto C'è Gran Soren Le mura uguali Che tra l'altro Adesso che è emersa Gran Soren Quanto quella cazzo di roba È proprio Quello spiazzetto Lì di merda Dio Chris Madonna Perché se c'è Gran Soren C'è anche il cazzo Di pozzo Quelli sono pezzetti Di pozzo di merda Che salgono Quei cazzo di roba Lo sapevo Lo sapevo Scusate Mi rilasso Mi rilasso Perché io adesso Mi mangio le mani Perché io non posso andarci lì Prossima volta Quando è? Mercoledì c'è Edis Giovedì c'è Dragon Age Fanculo è venerdì Cazzo C'è a me Boni che ho fatto Forse anche una foto bella Aspettate che voglio inquadrarlo Sto cazzo di momento La artistica Sta cazzo di foto Oh guardala che rimane Che parla Ok Ah beh cazzo C'è questa comunque Non è roba che si butta Tronzo pure io Corri 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 Tanto io non ho la spada Ma scusa Ma sto solo con Ma posso fare capitana America Raga Raga C'ha il moveset unico Tira la botta con lo scudo Raga Ma che cazzo Questa è una scoperta eh Capitana Risen Ma guarda che fa anche Fa i montanti Decapitana è una gorgone Tagliata dal mostro Al culmine della sua forza Lo sguardo pietrificante È potente Quasi quanto fosse ancora in vita Ah impugna la testa Ok C'è proprio uguale No ho usato la ciolla Ma scusate Ma quindi posso Continuare Ma scusa Quanto dura sta cosa Dura finché non marcisce Sai che bello per Bagbadal Eheee Pietrificare tutti Dio Cristo Pure questa è un'altra cosa Visto che tu M'hai creato Un oggetto da cintura Creami più oggetti da cintura No? Cazzo Me li sono aggrati tutti Ce ne sono 45 Anzi non sta neanche laggando Vista tutta sta merda Andatevene affanculo Guarda Guarda pure Malbet È un cazzo di copo di Goblin Ma cazzo Malbet Mi sa che so cazzo invece Sa per diventare una citazione a Goblin Slayer Merde Ma poi guarda quanto potere, distordimento e abbattimento hanno Fanno i salti di 7 km Madonna 1 a 1 Porca putta E mi stannano pure con lo spadone Cioè perché il fatto è che Ok Diventi più resistente all'abbattimento e allo stordimento con lo spadone Non se sono 40 Ovviamente la aiutiamo Ma tu non sei la reason che può entrare al palazzo quando cazzo gli pare infilarsi nelle stanze delle persone Devo cercare dei quadri Vabbè che sono tre stanze Qua l'unico mercante che vedo è a parrucchiera O questi vengono calcolati come mercanti Si è messa la maschera di un fettide, ma adoro Ma tu non sei chi che io sono? O O O O Allard Ho sempre chiesto di vedere la tua La 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 Wilhelmina Ma 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 even with this mask staring you in the face but I suppose for a man such as you a little murder here or there is hardly worth remembering what mockery is this in your youth you slew two individuals the merchant whom you served and his wife they had a child as I am sure you are aware a newborn babe who was spirited away by her loyal wet nurse you mean to tell me you were their child but how can this be your mother she was a beast surely her child would be one as well fair assumption but for better or worse I didn't take after my mother safe for in one respect this is for my mother and this is for my father the time has come for all your sins that come to light Allard Allora io prima proprio stavo pensando magari la cosa che gli ha fatto è che ne so l'ha accecata gli ha fatto qualcosa perché lei ha l'occhio coperto no quindi dice vabbè magari è mezza cieca qualcosa no è che lei nasconde la parte feride quindi come devo trattarla come cosa che lei è un caso particolare o che se sta piano piano a trasformare in feride quindi la prima parte della trasformazione è l'occhio ma adoro cazzo però figa sta cazzin vedi perché non ne avete messi di più di cazzin puttana miseria quanto belle cavolo I've finally achieved my purpose here and I owe it all to you just this once I'll give you something special I'll grant unto you the sweetest of dreams I know not what I would do without you You have my thanks but it's time to say farewell for now just know that my borderly will air be your haven should you have need of it Cioè letteralmente mi fai un cazzo di pov di un bacio ma potevi sfruttarmi che cazzo ne so lei che faceva l'occhio cioè per fare qualcosa di particolare dio madonna vabbè abbiamo fatto una romanza anche con lei ma senti pure Lost oh è una statua del cercavia questa perché con la mantellina guardalo che è il trono del sene Shell e sopra c'è un feride eh ma perché una sorta di se ne esce all'oscuro credo che i Minions siano gli altri Arizen ma 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 il segreto dell'Astarbox il segreto dell'Astarbox non è sangue del Arisen cristallizzato su anime di Arisen cristallizzate porca puttana però c'è micchia che processo te serve per riuscire a trasformare l'anima di un Arisen in un cristallo? C'è non me sa di cosa che dici il Senechel ok Faesus riesce in qualche modo trova l'Arisen se l'inguatta e gli fotte l'anima che ci avevamo preso però perché lui si è dato però col fatto che lui si è seduto sul trono sta un tassello sopra quindi non è che il cercavia può fottegli la roba toglia no 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 lui prende altri Arisen gli fa fare tutto l'inciuscio e gli sta cercando di scagliare contro di lui affinché lo ammazzino il trono sei liberi e ci si possono rimettere sopra lui non è che ha abbandonato il suo ruolo da Senechel no 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 lui in questo momento è il Senechel è un fottuto Senechel che sta qua da chissà quanti anni e gli continuano a tirare addosso Cristi ma tirandogli addosso Cristi questi muoiono loro fanno qualche inciucio strano e si fottono la roba esatto però l'unico fatto è che per ammazzarlo gli serve quella lama quindi non possono ammazzarlo cioè è quella la cosa perché continuano a scagliarli qua senza la lama sacrilega cioè mi stai a dire che il cercavie sta inciuciato con Faesus o tutto sto cacchio di piano degli umani mi sembra strano vediamo lui sembra come se sta da pe scontato non per scontato però come se stessa di i maghi di Batal sanno che siamo in un loop sta tipo a di sta cosa dice guarda loro sanno che c'è sta qualcosa di sopra cazza pippo perché giustamente le faglie le vedono in giro il drago lo vedono il dogma esiste tutte quelle robe dove stanno cercando di sì creare una sorta della lama sacrilega per smuove la situazione l'ha ottenuta quando lo è ammazzato il drago perché la rifornio tramite il sangue dei draghi minori il sangue Lama sacrile che ha smussata Spada donatati da rosà Il sovrano folle La lama è smussata e opaca È formata da cristalli blu I frammenti dell'anima di una Risen Minchia di Gesù Non sono pezzi del pozzo eterno Lui mandava uno stronzo là sotto Quello moriva L'anima faceva E se faceva sto sorte di cristallo Che riemergeva Quindi noi prima abbiamo letteralmente raccolto 5 anime di Arisen Però appunto se è piccolo Era flebile Se lo trovi bello chonchi, bello greve Tra l'altro però adesso il tuono è vacante Minchia questo è proprio quel cazzo di trono E' bello che sta diventando Tutto rosso tipo Abyssus eh Perché giustamente siamo Tanto sotto al mare E non c'è più il Seneschel Magari Eh sì noi siamo tipo in molto simile Dark Souls Siamo in un cazzo di ciclo Che è stato tirato talmente Tanto a lungo Che quindi la roba Ha cominciato a corrompersi Il Seneschel E tutte quelle robe È smussata perché Sono passati un fottio di anni In cui nessuno L'ha riforgiata mai Cioè sono passati Così tanti Arisen Così tanti strunzi Che sono morti Che non sono riusciti A uccidere il drago Che nessuno ha mai Riforgiato la propria spada Perché tu la spada Sacrilega Tipo in Dragon's Dogma 1 La ottieni Quando uccidi Grigori Quando lui diventa polvere Tu cacci fuori La lama Sacrilega E non sai che cazzo faccio Perché quella Tecnicamente è la tua Questo è il braccio Questo è il braccio Di un Talos Qua non c'è Un Talos Qua ce ne sta Un esercito De Talos Questo è pericoloso Questa è la sala Del Duca Mi chiede Questa è messa Soltanto per i Fields Per darti un droppino Due droppini Ma per il resto È Fields È per farti dire Guarda Stai a capì Wink 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 Dove cazzo sei? E qua c'è la torre Del Botanon Qui è dove ci tirarono Più volte una cortellata Anche se è più piccolina È qualcosa di non so È quasi poetico Che ti mettono Un abito del genere Nella camera della principessa Sembra quasi Avere un secondo senso No? Ste cose così Mi sono messo a fare test Ho scoperto delle robe Fighissime Perché come funziona Il loro Se infettano Essenzialmente Se voi prendete Una pedina Che sta al quinto livello E fate Un long rest Che sia in un accampamento Loro letteralmente Si mischiano i livelli Cioè se voi avete Una pedina allo zero Una al tre Una al cinque Questi dormendo Se la girano Letteralmente Se la cambiano Tra di loro E quindi Che cacchio succede Potenzialmente? Potenzialmente Succede che se voi Per sbaglio Recrutate una pedina Del livello 5 Non è che viaggiandoci Insieme Combattendo E cazzi e mazzi No 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 Tu magari per sbaglio Hai reclutato una pedina A livello 5 E te metti a dormire Il giorno dopo Magari te se la prendi Quindi tu fai un long rest In taverna E esplode tutto Perché non è il Più ci viaggia Insieme E compagnia Loro letteralmente Si fanno tipo Una mucciata di robe Però non è tutto Perché loro dicono Che disubbediscono I comandi E diventano più potenti Il che è vero Però dipende Molto dalla personalità Per esempio Malbet Essendo molto Molto spontaneo Appunto Non è stronzo Fa come cazzo gli pare Ma non è stronzo E ha sì le statistiche Aumentate Non è tutto Perché possono usare Anche abilità Che non hanno equipaggiate Quando sono infette Possono E anzi Utilizzano abilità Che non hanno equipaggiate Ed è una figata Perché appunto Diventano delle macchine da guerra Con le statupate E che possono usare tutto E infatti Abbiamo fatto dei test Anche con quella personalità star La personalità schietta È quella che è più Difficile da notare Perché diventano Leggermente più stronzi Ma molte volte Le frasi sono praticamente uguali E poi ho scoperto Che si può curare Senza passarla Perché a forza di Dormire non in città Gli passa la malattia A forza di fare Long rest Mi pare che il massimo È tipo il livello 6 Dopo tot Che non infettano Nessuno Che non esplodono Gli è passa totalmente Credo sia semplicemente Un modo per Counterare il fatto Che diventano Dei tori Perché diventano Dei tori Cioè non sto scherzando Malbet Da solo si è fatto Due draghi Stiamo dando La fottuta Anima Del seneschel Che ha preso Forma fisica A uno stronzo Boh Che tra l'altro Ho ricevuto anche Dei commenti Durante la volta scorsa Perché ne ho parlato Molto velocemente Della lama sacrileca Ma Mi rispondo a quelle persone Lama sacrileca In realtà ha due forme Ragazzi C'è la prima forma In cui quando tu la cacci fuori Dal drago Che è un pugnale Quando diventi Seneschel Diventa una spada lunga Perché quando tu Sconfiggi il seneschel Lui ti fa Ok sei più bravo La caccia fuori E si fa ammazzare Non ne avessi ammazzati Circa 120 Per adesso stiamo In modalità ictus Nemo Perché il personaggio Tipo Ok l'hai aggiustata Boom Cazzotti in bocca Se la ruba Perché se no Non si spiega Io spero Che siamo pronti A tirargli una cinguina In fronte Perché Oh it is finished The result is even more sublime Than I'd hoped I must deliver it To Lord Faces At once Though may have Now I cannot leave this In your hands I may not be Fleet of foot But only I Can do this Wait I've changed my mind You take it Deliver the blade To Lord Faces You would reach him In time Go now Make haste For Moon Glint Tower There your journey Will come to an end One way Or another Scusate ma stiamo a finire Con questo Come a 2 Ma tanto però E qua io mi incazzo Ma deve essere Il trovavia O stronzo Fantasmino A venire Fai gli puffi puffi Di tra l'orecchio Ma io voglio dire Un cartonetta a rubi Ma Cristo madonna Deve venire No dammela a me Ma tiragli un pugno Sei la risen Porca troia Ginevra ma che domanda Del cazzo è Con tutto il rispetto Che ti voglio Piccolina Ma che domanda Di merda è Sentilo che te lo fanno Sentire lontananza Che bello Quel sound design Non si è dato Ancora Non si è dato Non si è dato Non si è dato Non si è dato Non si è da E come No che cazzo Diri Aspetta Aspetta bro No Sali piano AC2 E di chi T'ha creato Fa esus Cammina Nel mentre Sta nel chill Madonna Ma ammazzo Devo aspettare Che si ferma Un attimo Le No Madonna Ginevra ti amo Pezzo di merda Eh cazzo L'unica mia roba Con cui potevo Scendere Pezzo di merda È caduto Giampato Aldo Scusa Signore Sono finite Ma che tanto Lo fa a vedere Ma è fatto De cuori De drago Ma sapete Che mi sa Che è fatto De cuori Di drago Ma adoro Ah cioè Proprio si ferma Non è che si Crolla Peccato però Sta cosa Scusa Allora che cazzo serve È scriptato Per fermarsi qua Sì esatto Cioè da come Te lo presentavano Nei vari trailer Diciamo che Sì È semplicemente Epico Del Vedisto tizio Che te lo devi affrontare Però avrebbero potuto Fare un sacco di cose Sennò tipo che Spawnava tanti minion Che appunto Tu dovevi Quando gli rompevi Ste cose Lo debilitavi Forte Forte Cioè potevano Gestirselo Molto meglio Poteva essere Ancora più figa Come boss fight It would seem The stone puppet Has stopped Have the wound Had been tended to Yes milord I trust you are prepared Sovereign of Vermont Will it really be alright I'm not about to be charred Am I Fear not You are in no danger The dragon shall be under my control When it appears Come Let us press onward There should be a spare bed In the lodgings yonder Only don't go rushing off Before you're ready Take it from me You're better off resting While you have the chance Questo è il loro modo gentile Per dirti Bro C'è sta una boss fight Vai a salvare Esatto Ma che non si sa mai Che cazzo succede qua dietro Adoro Oddio Christ Adoro Andiamo Così faccio anche Rifornimento Your efforts Are for naught Arrisen Now Simply watch As this world's hollow And fruitless order Is remade By my hand The ritual is complete The dragon comes Behold The Royce dragon By my power The dogma of dragons Is unmade You could never understand Arrisen Si tu che non capisci Di incoglio nito Non è il drago Ti pare così piccolo Il drago Su magna Te prego We must all be freed From the vulgar order Wherein the dragon's existence Determines all And the dragon's existence To be The dragon's existence The dragon's existence Diagnose 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 Questa non è sufficiente? A Cursed Arisen You've doomed us all to the cycle A new Greetings Arisen Hast thou summoned the resolution To face me Then answer me this Why dost thou fight? Is it to reclaim thy flesh Thy stolen heart Or is it to reclaim thy throne? I offer thee a choice Grant unto me this life in my clothes And be gone from this place Or stand and fight Pitiable Arisen The time for thou to make thy choice Is come Show me the path thou wouldst walk Ma quanto cazzo è stata bella sta roba Lasciamo perdere che è venuto Bjorn Io a sto punto devo capire che cazzo è servito l'anello dell'affinità che ho dato Io devo capire che cazzo gli ho dato a fa' l'anello a quella Da wallpaper sta roba Sì è bellissima Però bellissimo Come proprio lui spawna molto alla Dragon's Dogma 1 Quando c'è sta Salvation Che dice Ah io posso controllare il drago e tutto quanto Allora lui proprio spawna E vedi zio Ma che cazzo vuoi? Te scioglie davanti l'altro drago E ti dice Guarda sta moglie e te di nuovo Bella sta cazzo di roba Intriguant This then is thy will Our party is done We must fulfill our charges I as the dragon And thou as the arisen Climb upon me We shall depart for our true battlefield Cazzo Pensavo si potesse utilizzare No no New Game Plus Questo è amore per il dogma Esattamente Il sapere che cazzo è qua a spada Thou art too late The hour is upon us We must decide a victor And in so doing Form a link in the chain That bindeth this wheel Tell me, arisen What is thy desire? Io mi sto eccitando Dio Cristo Il fatto è che ti deflagro il cuore Zio Cioè è quella la cosa È che ti Ti distruggo Questa è una magia unica Grigori potevano farlo un po' più greve Potevano farlo anche disonesto In ambito danni onestamente Alas I am slain But he this Arisen My will alone doth the world Form a ring An unending sun All is preordained Even my death at thine hands Yet perhaps Thy will is great enough To put an end To it To it You did it You did it You did it All is torrent Go Go Ho 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 Sì, 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 sì. 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 Quando ne parlava dava molto a intendere, bro, non fa ma botte, non è quello l'obiettivo. Sì, sì. Sì, 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 sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Potrei avere una mezza erezione, se non pienissima. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 E tra l'altro con la roba che ha detto il cercavie, con i tuoi occhi o con gli occhi di qualcun altro, quanto cazzo è poetico pensare che in Dragon's Dogma 1 Oga poi ha vissuto la sua vita e ha visto tra virgolettoni la caduta di Grand Soren. E ritorna qua come Oga negli occhi di un'altra Risen. A te duemila anni dopo. Porca puttana davvero. Piccola, grandissima città. E giustamente dove un tempo c'era la taverna c'è casa tua. No longer do I feel the probing gaze of the watching one. Is this your doing? Is this your doing, newest of the arisen? I am he who brought the dragon low, and o'er its bones raged the proud kingdom of Furman. Despite the magnitude of my feet, I was dissatisfied, and sought ere greater heights, till at last I ruled the world entire. Thus, did I come to know of the watching one, the being by whose many eyes and ears no one or thing in this world goes unobserved. As to the purpose with which they watch, I know not, yet I did divine one thing. This world has lain neath the watching one's unwavering gaze ere the dawn of its history. I despaired at this discovery, for if all is but a stage, did that not render my hard-won glories? My throne astride the world, mere spectacles for the all-seeing eye to watch. For I, t'was all a farce. And I, the fool, exulting in my wooden crown. Do you understand, newest of the arisen? This is why I sought to fell the watching one. Alas, though I cut down all who seemed false, be they man or woman, human or beast, young or old, I did not succeed. Indeed. 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 My efforts led only to my own ruin. I was dubbed the mad sovereign, and by the hand of a new arisen, consigned to displace forevermore. Yet, I can only assume that you have achieved what I could not. How else to explain the changes I sense in the world? Ah, what bitter gall that I cannot witness the outcome for myself. Falter not, newest of the arisen. For your path is just. And fading spirit though I am, I may yet summon those who can be of aid to you. I see you have returned, arisen one. The mad sovereign has called, and so we answer. If you would save the people of this world from ruin, lead them here. For this place may chance to escape the coming destruction. E' cattosto dialogo che mi ha fatto, lui mi ha fatto venire la fottuta pelle d'oca. Perché lui ha ammazzato donne, uomini e bambini vecchi. Quando la cosa che doveva fare per raggiungere il gradino superiore era ammazzasse lui. Quello che doveva trafiggere era se stesso, però troppo cacasotto. E tra l'altro bellissimo come tutto determinerà dove è iniziato Nimosi. Mi chiamo la pelle d'oca, raga. Quindi non devo morire? E se muoio? Io voglio sapere che succede se muoio. Siamo dove è andato il vecchio arisen. Questo è il vero mondo che ha visto l'arisen. E queste sono le armi del primo, del drago. Siamo diventati il vecchio pazzo. Questo è l'epilogo della storia. Inizia dal giorno 2 del mondo non scelto. Rinizia dal risveglio. Che live era? Che è tipo la settima. Lui è arrivato a tanto così. Lui paradossalmente potrebbe essere il noi del primo eh. Qual è l'altro arisen megoglioni? O lui e orotei potrebbero essere paradossalmente il noi del primo. Sempre perché mi ha detto... Che cosa stai dicendo? Queste sono le scalinate dello Moon Tower. Rispondo sempre a quelle tre gatte di merda. Sono proprio quelle scalinate? Quante pedine mi sono cadute giù come la merda? Rilassiamoci. Respiriamo. Facciamo un po' di fiesta. E' quella cazzo di scalinata con tutti i rumori degli scheletri. Quanto ti capisco. Perché tu non hai idea di alcuni commenti che ho ricevuto Rufus. Io spero che sia veramente un grifone perché vedo in realtà l'arena è fatta in verticale. E' un grifone. C'è più o meno. E' un boss unico. E attaccarti ti fa male. Perché sono fatti di abissus. bella lost. E' un boss. E' un boss. E' un boss. Della piazza. No ma c'è stai gatto che sta a litigà col vicino. Quell'altra che. No ma hai offeso l'onore. Mannatevene a fangule. Lasciateli qua sti stronzi. E' caduto Stitch. E' caduto Stitch. questo. Ah perché è un incensiere. E' come cazzo mi ricorda. E' l'incensiere. Una delle armi dell'incensiere. Quindi magari sono illusioni. Lui sta evocando illusioni. Che bello però esteticamente questo. Questo mi piace un botto esteticamente. Io più che altro ragazzi. Pensavo per un attimo. Di aver fatto esplodere. Bug Badal. E tipo ops è caduto. Poooo. E ho aperto il basso di Pandora. Ho imbancato quando ho visto scelte. Quei cazzi diелиaci. Mi e' preso un infarto. Oddio madonna. Quindi abbiamo evocato Bug Badal. Alecano. Sì, Alecano, Alecano L'unica parola elfica che mi è rimasta in fronte Alecano, com'è tenero Perché lui non sa che probabilmente si aprirà un portale A Gran Soren, no? Che se li deve trasportare in qualche altra realtà O che non cazzo ne so io Oh minchia, davvero nasce dentro la vecchia chiesa Adoro, cioè perché sarebbe bello Se voi ci pensate nel nuovo mondo No, perché se poi risale anche l'oceano Tutto un cazzo, però in un possibile nuovo mondo Gran Soren è dove ci stanno i feridi Gli umani, le elfi e compagnia, no? No raga, questo non significa un cazzo Non è che se tu impianti un albero per terra Quello magari tra due settimane muore E mo torniamo dall'elfo con una foto Guarda, ci stasso eramo in mezzo a una chiesa Ma parca puttana Giustamente tu dici, basta che loro stanno là Poi quando esplode il mondo, sti cazzi Tanto basta che stanno al sicuro E in realtà li stiamo fregando Oh, una roba diversa Un pisello, questo è un drago pisello No, tu sei un hitra Ma ci sto a pensare adesso Ma quanto figo in realtà Se fossero draghi differenti In base all'universo Perché ogni universo c'ha le sue regole, no? In un universo era una viverna Quindi una sorta di serpente che striscia In un altro era un vaso che ti fregava Adoro! Beh, ma Yahweh comunque li devastano Sti cazzo di boss Che bello Che per andare avanti Devi spaccargli sta roba Sì, con l'archer mago Con soprattutto i mille proiettili Lo apri questo star Ma sicuro Ma pure con l'arco che c'ha l'auto aim E fai delle porcate Questi saranno i mini boss del DLC come minimo Sì, con l'arco che c'ha l'auto 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 Hai attivato il colosso Allora, però sta cosa mi fa fa tante domande Perché lui palesemente Era per tipo sorta infezione, no? Ma vuol dire che lui dentro ai Talos Ci stanno pedine Se aveva anche l'altro braccio Vedivi che roba Vabbè perché giustamente Io lo puoi mantenere Ma adoro Ma che figata Ma che figata Grazie a tutti. Grazie a tutti. In realtà è letteralmente il secondo giorno, però ho dettagli. È fatto apposta per pensare di draghi. A questo punto però mi viene da pensare che magari il Talos si era avviato perché pensava che da quel portale che stava a fare il signorino stesse buscì un drago. Corrotto, qualcosa, stava andando all'asdrumarlo per forza. C'è la fottuta apocalisse, letteralmente la fottuta apocalisse. Quello dei carri fa, vabbè però che non mi pagate. Tu non gli fracassi i denti sul marciapiede, proprio citazione pura. E dici bene, me li piglio comunque. Madò, questo mi fa venire ancora di più i lacrimoni. Guardali che belli tutti qua. Figata come cosa. Oh, madonna. Questa comunque è altra roba che fa male, eh. Guarda che questo l'hanno messo qua apposta, figli di puttana. Michia, da una parte vorrei che rimanesse così. Che bello vedere lì tutti insieme. Oh, eccola che Ulrica. C'è stanno tutti, furché Wilhelmina. Wilhelmina veramente è maggiore del seneschel. Sì, ho capito. In un'altra realtà, Paco. Era scappato a me. Sai che twist, Paco? In realtà è diventato a polvere. Però vedi, questa è veramente la cosa del loro se vogliono possono ottimizzare. Perché, raga, non sto allagà. Non sta allagà, Dio Cristo. Ce stanno tutti. Il fatto è che non c'hanno tutte quelle rotture dei coglioni. È quella la cazzata. Hi there. Ah! Ma te, te. Fanculo a tua madre. Quella stronza senza testa. Dio Cristo, che infarto. Madonna, triplo perry. No, no, Malbert, tranquillo. Mi sta solo a... Sono al culo come un rumba, però sto bene. Che è? Oddio, un altro. Sì, sì, perrya, perrya. Durala mi diverte un botto affrontarlo. No, ce n'è un altro, no. No, guarda, scherzavo, non mi stai sul cazzo. No! Non ti avvicinare. Guarda che urlo stupro. Ma c'è la chimera. Sentito una pecora. Pure gli scher... Tutto ci sta assai in mezzo. Tutto. E sta succedendo. Questo è quello che prova un guerriero di D&D ai livelli 20. È uguale. Che cazzo sta accastare a quell'altro? Bomba nucleare. Ah no, sta accastare a sisma. È una questione di principio contro lui, più che altro pagano. Glielo voglio dare. Piuttosto a un goblin. Piuttosto a un fottuto goblin di merda. Bambini a casa, non fatela questa cosa. Invece come questa martellata... Si accartocciano, Dio Cristo. No, c'è un Yulalla, scappate! No, no, no. Malbert! Oh, ma che cazzo. Ma Bonnie. Ma che è diventata l'unità standard di sto cazzo di posto? Ma vada via anche io. Oh, cazzo. Ma raga, ma sono fottutamente ovunque. Là sopra ce n'è un altro. Sento puzza di stordimento. Solo. È il falcetto che mi entra nel culo, no? Non c'è un fight. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Tom! Tom! Time has seen world's uncountable created, only to be snuffed out like candles by the cold breath of oblivion. It's sought to overturn oblivion by granting unto it a role, a duty, an identity. I speak of the dragon. By the great will does the dragon create a cycle, allowing it to forestall the end of this world time and time again. Yes, Arisen, this world has been safeguarded by the dragon. You yourself were chosen to form a part of this cycle. The Arisen is selected by the great will to play the role of the dragon's counterpart. That is how this world is built. That is how this world is built. The dragon says to continue the cycle, and the Arisen exists to oppose it. This is the true meaning of the dragon's dogma. Once, everyone in this world had a role to play. For a well-crafted tale has no excess. There must be a reason for each character's inclusion. Yet, this means that should even one of these characters stray from their assigned role, the tale entire will unravel. And if it does, their world will end. Such is the choice you have made, Arisen. By rejecting your own duty in this world, you have robbed all others of the chance to fulfill the roles they were assigned. The pawns are no exception. All of the nothingness of Olivia, they were granted the role of aiding in the perpetuation of the cycle. Yet, bereft of the dragon, that role has been unwritten. Only nothingness awaits them now. And there is surely no fate more pitiful than to be possessed by the hollowness. Core 2 store spaceübers. SCP-389-0312-4處4-Oddif4-PS4-DS1. Traffic À charitableigger. SCP-409-005-Zx. company has chosen a follow-uprer with Castle H Leo Sour-Nino. Four platformers will not Cage & Taylor Stamars. Then when there is another 24 hours a day with Scripture, the enemies and a variant Sarai will notочистate the whole plane of a seen を entire acredain with as ever since they included. I agree with Pokemon荼ion. The Oh, Master, such joy I feel. You have given me a gift beyond measure. Fledgling will, but burns within my breast, yet, for your sake, I would fain relinquish all I have, all that I am. Master! 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 Un'esplienza Oblivion Fades This tale's end Has been Unwritten My heart It aches A new world A new tale is set to unfold, yet it seems I will not be there to watch it. A new tale is set to unfold, yet it seems I will not be there to watch it. A new tale is set to unfold, yet it seems I will not be there to watch it. A new tale is set to unfold, yet it seems I will not be there to watch it. A new tale is set to unfold, yet it seems I will not be there to watch it. Take their place, raise the curtain, and let the drama unfold. All told, we'll be glad that we got to play. Open my eyes, take a step on the road that will lead me into the dark. I don't know where it will take me to, but I know I'm alive and I will make my way. Made my choice, I finally see that I am finally free. See me, hear me, take my hand. I will follow you, if you will follow me, I'm not alone here. I will follow you, if you will not be there to watch it. I will follow you, if you will follow me. moment of the game of the first one, where you give the human, no no, here they do just, oh bro, you in all of this last parts of you have made the wheel with the red shirt that's free. Perché giustamente se io mi sono trafitto il cuore con la lama sacrilega Nel primo quando tu facevi questa cosa davi la tua anima Quindi magari siamo sopravvissuti per qualche inciucio particolare Ok, per il vero mondo Ma noi gli abbiamo dato la nostra anima Per quello ci sentiva anche Vai prendi sta barchetta del merda e vai che non ti ammazzano Gli abissus Eh DLC eh No dai 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 Questo te sta simbole già secondo me tanto Oh ok che sei libero e puoi andare Ok ma anche tanto degli DLC È bello che ho usato più cuori sugli altri che su me stesso 165 ore Niente è che tecnicamente abbiamo spezzato il mondo dal ciclo Quindi non ci sta più il brine tra virgoletoni l'abisso appunto Però quello di cui chiacchierà anche il signorino alla fine Stiamo creando un nuovo mondo Sta a significare che questo sequel brutale Cioè grazie al cazzo da una parte Però ha confermato il fatto che nel primo abbiamo spezzato il ciclo E quello spezzare il ciclo ha creato tutto un altro bordello che poi ci ha portato qui A parte qualche roba di flavor e quella di poterti far lanciare dalla pedina Sono la serie di mod New Game Plus Sono tipo 5 mod che è vocazioni bilanciate Armi bilanciate Vera difficoltà mi pare che si chiama bilanciamento degli oggetti Poi una che cambia la stragrande maggioranza degli incontri Insomma è qualcosa per rendere il New Game Plus Una cosa che è veramente il New Game Plus Ma andiamo ma andiamo Vi ricordate la prima volta qui dentro con Oga Quanto era fottutamente piccola sta cella Mentre con la signorina qua un cazzo Sembra veramente una villa Questa è la nostra cara Hilda Che tra l'altro è un nome non a caso Di origine celtica Ho creato questa bellissima gattina Quanto sono cibi Dio Cristo Sono veramente un soldo di casio Questi li torreggiavamo con Oga all'inizio Io sta cosa la dirò molte volte Ma sta roccia va Ricordate quanto cazzo era piccola con Oga Questa è una cosa di Dragon's Dogma Ma che anche nel primo L'altezza ti cambiava totalmente la percezione del gioco Madonna Quanto cazzo enorme Petti eh Mu' arrivo Bello come non ci avevo fatto caso la prima volta Dragon's Dogma Certo non vorrei che il DLC fosse il vero Dragon's Dogma 2 Esatto Star perché è tutto finito Ma in realtà io ne ho chiacchierato pure Un po' su TikTok di questa roba Dove molti hanno visto il drago Però il fatto è che il drago letteralmente in Dragon's Dogma 2 è una gimmick Ma non a livello dei boss fight Proprio di storia Cioè il vero drago Il vero Grigori È quello che tu affronti nel true ending Cioè il drago che è stato vivo per chissà quanti cicli Ad assorbì 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 cuore È diventato enorme Cioè paradossalmente è quello Quello che affrontiamo noi È proprio finto È illusione Questo è tutto in stasi È tutto fermo È... Credo che sia letteralmente un pezzetto di storia che il cercavia mette in loop Per questo dico che non vorrei che il DLC fosse Dragon's Dogma 2 Perché mi potrei incazzare tanto Ma... Non so se state capendo Questa cazzo di merda quanto è grossa rispetto a me Cioè raga A Oga gli arrivava neanche al ginocchio sta cazzo di cassa Ma che cosa vuol dire? È più alta di me fra un po' Comunque chiacchiereremo anche delle cazzini Perché chi è stato sul Telegram l'ha visto Ma tutta la cazzina iniziale Veramente da per scontato che chi sta guardando vede il cercavia Cioè ci stanno delle inquadrature nella cazzina iniziale Dove c'è Brent tagliato a metà E tu che guardi al centro dell'inquadratura Una sedia vuota È qualcosa di... Cioè l'host del primo Ci ho fatto caso adesso Adoro Ok cambia quindi anche sta cosa Eppure il rumore dei drop del primo Che bella sta roba Paradossalmente lei forse è una delle poche vere pedine Perché continuo a crederla che le pedine degli Arisen Che pure noi evochiamo non so pedine normali So pedine molto particolari Te prego dimmi che non devo stare un'ora a fare i cazzo di cose Ti supplico Madonna si l'avevo preparata Questa è la nostra cara Hawk Come abbiamo avuto Malbet In New Game Plus abbiamo Hawk Che tanto io ho fatto questo dettaglio che ha una bruciatura sull'occhio Perché magari stanno nell'oblio E quelle robe lì Mi è piaciuta un botto Come cazzo è venuta Hawk D'altro lei sarà A sto giro avremo due classi milì Ha un guerriero schietto Quindi ho paura Ma per questo dico Elda che forse quella con cui parliamo è l'unica vera pedina che noi vediamo in Dragon's Dogma 2 Perché anche come si pone e compagnia è molto proprio pedina di Dragon's Dogma Mentre quelle che evochiamo noi gli altri Arisen hanno una personalità Infatti sono curioso di vedere perché il fatto è che proprio la mod specificava heal Ti serve un party full da 60 e più livelli Quindi vediamo Soprattutto quando mi dici abbiamo cambiato 600 e passa scontri all'interno del gioco Sono curioso Quanti goblin extra sono Oh! 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 Aiuto! Qualcuno mi dia una mano? Ok sono cambiati i fight Madonna stai fermo cane di merda Figliati sto squartamento È la mod Elda Quando dico che ha cambiato più di 600 fight nel gioco Non sto scherzando L'ha cambiati Raga sento qualcosa che ringhia fortissimo Oh cazzo è un minotauro Che tra l'altro mentre caricano se voi vi mettete sulla schiena si accappottano Ciao Ruka come stai? Minchia raga vatta l'altro Scusa ma che statistiche c'ha Ruka? Io non so se avete capito che la deflagrata Quella è un'armatura di merda Però dentro si è presa tipo boh Delle tronfate Ci dobbiamo abituare ai fight Ma guardala come mi segue Adoro come mi sta seguendo Ma è da questo che cazzo di follow up? Forse è un doppio ciclope Sì è un doppio ciclope Ah non so due ciclopi So tre Però si fanno fuoco amico tra di loro Guarda quanto cazzo sono piccolo Che bella sta cosa l'adoro Negli occhi merda Minchia io e Ruka stiamo veramente messi con le pezze Con le armature eh Perché fanno veramente male Ma una trambata mi ha quasi shottato Qua bisogna giocare un attimo seri Oh Oh Ma l'ho schivata all'ultimo Vaffanculo Ok Quello l'hanno diviso da questa Tronno Facciamogli molla sta arma Vediamo se Se può fare con tanti danni Con squartamento magari Squartamento gliela fa mollare Guarda sta musica È stato Dio madonna È stato un trauma Sto cazzo di fu Bellissimo Raga potrebbe intrigarmi eh Ecco questa è una quest Che voglio capire che succede Se faccio un'altra scelta Io prenderò quel basetto E lo lancio direttamente nel fiume So per ammazzare un rica Minchia Raga mi vuole meno No mi Ti faccio fuori eh Non ti avvicinare È il pelo Mi fa scivolare le cose lisce Non ce la faccio Madonna perché c'ho il vago presentimento Che tante di queste quest Non cambierà un cazzo De come finiranno Minchia Me lo sento che sale su prima una gamba Perché Lennart ha letteralmente fatto Vabbè Sti cazzi Mi ha fregato niente Luca mi dai un attimo Un appoggio E la puttana Ok Che bella sta cosa comunque Vedete Se mettete che posso richiedere La lapidina Che cazzo puoi fare Mentre quell'altra combatte Con l'altro stronzo Dio Cristo Mi sta seguendo Ah si si Vieni vieni Che mo ti porto io Da una parte molto bella Vieni vieni Andiamo a fare sia la chimera Che il dannato Allora adesso ci sono 3 dannati 6 chimere E circa 200 goblin Madonna Vedete pure quella cosa Sempre che vi dicevo Dell'altezza Con oga Questa sembra Tipo Non dico piccola Però normale Cioè che cazzo De roba Che fottuto a mostruosità È in ambito altezza Guardiamo prima qua Vediamo De che morte morì Perché tanto qua dentro Se gira male C'è un leech Un leech Un dannato In esercito De scheletri Nel chill Più assoluto No Luca fammi saltare Un attimo Madonna Lui ha fatto un cazzo Però è stato bello E io che cosa Dovrei fare Contro quel coso Salve Io passo solo Non si preoccupi Si preoccupi O buono Andai in acqua Che so cazzi miei Poi eh Signorino della mod Mettere qua sto coso Sei proprio stronzo Qua tu ci passi con Gregor Gregor è morto Gregor se l'è fatta Furtiva Ha fatto 20 in atta Perché se non si sa Devo dire Questo dungeon master È un po' stronzo Questo è il modo Del mod Per dire Ti stai a capire La mod Come work era stronzo Ho capito Ma del figo di chill In sta cazzo di mod È dietro ogni angolo Oddio madonna C'è stata la morte Ma che è Guarda che la prossima volta Vengo con la roba Dragoforgiata Addio cristo eh Ah neanche so due So tre O so quei due Che stavano sulla collina Bello come ogni volta Che hanno messo dei ciclobi Hanno fatto sempre tipo Lo hobbit L'hanno messi tre Perché Si sa mai no Questo guanto È veramente Che serve Per non fargli Togliere l'arma Hilda l'ha accecato Ma quel guanto È per non farsi Togliere l'arma Perché tanto lui ha detto Un party da 60 livelli 60 e più eh Cioè è questa la cosa Che a me sorprende È che noi siamo Al 90 Eccolo Ha messo due griffoni Ha messo sia La mamma Che il papà Bella madonna Poi dici Perché qua torno la gava C'è stanno 70 banditi E so pure duri Ma ho capito Ma zio Ma tu te sei dato Una regolata comunque Questa non è challenge Questa è la modalità De veramente De Devil May Cry 4 Allora qua sotto Solitamente spona O un minotauro O un ogre O un golem Stavolta tutti e tre Sarebbe il colmo Di chiaro Ma comunque Per essere un distruttore Se prende Fin troppe pizze Questa è la modalità E che cazzo Ah scusa Hilda M'ero dimenticato Eh aspetta Che c'è un attimo Una situa qua eh Un momento Mi è entrato un toro in culo Ma quanto cazzo Sei grosso Eh Non toccare Ruka Merda Scusate So stronzo Si teletrasporta Si teletrasporta Perché giustamente Campano Dieci secondi E come fai a vedere Che c'hanno delle mosse Anche questo è vero Guardalo Getsuga Porco d***o Aspetta Mi è sventrato a metà Una città Yamamoto Era diventato per un attimo Ah sì Ma che bello Madonna Saltissima Gnaaa Perché giustamente Questa comunque Penso che sia la parte Che più adoro della mod Ha bilanciato I tipi di danni Cioè tipo Gli scheletri Sono molto resistenti Al tagliente Ma molto deboli A contundente A sacro Ruka Vai Finish him Madonna Posso farglieli veramente Fammi salire Neh Minchia Ho tirato giù Kratos Te la tengo ferma Ruka Immagino lei Sopra il cane Porca puttana Ecco vedi Qua questi Ci avrebbero già avuto più senso Perché sono mostri Impegnativi Ma un pelino Più piccoli Cioè che tu qua Ci potevi mettere Effettivamente Questi c'è stavano Oh dai Maddo Lo tiro giù Ce la faccio Su piccolina Ma so forte Di madonna Sbattuto al muro Scusate Scusate Il ladro C'ha Un crit Unico Se lo fa in volo Ma l'avete visto Che cazzo di posa La naruto ha fatto O no Ha infilato I cosi Ha fatto un backflip Ma perché ho visto Anche tante pedine Delle persone Ma fare i salti Tipo alla cammi Cioè fare i sti Backflip Enormi Non ho capito Se è qualche meccanica strana Questa è roba nuova Che vuol dire Migliora classe Migliorabilità Ricevi benedizione Pono Dono L'esperienza Guadagno una maggiore quantità Di esperienza Per un giorno intero Talento di classe Guadagno un maggiore numero Di punti di classe Va bene C'è bisogno La vicenda del gruppo Della resistenza Aumenta per un giorno intero Questo è buono Allone di fascino Affindate a te E le altre persone Aumenterà più facilmente Per un giorno intero Non credo Verranno mai utilizzate da nessuno Se non per estremizzare le cose Annulla potenziamento Allora questa in realtà È una cosa buona Che non capisco però Perché non mettere fin Dal game normale Perché in New Game Plus Solo mi dai la possibilità Di annullare i potenziamenti Che cazzo vuol dire Questa è la solita cosa giapponese Che tu non vuoi Che la gente C'ha un po' la vita facile Basta Migliorabilità Di mezzo alla resistenza Che viene consumata Migliora classe Io sono un ladro Vuoi migliorare i parametri Di base di questa classe Cioè letteralmente Dragoforgio La cazzo di classe Però credo che mi abbia aumentato Le stat base Mi sa che a forza Non era qua 360 Forza era 360 Certo per le skill Potevano fare Che a me non ne potevi potenziare Due Dio madonna Perché se no Torni sempre in quell'ambiente Del Poi potenzi solo l'ulti Perché consuma L'ira di Cristo Magari no Che cos'è? Meno male che ci sta un valore Qua a fianco Oh caputana No guarda Non lo voglio più Quel valore Ecco perché laggava Perché c'era un altro drago A mezzo me Ma meno male Che non sono andato Del là E quello? Stava laggando C'è una cazzo di gorkimera C'è un grifone Un cazzo di draco Dio madonna Ma che cazzo ha fatto questo? Ma che cazzo vuol dire? Ma poi quanto è grosso Quel grifonimo Ma qua arrivederci Fucotto 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 Zio io ti ho fatto Tanti 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 complimenti Questi non sono Un bei cambiamenti Comunque Questo è Rendere gli incontri Bop E l'apocalisse Sì Quasi è proprio divertito Sì sì ma ha detto Non un bandito Mettiamone 60 Di cui 30 Con l'arco Che hanno un potere D'essordimento Di Cristo Allora facciamo sto test Che avevo scoperto La volta scorsa Vediamo se funziona Squartamento Io non solo Mi sono Buggato Dentro Al becco Madonna eh E sono tornato Pure a casa Perfetto Questa si chiama Skill a casa mia E io in realtà Perché volevo testare Che squartamento Ti faceva come Spaccaelmo Ho scoperto La volta scorsa Cioè non mi sono preso D'anni da caduta A cazzo Ah ve lo dico Chissà da telefono Raga In questa live State vedendo Un film Giapponese Senza sottotitoli C'è san cazzo Da fare Cioè magari Poi nell'atto pratico Sono dei cani A recitare Però è proprio Bello il giappone Cioè tu puoi dire anche Ho fatto Cagotto A fischio Cioè è bello C'è san cazzo Da fare Tu puoi dire Qualsiasi fregnaccia Di merda In giapponese Ma perché I due distruttori Stanno scalando Me l'ho spiegato Ruka per esempio Sta prendendo solo Martellate sui dendi Ma povera stella Raga Principalmente 80 livelli Da mago Continuo a dirlo Per quanto li converte Poco c'è da fare Tu sei morto Mi dispiace Che un po' Non ci sia Come nel primo Una mod che ti permette Di fare un true Respect Perché il fatto è che È veramente ruka È perché si è fatta 90 livelli E passa da stregone Slash mago Ma lei dove va Con quel sasso Al volo Boni Che bella St'animazione Vabbè che tanto La minina ci vorrà Un attimo a farla Vi sta la mod Secondo me Dentro ci troviamo Boh 300 goblin Ma senti che goblin Parla in giapponese Eh vabbè Goblin slayer Al contrario Qui è stato Il goblin Ha parlato in giapponese Ha detto No per favore Mollami Che bellino Oddio no Questa è la scelta morale Weather se lo ricorderà No aspetta Te lo do pure A te cazzottino Scusa Eh guardala Quanto è con te La madonna Madonna che bello Tutti e due Cucciolone Il mio sogno È avere una ragazza Più alta di me Così da che Dove prendere lo sgabellino Per fargli Fatta fatta Oh C'è il grifone Petty Petty Non parta ancora Oh cazzo Parta invece No no Non l'ho vinto Che erano due No Carri Ma fa culo Ma ho capito Ma andatevene a cagare Oddio madonna Ma dai che si mettono sopra Per fargli cadere Adoro Eh mi son distratto Mi ha investito Trackkun Ma dove cazzo Mi sono infilato Oddio È un torrente Di fantasmi Ragazzi non so Se avete capito Che ho guardato in alto E c'erano Forse tre orchi Buggati nel soffitto Che mi hanno assalito Mi hanno fatto prendere Un horror Ma perché sempre tre Ho capito che è il numero perfetto Nessuno vuole andare Ci stiamo cagando tutti in mano Cioè capisco perché Sono troppo tappo Non ci arrivo Si metta più in basso Eh no invece scappa Madonna Mi sono attaccato dalla schiena Come un gatto sui coglioni Davvero Fortissimo Ma che dolore Sono morto Sono vivo Madonna Guardala che cazzo di mammi Anche se adesso Suonerò un po' Blasfemo Ma preferisco Troppo di più La voce inglese Perché Tu pensi che Cioè quella voce di giro Fai porca troia Però non so perché Sempre su quel Come abbiamo fatto per Baionetta La voce inglese C'ha più Giustamente La voce da mammi No che Diciamo così Suona maschile Troppo E vabbè Ma alla fine Credo che la sfinge Sia appunto Non abbia genere Perché il fatto è che La voce di Orochimaru C'è là Quella cosa Che bazzica Un po' De qua Un po' De là Nelle frequenze No Oh ma adoro Bonnie c'ha una medaglia Con il simbolo Della faia Là sopra Ragazzi Non guardate Quella mezza Quella mezza Quella grande Poccia No il resto è roba A caso A vederlo così Non so Arci magie E compagnia Però ammetto Che mi ha fatto eccitare Questa cosa Perché mette le ali Davanti Per poi cambia espressione Ho capito Ma che giro di merda Stiamo facendo Mamma Mi avevi detto Che mi portavi al McDonald's E dove cazzo Stiamo andando Dal parrucchiere In realtà Guarda Adesso mi spelano Cioè passi qua dentro No Più veloce Che tu fottutamente vogli E passi qua dentro Ma sei stronza Brutta bastarda Ma che cazzo vuol dire Vuoi proprio che qualcuno Ti abbatte Ma dillo Che giro di merda Mamma Che stiamo facendo Ma tanto pure le statue Ci hanno le pocce Ci ho fatto caso adesso Poi sta cazzo Fu ristorto Qui dio madonna Ma là Come il lambrusco Vieni qui E ce l'abbiamo E ho stato bravo Me lo fai un pat pat Michi perché non hanno messo In animazione Con quello zampone Sulla testa della camera Comunque Guarda le pocce You spin my head E poi con le pocce Con la fisica Ma sto colpendo La parte giusta Raga non gli sto a far danno E non ho capito Quel danno Che cazzo gliel'ha fatto Guarda Se non avessi già Il mod E l'abbonamento Ti avrei fatto anche Ma io allora Che fino adesso Ma che cosa cazzo Stavo attaccando Io non facevo danno Io facevo le carezze Le persone Queste sono le Sì le due ore di sonno Ma è una padellata Dei cazzi Tuoi Benjamin No 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 Ma perché Benjam No 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 È partita la rissa L'abbedine veramente È il cane da guardia Appena mi hanno un bruttito L'ha fatto vola via Ma a me pare il momento Di metti per fare sta cosa In mezzo alla piazza Vieni qua Madonna Poi c'ho le zampe corte Ma ti prendo eh Non credo Sono troppo corte Cori 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 Madonna Oddio Io sono saltato attosso Come un gatto Eh no Bonnie Ci serve vivo Ci serve vivo Aspetta Zio tu non hai idea Ti sei salvato Al pelo Tu avevi due distruttori Un mago sul culo Di livello 100 Erano cazzi tuoi Ecco lei C'ha la voce da Arara mammi Spero non ti faccia schifo Un po' di pelo Guardami tutto Mistress Scusa no Ah peccato Peccato non c'è Oga Vabbè che ripeto Tecnicamente Testorian Ci avrebbe avuto senso Perché tu non diventi Seneschel Però vedi L'onniveggente Non è il cercavie C'è il fatto che Sulla statua del cercavie C'è l'occhio Perché l'onniveggente Guarda attraverso il cercavie Ma non è il cercavie Vedi qua tu gli parli E questa è la cosa Che a me mi incazza E che noi qua Tecnicamente Gli diciamo cose E noi non le sappiamo C'è il protagonista Sa Che cazzo di Sa perché sta qua Ma non ti comunica un cazzo C'è non vorrei Che l'onniveggente Fosse un seneschel Dei seneschel C'è quello che gestisce Il multiverso Ma sicuro che lo metteranno Nel dlc Comunque sta roba Io spero Perché se mi vanno Ad aprire altre parentesi Mi incazzo poi C'è non lo vedo Così improbabile Il letteralmente L'onniveggente È il seneschel Dei seneschel Cioè vedi Quella roba lì È l'incipit Di quello che sta Nel true ending Il talus E sta andando lì Perché sente Che sta per uscire La merda Perché lui c'ha paura Che la mia volontà Interferisce con quella sua Guardala come si è illuminate Più per Grigori Madonna comunque Lui è proprio bello E sembra tra l'altro Avere una corona C'ha degli spuntoni qua Cioè lui In questo coso qua Ti sta parlando Di quello che succede Tra due mesi In tutto questo momento Ti sta dicendo Vatta a fare il true ending Questo è un fight A cazzo Perché in realtà Quello che devo uscire da qua L'abbiamo fatto Chissà quanti Rewind fa Come se lui paradossalmente Sa che non siamo Il suo Arisen Allora vediamo Di che pasta sei fatto Con sta mod Bello Cioè se vuoi continuare A proteggere sto mondo Nonostante sai Che tutto questo è fake Che cazzo Ti devo star di no Però dai È più duro almeno E fa più male Già sta durando di più Cioè è questa la cosa Che a me sta Un attimo Intrigando C'era una balista Qua da qualche parte È quella Madonna ce l'abbiamo fatta Boni Boni Guarda Weather Che me la sta abbassando Brava Oh So di merda Sì Aspetta Gregory Che ci metto Da 6 e 7 giorni Lavoro Come cazzo Scendo io da qua Weather Dammi un attimo Mo ti resso Perché abbiamo uno stronzo Che ci sta tirando I cristi in testa Ok Questa la volta scorsa Non l'aveva fatta Mi chiamati La prima volta Però volevo affrontarlo così Cioè la prima volta Doveva essere così Il fight Cazzarola Cioè doveva essere duro Tu vuoi andare a fare qualcosa Vai Non so se avete sentito Che strella ha fatto Ruka Anche mentre muore Ti dice Oh bro Non è questa Cosa importante Ecco Come avevo detto Il finale Si ricollega direttamente All'inizio Uno a uno La cosa che ti fa svenire All'inizio Non è quello che tu bevi Nel calice È il cercavie Ma non so Elda Se quello è tanto il drago Quanto lui Perché vedi Questo alone rosso Così Il mal di testa È lui Non dico che Siamo noi All'inizio del gioco Ma in questo momento La persona In cui tu sei In prima persona Qua cade per terra Questa è semplicemente Tu che ti ricordi Le parole del drago Ok Però in questo momento All'inizio L'altra persona Cade per terra Come uno stronzo Ah devi aspettare Che finiscono i titoli di coda Hilda ha detto guarda Ne ho vista tanta Di merda Ti ho sistemato La maggior parte Dei mostri Di casini Lascio La torcia Quello dopo Mi chiamo Ti danno tempo Però per scegliere Pace Ti è diventato Il suo mano di verne Ma è bello Come questo finale Comunque ti fa Questa cosa così Comunque ho adorato Questa cosa A differenza Della prima volta Che tu avvi Il gioco La prima volta Ci stanno i due occhi rossi Ai lati Che ti guardano Poi Puppa il drago Con il cuore C'è una luce sola Al centro Tra l'altro Non hai questa schermata Torni indietro Ma infatti Questa è la cosa Che a me mi fa Anche un attimo Rodere il fegato Tutta quella parte Di giocatori Che non hanno beccato Il true ending Cioè io capisco Io che cazzo Ne so che devo Accoltellare il drago Cioè quella Fosso pure capirla Però tu quando vedi Una roba del genere Il naso Non ti pizzica E c'hai tutto il drago Che te fa quel discorso C'hai sto finale Proprio Bravo Bella Hai fatto no Torna al menu Vai in New Game Plus Non ti viene C'è ancora gente Che dice di aver finito il gioco Ma hanno la schermata a base È quello Cioè io capisco Durante il fight Non ti metti a leggere Però quel pezzo Con il drago È messo proprio Per farti sentire L'odore di bruciato Cioè io capisco Che dici ok Dragon's Dogma Non ti espone Molte cose Però per quanto riguarda Questo Grigory Penso che sia L'NPC Tra virgolettoni Che più Testa di Bro Bro C'è problema C'è grande problema Non fare casata Cioè te lo dici In tutti i modi Se a me il cercavie Mi fa ripoppare qua Un motivo C'è Cioè nel senso Non è che mi fa riaffrontare Grigory Per far male XP C'è Un motivo Abbiamo finito Dragon's Dog Ma per adesso Un motivo